Ora è più importante far conoscere a tutti non soltanto la figura di mio padre, ma soprattutto il messaggio che il suo lavoro e la sua vita possono trasmettere alle nuove e passate generazioni. L'accesso alla salute per tutti, senza distinzioni, la serenità, la lotta contro le ingiustizie e le disuguaglianze. Temi che devono accompagnarci in questa nuova fase in cui tutti devono poter dare il proprio contributo senza lasciare indietro nessuno. Auguro a lei e a tutti i presenti buon lavoro, cordialmente, Tommaso Urbani, presidente. Questa era la lettera che ci è giunta, non potendo essere presente personalmente il presidente Carlo Urbani. Detto questo, la seconda comunicazione che mi riguarda personalmente è la comunicazione a voi della presenza del nuovo segretario generale in aula, il dottor Antonio Russi, che è stato nominato ieri nell'ambito della seduta dell'ufficio di presidenza. Auguro a lui, da parte dell'Assemblea legislativa, di tutti voi e mio personale, buon lavoro e stretta collaborazione, in modo imparziale, efficiente ed efficace. Ringrazio la dottoressa Maria Rosa Zampa che in questi 83 giorni iniziali del nostro mandato ci ha dato tutta la sua più ampia disponibilità e alta professionalità per il lavoro svolto. Grazie, passo adesso alla messa in votazione per l'inserimento nell'ordine del giorno della proposta di legge, la numero 14, disposizione urgente in teme di economia ittica e sostegno alle imprese. Il relatore di maggioranza è il consigliere Bilò, il relatore di minoranza è il consigliere Mastro Vincenzo. Questa proposta ha avuto il parere favorevole della maggioranza dei componenti in la conferenza dei capigruppo in data di ieri, conferenza che è stata fatta da remoto. Quindi metto a votazione l'inserimento di questa proposta di legge chiedendo che sia inserita subito dopo il punto numero 1, proposta di legge numero 10, con il punto 1 bis. quindi la votazione riguarda l'inserimento come punto 1 bis dalla proposta di legge numero 14 che ho detto come oggetto appena adesso. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Favorevoli 28. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. L'inserimento al punto 1 bis della proposta di legge numero 14 si istruzioni urgenti in temi di economia ittica e sostegno alle imprese è approvato. non ci sono comunicazioni da parte ecco io non lo vedevo. Infatti il capogruppo del PD Maurizio Maggialardi. Prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti colleghi. Saluto intanto il dottor Russi. Auguro buon lavoro. mi associo ai ringraziamenti per la dottoressa Zampa per il lavoro che ha fatto in questi mesi per la disponibilità, la competenza, le capacità che ha messo a disposizione di tutti noi. Presidente, io le chiedo in forza del comma 4 dell'articolo 48 di iscrivere e sottoporre a questa assise la possibilità di iscrivere la mozione numero 28 concernente la vaccinazione di persone fragili e gestore di servizi diurni per via del carattere di necessità e di urgenza. So che ieri in conferenza dei presidenti si è stato un parere negativo e non sto qui ad argomentare gli elementi che hanno portato alla impossibilità cosa anche abbastanza anomala visto che c'era la possibilità di agganciarla anche a un'interrogazione chiedo di sottoporre il voto all'aula come previsto dall'articolo 48 noi riteniamo che non ci siano percorsi strumentali come magari è stato sottolineato ieri ma questo è un provvedimento che per noi è indispensabile perché va a mettere le condizioni di anticipare le vaccinazioni nei soggetti fragili soprattutto nei centri diurni quindi riteniamo che la mozione a firma del sottoscritto di Mastro Vincenzo Casini Bora Biancani Carancini Cesetti Vitri abbia la possibilità di essere discussa all'interno di questa assise grazie presidente grazie capogruppo allora per quanto riguarda la reiterazione della richiesta che lei testa ha fatto essenza dell'articolo 48 considerato che il parere dei presidenti dei gruppi è un parere che è stato espresso in senso negativo ma la norma non ci dice che è vincolante quindi credo che sia opportuno ripetere alla presenza di tutti i consiglieri la votazione se inserire o meno la mozione che voi avete proposto di inserire in maniera urgente che lei ha sinteticamente ma chiaramente indicato previo interventi se vorranno essere fatti di un oratore a favore e uno contro l'inserimento della mozione all'ordine del giorno in questo caso credo che se dovesse essere poi approvata l'inserimento della mozione dovremo inserirla nel compendio della parte dell'ordine del giorno delle mozioni con l'indicazione della mozione effettivamente legata quindi con la 9 bis va bene perfetto allora se ci sono dei consiglieri che vogliono esprimere il parere favorevole uno esprime il parere favorevole se ci sono dei consiglieri che vogliono esprimere il parere contrario all'inserimento della mozione uno e non altri l'intervento al contrario si è prenotato il consigliere Antonio Mastrovincenzo prego grazie sì ovviamente per esprimere il parere favorevole a questa richiesta credo che sia un tema di grande rilevanza sentito particolarmente dalle persone che hanno purtroppo persone disabili nelle loro famiglie oltretutto questa mozione cerca di allargare la possibilità di vaccinarsi immediatamente anche a tutti gli operatori che operano nelle strutture e peraltro oggi c'è un'interrogazione a risposta immediata al primo punto che va in questa direzione quindi troverei davvero sconcertante che non ci fosse se non ci fosse la disponibilità da parte del Laura di discutere su un tema così delicato e importante per la nostra comunità ci sono interventi parere di pareri contrario ha chiesto la parola il capogruppo Forse Italia Jessica Marcozzi prego grazie presidente ma noi lo abbiamo già detto ieri nella riunione dei capogruppo per darci una regola non è possibile che il giorno prima inseriamo le mozioni interrogazioni per il giorno successivo a maggior ragione l'assessore alla sanità ha chiarito sulla stampa ma chiarisce in continuazione c'è poi un'interrogazione in merito proprio ai vaccini quindi credo che sia superfluo a questo punto inserire una mozione il giorno prima per il giorno dopo diamoci una regola perché altrimenti divende ingestibile in l'aula e il lavoro dell'assessore naturalmente è dispersivo perché oggi c'è una grande emergenza lo sappiamo tutti che è il covid lasciamo anche la possibilità all'assessore di lavorare anche perché ripeto chiarisce sempre sulla stampa chiarisce a chiunque chiede chiede informazioni quindi noi abbiamo seguito questa linea ieri grazie grazie consigliere perché è molto chiara la situazione cioè nel senso che la disposizione è nel senso di favorire e spiegare le motivazioni per cui si chiede l'urgenza oppure la sinega detto questo direi di mettere a votazione l'inserimento della mozione indicata dal capogruppo del PD la numero 28 se non vado errato benissimo al punto nove bis dell'ordine del giorno dell'ottuale dell'odierno consiglio regionale chi è a favore il verde chi è contro il rosso chi si astiene il giallo apertura della votazione favorevoli nove contrari diciassette astenuti uno la proposta di inserimento della mozione ventotto è respinta entriamo nei lavori del consiglio regionale il primo punto è la proposta di legge numero dieci iniziativa del consigliere Puzzo denominata modifica la legge regionale tre di cittadini mila e quattro numero undici norme in materia di pesca marittima e acco cultura il relatore di maggioranza è lo stesso consigliere Andrea Puzzo il relatore di minoranza è il consigliere Antonio Mastro Vincenzo do quindi la parola al relatore di maggioranza Andrea Puzzo prego grazie presidente io voglio innanzitutto dare il benvenuto al nuovo segretario generale Antonio Russi ringraziare dottoressa Zampa per il lavoro che ha svolto per noi consiglieri per quest'aula inoltre parliamo adesso di questa Pdl che è la proposta di legge numero dieci iniziativa mia ma ringrazio i componenti della commissione che hanno dato un ottimo contributo la proposta di legge di cui discutiamo ora apporta una modifica di legge regionale numero undici la legge regionale numero undici del duemila e quattro norme in materia di pesca marittima e acquacultura tale modifica riguarda la composizione della consulta per l'economia ittica rispetto alla quale si propone un ambiamento e una flessibilizzazione della rappresentanza delle imprese e dei lavoratori più in dettaglio con le modifiche proposte nell'articolo sei i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore pesca passano da cinque ad un massimo di sette i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore acquacultura passano da uno ad un massimo di due e i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali passano da uno ad un massimo di due prevede quindi una rappresentanza fino a non è che c'è ad esempio prima ne erano cinque adesso ci può passare a sette per quanto riguarda diciamo le organizzazioni di categoria quindi non determina una composizione variabile ma lo strumento che garantisce la possibilità di inserire un maggior numero di associazioni sulla base dei requisiti già stabiliti dalla giunta regionale al fine di garantire il pluralismo della rappresentanza anche su base territoriale viene nota formalizzata l'attribuzione alla consulta delle funzioni che l'articolo dieci del decreto legislativo ciano cinquanta quattro duemila e quattro riguardante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacultura a norma dell'articolo uno comma due della legge sette marzo duemila e tre numero trentotto assegna le commissioni consultive locali non istituite nelle marche tenuto conto che la consulta esercita già nelle prassi tali funzioni viene inoltre approcata in questa proposta la disposizione riguardante il rimborso ai componenti della consulta tenuto conto che nei fatti tale previsione non è stata mai attuata dal momento che la legge regionale numero 20 del 1984 in materia di indennità aspettanti ai componenti delle commissioni collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale non stabilisce alcun imposto per i componenti di tal organismo si tratta quindi di una proposta di legge che non ha variazione finanziaria tenuto conto che le modifiche non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale è stata quindi inviata adesso anche nel carattere urgente quindi inserita perché la durata della carica della consulta della pesca è legata alla durata della legislatura quindi è importante ovviamente provvedere al suo rinnovo il primo possibile tenuto conto dell'importanza del confronto con l'associazione di categoria nel settore in serie di definizioni delle politiche regionali di riferimento c'è un appunto che è il parere del CREL di cui anche l'intera commissione diciamo ne ha preso atto ma abbiamo visto ovviamente che non era un parere vincolante diciamo così ne abbiamo preso atto il CREL ha dato un proprio parere su questa modifica che ha chiesto di sostituire il termine operanti con il termine riconosciuti parliamo delle associazioni diciamo del settore della pesca la modifica chiesta dal CREL non va incontro alla necessità di ampliare la rappresentatività della consulta dal momento che il riconoscimento formale non è sempre sinonimo di un organismo di rappresentare le stanze degli aderenti e gli iscritti anche perché sappiamo bene che se un ente o un'associazione è riconosciuta ma non è operante vuol dire che non riesce a dare risposte non rischiamo ad interfattarci magari con queste associazioni operanti ogni giorno sul nostro territorio per quanto riguarda il settore della pesca inoltre nel merito la Junta Nazionale ha adottato una delibera che era la 1377 del 10 novembre 2020 con la quale ha approvato i criteri per la designazione dei componenti della consulta per l'economia ittica specificando che la rappresentatività delle organizzazioni presenti nell'organismo è data dal numero di imprese ittiche marchigiane associate o iscritte si tratta quindi di un parametro oggettivo in numero di carattere effettivo io vorrei concludere ovviamente spiegando che questo è importante diciamo dare spazio dare voce alle associazioni che compongono il mondo della pesca perché la consulta della pesca è una consulta utile importante soprattutto in questo momento di crisi economica in questo momento dove ovviamente il covid purtroppo ahimè sta bloccando tutto quindi io chiedo ovviamente all'assemblea di approvare questa proposta ovviamente perché non solo utile ma abbiamo anche messo diciamo dato la possibilità di allargare diciamo questa consulta fino da 5 fino a massimo di 7 come spiegavo prima perché credo sia giusto dare voce a più associazioni che rappresentano questo settore così come le parti sindacali che è importante anche allargare da 1 fino a massimo di 2 grazie grazie consigliere la parola ora al consigliere Antonio Mastro Vincenzo al relatore di minorenza della proposta di legge prego grazie la proposta come ha evidenziato il presidente di commissione Puzzo la proposta di legge principalmente amplia la partecipazione alla consulta per l'economia ittica e di per sé questo non sarebbe un aspetto negativo ma suscita molte perplessità la modifica della lettera B del comma 2 dell'articolo 6 che recitava che la consulta era composta da un massimo di 7 rappresentanti disegnati dalle organizzazioni e associazioni di categorie del settore pesca operanti a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale così questo lo dice la nuova proposta di legge in realtà la legge è passata la legge che si va a modificare dice che doveva essere composta da 5 rappresentanti designati dall'organizzazione di categoria riconosciuta a livello nazionale presenti operanti nel settore della pesca della regione Marche prima c'era quindi questo aspetto fondamentale del riconoscimento a livello nazionale che viene messo in evidenza anche dal parere del Crel che a nostro parere appunto è fondamentale ricordo che sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato la personalità giuridica consente l'associazione di avere un'autonomia patrimoniale perfetta la costituzione dell'associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale e l'atto costitutivo è un atto pubblico credo quindi che cancellare questo requisito il requisito del riconoscimento sia un errore in termini di trasparenza e affidabilità tra l'altro ricordo che le associazioni della pesca riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale hanno già partecipato a una sorta di avviso pubblico della regione Marche in cui si richiedevano i nominativi per rinnovare la consulta avviso che è scaduto il primo dicembre del 2020 e a tutt'oggi il rinnovo della consulta è fermo proprio perché poi si è data vita a questa proposta di legge che è stata oggi presentata in aula ritengo che un settore importante come quello della pesca meriti maggiore attenzione e non una legge per allargare un organismo per finalità francamente oscure e quindi per questo il nostro voto sarà contrario a questa proposta di legge perché riteniamo totalmente inutile questo allargamento grazie consigliere se ci sono interventi è chiesto di parlare consigliere Elena Leonardi prego grazie presidente io sposo favorevolmente la proposta che viene oggi in consiglio regionale e credo che un allargamento e l'opportunità di avere una rappresentanza nella consulta della pesca di maggiori rappresentanti in particolar modo di una categoria che tutti reputiamo importante che deve avere una rappresentanza locale per cui essere voci di chi opera nel nostro territorio sia qualcosa di positivo e non di negativo da guardare in qualche modo con sfavore quindi do assolutamente un plauso all'opportunità di allargare da 5 a 7 i componenti perché avere una maggiore rappresentanza è sempre un sinonimo positivo una pluralità di voci l'opportunità di partecipare alla consulta per più voci di un settore al quale diciamo tutti di voler dare spazio e ascolto e credo che questa sia una di quelle opportunità grazie grazie hai chiesto di parlare il consigliere il consigliere Giacomo Rossi prego anch'io esprimo chiaramente parere favorevole come ho fatto in commissione e mi fa specie che un partito che si chiama democratico voglia limitare la partecipazione di un organo di rappresentanza cioè non so che altro dire se non fare un plauso alla commissione a presidente Puzzo per questa modifica la proposta di legge che amplia la rappresentanza e lancia un auspicio affinché si allarghi il campo della rappresentanza anche in altri organi come i tavoli verdi e negli ATC quindi c'è un auspicio e chiaramente credo che la commissione raccoglierà questo invito quindi esprimo voto favorevole grazie ha chiesto la parola il consigliere Mirko Bilò prego grazie presidente anche noi gruppo Lega è favorevole e nel senso che ampliare la rappresentatività della consulta ad altre associazioni nel settore della pesca per noi dare voce a più associazioni è un fatto positivo e quindi è condivisibile lo abbiamo detto nella commissione quindi ringrazio il presidente Puzzo che ha avuto questa sensibilità come in altre situazioni quindi il nostro voto è favorevole e ringrazio grazie consigliere ha chiesto di parlare da remoto il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli quindi attendiamo adesso il collegamento abbiamo qualche secondo di differenza per il collegamento sì mi sentite? consigliere mi sentite? mi sentite? riuscite a sentirmi? un secondo il collegamento con il consigliere Ciccioli se ci riesce altrimenti saltiamo passiamo al prossimo poi lo riproviamo a fare sì mi sentite? ecco perfetto prego consigliere a lei la parola grazie sì prego a lei la parola grazie allora intervengo su questa consigliere lei la parola riuscite a sentirmi? bene poi sì bene sì spero allora il senso del mio intervento prego consigliere io mi sentite? mi sentite? mi sentite? pronto? spero che mi sentite riuscite a sentirmi? sono proprio escluso va bene comunque il senso del mio intervento sperando che si sente è che in realtà la sentiamo prego può parlare consigliere allora in realtà questa proposta di legge di cui ringrazio il consigliere può proseguire il suo intervento spero che mi sentite allora questa proposta di legge di cui ringrazio il consigliere Puzzo per aver portato avanti in realtà rende giustizia a anni di protezionismo nell'ambiente della pesca sostanzialmente era stato fatto un regolamento chiuso ad escludendum in cui chiunque non fosse delle tre associazioni nazionali riconosciute non avesse voce in capitolo come noto la frase voce in capitolo viene dagli antichi ministeri dal capitolo in cui i novizi potevano solo affacciarsi dall'alto in delle balconate ma nel capitolo potevano parlare solo i monaci anziani così è stato per la pesca per anni c'è stata un'esclusione totale illiberale e anche antidemocratica nei confronti di tutti coloro che non facevano parte di cooperative o associazioni riconosciute a livello centrale da un'organizzazione del ministero del lavoro che non concedeva ad altri di entrare la regione Marche per la verità non è la prima perché anche altre regioni poi avevano aperto quindi dobbiamo dire che non arriviamo primi però sicuramente codifichiamo con una legge che aumenta il pluralismo in cui possono partecipare con proposte con iniziative con programmi progetti anche associazioni che magari hanno un peso locale per esempio sappiamo che in Sicilia c'è una forte organizzazione che non fa capo alle tre centrali nazionali così come in Puglia c'è un'ulteriore associazione le Marche ma non solo le Marche hanno un'associazione Marineria d'Italia che dal punto di vista numerico è stato in questi anni molto più ha avuto molto più adesioni delle tradizionali associazioni quindi senza penalizzare nessuno e questo è l'aspetto positivo non è che vengono tolti alcuni per far posto a qualche altro viene aperta la rappresentanza anche a settori di laci in questo caso della pesca la stessa cosa secondo me andrebbe andrebbe fatta ci stiamo pensando sul Crel perché anche lì c'è una visione restrittiva protezionistica solo di alcune associazioni a svantaggio di tutti gli altri ma io direi del mondo economico marchigiano delle categorie economiche marchigiane dei lavoratori anche lì c'è bisogno di una revisione che ovviamente in questa azione di profondo rinnovamento che io spero porti avanti questa giunta e sicuro di cui io sono grande sostenitore ci saranno anche variazioni in altre leggi quindi grazie ancora a questa proposta di legge al consigliere Puzza e alla commissione che l'ha approvata grazie a tutti Marinangeli prego nella facoltà sì grazie presidente chi mi ha preceduto ha spiegato in maniera chiara e dettagliata le motivazioni di carattere tecnico e politico che hanno portato a questa rettifica della PDL della legge regionale 10 11 del 13 maggio 2004 ma il mio intervento è per cercare di in qualche modo sanare le perplessità le richieste fatte dalla minoranza in questo caso dal consigliere Mastro Vincenzo quando giustamente dice occorre una maggiore attenzione alla pesca e credo che questo sia una scelta che va in quella direzione cioè la pluralità la possibilità di coinvolgere più associazioni quindi fare una partecipazione più attiva più aperta più allargata va appunto nella direzione di un'attenzione necessaria ad un comparto importante come la pesca motivazioni oscure credo che non ce ne siano su questa scelta e soprattutto l'allargamento non lo riteniamo inutile ma assolutamente utile anche e soprattutto perché questo incremento numerico che andiamo ad approvare consente consentirà una rappresentanza territoriale adeguata e omogenea quindi la scelta ci sembra assolutamente condivisa ricordo che quello che andiamo ad approvare è conseguenza di una scelta anche concordata e condivisa con l'assessore delegato Mirco Carloni con la giunta tutta e con la seconda commissione appunto preseduta dal consigliere collega Andrea Puzzo quindi il nostro sarà un voto convintamente favorevole grazie consigliere chiesto la parola il consigliere per Paolo Borroni prego grazie presidente solo due parole velocissime per fare i complimenti a chi ha avuto l'idea di presentare questo tipo di legge in quanto ritengo che l'avere più persone e associazioni con cui dialogare siano esse ufficiali o ufficiose ma magari realmente fondate con radici importanti sui territori sia una cosa estremamente importante e questo lo dico convintamente non per difendere solo una legge proposta dalla mia maggioranza in quanto quando ero assessore al commercio a Civitanova Marche io proprio prendevo e ho sposato la linea della discussione del dialogo continuo e costante con tutte le associazioni di categorie siano esse quelle riconosciute sia quelle nate spontaneamente sul territorio ad esempio l'associazione dei commercianti di Civitanova Marche che era un'associazione assolutamente libera e slegata dalle principali sigle nazionali però il contempo operativo è veramente prestante sul territorio quindi all'epoca addirittura inventai da assessore la consulta del commercio che non esisteva in nessuna parte che era semplicemente un tavolo di dialogo che la giunta comunale aveva aperto con tutte le associazioni di categoria che venivano al tavolo per parlare anche dal bilancio comunale anche delle opere pubbliche e anche delle eventuali variazioni da apportare ai regolamenti della loro amministrazione questo ovviamente senza dire fu una cosa che fu veramente ben accetta da tutte le categorie che venivano chiamate a parlare con noi e quindi io rivendico per la nostra maggioranza la linea di discussione di dialogo nei confronti di tutte le categorie che devono essere sempre interpellate senza fare evitando le chiusure che devo dire le marche da qualche anno a questa parte hanno avuto nei confronti di alcune sigle che magari non erano allineate oppure non erano gradite alle maggioranze che hanno preceduto la nostra grazie grazie ha chiesto la parola la consigliera Jessica Marcozzi prego grazie presidente faccio gli auguri al dottor Russi per l'incarico naturalmente ringraziamo tutti la dottoressa Zampa per il lavoro svolto fino a questo momento e l'ho già fatto ieri nella conferenza dei capigruppo allora per quanto riguarda questa proposta di legge è importantissima non la ritengo assolutamente inutile come naturalmente ha detto il relatore di minoranza con finalità oscure non le vediamo assolutamente anzi credo proprio che questa proposta di legge vada nella direzione giusta di ampliare la partecipazione alla consulta per l'economia ittica proprio perché c'è una maggiore un maggior coinvolgimento di tutte le associazioni proprio i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore della pesca passano da 5 a 7 quelle delle organizzazioni di categoria del settore acquacultura passano da 1 a 2 e i rappresentanti anche dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali passano da 1 a 2 quindi ritengo e qui concludo e il nostro voto sarà favorevole c'è stata una vera attenzione ad un compatto importante come la pesca e quindi il dialogo è importantissimo e soprattutto la partecipazione e credo che questo sia stato anche un atto democratico quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole chiesto la parola il consigliere Antonio Mastro Vincenzo prego 30 secondi per dire che è oscura e inutile perché lo sottolinea anche il CREL se fosse stata utile avreste lasciato la prova riconosciute e invece la togliete di proposito per inserire in questa consulta associazioni non riconosciute evidentemente vicine alla vostra parte non ci sono altri interventi di nessuna parte politica se non ci sono altri interventi chiedo ai due relatori se vogliono replicare ma il Mastro Vincenzo ha appena precisato le sue conclusioni non credo che Puzzo faccia altrettanto quindi dichiaro chiusa la discussione e adesso dichiaro aperta la votazione della proposta di legge numero dieci iniziamo dall'articolo uno l'articolo uno riguarda le modifiche dell'articolo sei della legge regionale undici duemilaquattro il lavoro della commissione non ha portato nessuna modifica al testo originario dichiarazione di voto sull'articolo uno non ci sono mettiamo in votazione l'articolo uno della proposta di legge aperta la votazione chiusa la votazione è stato corretto è stato corretto chiusa la votazione favorevoli diciannovi nove contrari sette astenuti nessuno l'articolo uno è approvato articolo due invarianza finanziaria anche qui il testo che è stato elaborato dalla commissione è uguale al testo originario la commissione è la seconda commissione permanente mettiamo a votazione l'articolo due della proposta di legge chiusa la votazione dell'articolo due favorevoli diciannove contrari sette astenuti nessuno anche l'articolo due è approvato articolo tre dichiarazione di urgenza mettiamo votazione dell'articolo tre chiusa la votazione favorevoli diciannove contrari otto astenuti nessuno l'articolo tre è approvato votazione sul coordinamento tecnico apertura della votazione sul coordinamento tecnico chiusa la votazione favorevoli diciannove contrari nove astenuti nessuno il coordinamento tecnico è approvato adesso prima di mettere a votazione il testo così dei vari articoli per comporre la proposta di legge se ci sono dichiarazioni di voto non ci sono no c'è il capogruppo del PD Maurizio Mangialardi prego sì grazie presidente ovviamente il voto convintamente contrario del gruppo assembleare del partito democratico per le ragioni eh articolate e precise che il redattore di minoranza Mastro Vincenzo ha messo a disposizione di questa assemblea non serve non serve noi abbiamo bisogno forse lo dico il presidente eh anche eh relatore di maggioranza abbiamo bisogno di una legge nuova in grado di di eh mettere le condizioni in un comparto importante come quello della pesca 800 imprese 2.000 dipendenti tra diretti indotto che deve essere aggiornata sì quella della 2.000 e 4 vecchia di 17 anni e che sicuramente non è eh strutturata per consentire di gestire al meglio le prospettive di questo comparto determinante per la nostra regione eh il eh peamp del nella programmazione 21 27 ha bisogno di un'altra cosa non sicuramente di una eh norma che allarga che apparentemente diceva il collega prima sembra democratica diceva il eh collega russi ma quando mancano i criteri quando non 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 l'ampliamo a soggetti non riconosciuti eh ovviamente perde perde eh la qualità perde la competenza e eh permettetemi eh l'idea ma l'ho sentito sottolineata anche in maniera eh abbastanza palese l'allargamento eh ad associazioni che che erano state escluse sembra per motivi come si diceva politici non è sicuramente così si tratta di competenza si tratta di riconoscibilità e si si tratta anche di trasparenza questo è un dato quindi il voto eh del del gruppo fortemente eh contrario eh auspichiamo invece sarà per anche per nostra iniziativa una norma una legge nuova eh che aggiorni eh quella del duemila e quattro in modo da mettere nelle condizioni un comparto così importante di poter avere le prospettive che merita grazie grazie consigliere chiesto per dichiarazione di voto il consigliere Andrea Puzzo prego grazie presidente io credo sia surreale quello che ho avuto modo di ascoltare dal partito democratico perché dicono che facciamo noi una legge ad hoc per qualche amico giusto per qualcuno che magari ci ha votato ma proprio voi ci venite a dire questo che negli ultimi anni avete fatto marchette elettorali continue proprio voi ci venite a dire che noi invece di riconoscerci che dobbiamo allargare agli operanti anche voi ci venite a fare la morale a noi su una consulta istica fantastici io vi devo fare i complimenti perché non volevo polemizzare su questa proposta di legge mia della maggioranza perché non è solo mia è tutto perché noi magari siamo uniti coesi facciamo delle proposte d'accordo con l'assessore Carloni che anche ringrazio anche per il supporto che ci ha dato insieme agli uffici su questo tema così ringrazio mi sono dimenticato il funzionario della commissione dottoressa Sardella sempre disponibile competente cordiale con tutti i consiglieri io sono allibito perché ovviamente c'è la critica da parte del partito democratico che dice che noi dovremmo fare un favore a qualcuno ovviamente che ti è chiaro se noi dovessimo fare dei favori ve lo dico tranquillamente lo abbiamo fatto ovviamente per dare l'opportunità a tutte quelle associazioni operanti che ogni giorno stanno in mezzo al mare a tutte quelle persone che conoscono il problema ma soprattutto abbiamo anche tolto il gettone di presenza che ovviamente era stato messo e non era mai stato dato anche lì nessuno di voi ha detto nulla ma questo credo sia molto positivo perché ovviamente a differenza vostra noi cerchiamo di allargare di dare la possibilità di partecipare democraticamente alle associazioni che operano nel settore ovviamente lo facciamo a differenza nostra addirittura senza compenso quindi pensate un po' quando siamo prati che marchette che facciamo quindi rendiamoci conto però di certo lezioni di marchettificio dal partito democratico di certo non le posso accettare io vi chiedo scusa ho provato a stare zitto ho provato a non polemizzare però proprio per questo ovviamente mi sono reso conto che nonostante tutto quello che avete fatto in tutti questi anni voi oggi venite qui a dire a fare lezioni da professori a noi che ovviamente stiamo cercando di allargare la consulta di dare l'opportunità a tutte queste associazioni che operano all'interno del nostro territorio per dare un contributo al settore della pesca io mi sarei aspettato invece di criticare continuamente quello che noi stiamo facendo è normale giusto è legito una proposta anche da parte del partito democratico in merito a questo tema ringrazio ovviamente il relatore di minoranza il consigliere Masso Vincenzo persona ovviamente capace avremo modo poi stiamo collaborando insieme agli atti della commissione avremo modo di collaborare anche su altri temi ma di certo caro consigliere Mangialardi lei che è il rappresentante diciamo così il dopo Geriscioli dell'era maschettificio del partito democratico avrei preferito che lei magari avesse da giuro su questo in modo che avrebbe fatto più bella figura grazie quindi chiedo al consiglio di approvare questa proposta perché è un grande atto di democrazia nei confronti di coloro che ogni giorno sono in mare di coloro che ogni giorno possono darci dei consigli utili per migliorare le attività che noi andremo a svolgere per il bene dei nostri cittadini delle nostre imprese in questo caso della pesca della nostra regione grazie grazie consigliere chiesto di intervenire il capogruppo del gruppo della Lega Renzo Marinelli prego grazie presidente noi come gruppo Lega siamo d'accordo con l'approvazione di questa legge concordo con quanto detto da chi mi ha preceduto forse mi ha tolto anche un po' l'intervento a differenza di Puzzo penso di essere un po' più tranquillo nelle dichiarazioni però venirci a dare le lezioni quando noi andiamo ad allargare il numero delle persone coinvolte quando noi andiamo a dare un segno di maggiore democraticità e ci viene detto da chi fino ad oggi hanno tenuto sotto controllo tutte le situazioni tutte le nomine quello che è stato fatto forse non è che lo accettiamo così volentieri quindi al di là di questo noi questa legge al di là di affrontare il problema della pesca che serve per avvantaggiare coloro che operano su questo settore ma è anche un segno che va nella maggior democraticità e partecipazione delle associazioni e di quant'altro ma non solo su questo ma su tutti i settori quindi sarà una delle prime leggi sulle quali andremo ad allargare la partecipazione dei cittadini delle associazioni e di coloro che operano nel settore economico quindi lascio qua e la Lega convintamente vota vota a favore questi richiami così al fatto di aver fatto questi provvedimenti detto capogruppo dicendo che non serve che la democrazia è quando non ci sono i criteri non si può parlare di democrazia però io penso che un allargamento quando allarghiamo il numero delle persone si va sempre nell'ottica di aprirci un po' a tutti grazie grazie consigliere chiesto di parlare di capogruppo Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri prego grazie presidente noi invece voteremo favorevolmente questa proposta di legge il Movimento 5 Stelle è sempre d'accordo quando si tratta di ampliare la rappresentanza quindi anche nel caso della consulta della pesca tra l'altro poi chi darà presterà il proprio servizio all'interno della consulta non riceverà neanche diciamo non riceverà alcun importo quindi è un servizio gratuito e anche se sono associazioni locali non riconosciuti a livello nazionale secondo noi è sempre bene anzi è un valore aggiunto consultarle e insomma farle partecipare e accolgo anche con piacere quanto ha detto adesso il capogruppo della Lega il consigliere Marinelli cioè il fatto che questa sarà la prima di diversi interventi che andranno ad ampliare la base di consultazione quindi adesso vedremo che cos'altro proponete proprio proporrete però naturalmente in linea generale ci troverete d'accordo grazie grazie capogruppo non ci sono altri interventi quindi metto a votazione il testo completo della proposta di legge così come votata per singoli articoli e coordinamento tecnico la proposta di legge è la numero 10 modifica la legge regionale 13 maggio 2004 numero 11 norme in materia di pesca marittima e acquacoltura aperta la votazione chiusa la votazione favorevoli 19 contraria 8 astenuti nessuno la proposta di legge diventa legge bene passiamo al primo punto 1 bis dell'ordine del giorno la proposta di legge è la numero 14 disposizione urgente in tema di economia ittica e sostegno alle imprese il relatore di maggioranza è Mirko Bilò il relatore di minoranza è Antonio Mastro Vincenzo passo quindi la parola al relatore di maggioranza Mirko Bilò grazie presidente anche io mi associo ai saluti e do il benvenuto al dottor Russi per questo impegno nuovo importante e di grande di grande lavoro che dovremmo fare tutti insieme altresì ringrazio la dottoressa Zampa per il suo lavoro svolto sino ad oggi e quindi entriamo nel merito di questa PDL 14 2020 con questa proposta gentili colleghi e colleghe di legge si intende apportare alcune modifiche a due leggi regionali entrambi recenti alla luce di alcune questioni sorte nel corso dell'attività istruttoria finalizzata la loro attuazione istruttoria svolta dagli uffici della giunta regionale e sono due anni che ci sono domande ferme in attesa di essere vase e grazie all'assessore alla pesca Carloni più sollecitato anche dal sottoscritto alla giunta agli uffici al presidente della seconda commissione Puzzo che ha subito recepito questa esigenza e tutti noi per questa intesa importante a portarla avanti si tratta della legge regionale numero trentatré del duemiladiciannove promozione della multifunzionalità del settore della pesca marittima e del turismo marittimo e della legge regionale numero quarantasette del duemilaventi ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese modifiche alla legge regionale dieci aprile duemilaventi numero tredici misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19 è stata anche valutata l'opportunità di intervenire in via d'urgenza con l'intervento di iniziativa consigliare per dare una risposta il più possibile tempestiva ai settori interessati siamo infatti consapevoli che in questo momento storico è particolarmente importante agevolare l'attività di impresa anche nella prospettiva di una ripartenza economica basata sulla diversificazione dei servizi turistici proposti nella nostra regione aspetto questo sul quale si fonda in particolare la legge regionale numero 33 del 2019 in materia di multifunzionalità delle attività di pesca tradizionale per questo motivo la seconda commissione si è riunita a distanza di 5 giorni a cavallo del 31 dicembre per consentire all'assemblea legislativa di approvare il testo della proposta di legge nella prima seduta utile del 2021 da un punto di vista generale la legge regionale 33 del 2019 ha dato attuazione nell'ordinamento regionale ai principi della normativa statale in materia di iti turismo e di diversificazione dell'attività di pesca al fine di favorire lo svolgimento di attività di servizi da parte dell'imprenditore ittico la scelta del legislatore regionale è stata quella di rendere esplicita la possibilità per l'imprenditore ittico di integrare il reddito derivante dalla pesca tradizionale con attività a carattere turistico e ricreativo volte alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche secondo una impostazione promossa dalla legislazione statale con il decreto legislativo 4 del 2012 tale disciplina è il frutto della scelta di favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e di acquacultura in aggiunta a sostegno all'iniziativa dell'imprenditoria locale entrando nel merito dell'articolo 1 della proposta di legge introduce nella legge regionale numero 33 2019 alcune semplificazioni e chiarimenti che sono apparsi utili per evitare possibili interpretazioni restrittive e facilitare l'approvazione dei provvedimenti attuati con la prima modifica si è inteso precisare che anche gli acucoltori che sono imprenditori ittici a tutti gli effetti possono esercitare l'ittitorismo si tratta di un chiarimento opportuno al fine di specificare un elemento giuridico che non emerge in maniera chiara dal testo del decreto legislativo numero 4 del 2012 uniformando così l'ordinamento della regione Marche a quello di altre regioni si è poi specificato che l'attività di intiturismo svolta dagli accoltori non può essere prevalente con riferimento al rapporto tempo lavoro rispetto a quella principale si tratta di una modifica che rende esplicito a livello regionale quanto contenuto nella normativa statale che riserve il concetto di prevalenza tra l'attività di pesca professionale e le attività connesse al solo imprenditore che esercita l'attività di acquacultore in altre parole ai sensi della normativa statale gli acquicultori possono esercitare l'ittitorismo alla sole condizione che tale attività non sia prevalente in termini di tempo lavoro calcolato sulla base annuale le modifiche riguardanti l'attività di acquacultura sono state ritenute indispensabili ai fini di consentire l'adozione dei provvedimenti attuativi della legge regionale numero 33 del 2019 senza i quali la stessa risulta inefficace si è inoltre reso più snello il regolamento attuativo riducendone i contenuti gli aspetti più importanti e demandandone invece ad una delibera della giunta regionale l'adozione della modulistica e di altre eventuali disposizioni attuative di dettaglio ciò consentirà nel tempo un più agevole e rapido aggiornamento di tali disposizioni attuative in merito al regolamento appare oggi non utile che entri nel merito della formazione professionale che potrà essere svolta dagli imprenditori della pesca che intendono diversificare le loro attività questo non significa che non c'è più attenzione su questo aspetto tutt'altro la formazione e la riqualificazione professionale sono temi di grande interesse sui quali è necessario che anche la regione svolga il proprio ruolo istituzionale accompagnando gli imprenditori ed in particolare i giovani imprenditori in un percorso di acquisizioni di possibili nuove competenze al fine di rendere l'attività svolta in linea con le potenzialità che il settore terziario è in grado di promuovere di tale aspetto occorrerà tener conto in sede di predisposizione della programmazione in materia di formazione professionale con particolare riguardo alla programmazione cofinanziata con le risorse europee e qui confido nell'assessore Castelli quindi al bilancio di farsi carico anche lui di queste iniziative si è colta infine l'occasione per correggere qualche refuso riguardante il riferimento all'articolo 19 della legge 241 1990 in materia di procedimento amministrativo e chiarire meglio l'aspetto relativo ai fabbricati all'interno dei quali saranno svolte le attività connesse specificando che gli stessi devono essere conformi alla disciplina urbanistica edilizia vigente nel complesso le modifiche proposte si pongono in continuità con lo spirito originario della legge mantenendo a consentirne una più efficace ed omogenea applicazione massimilizzandone il potenziale effetto per le imprese ittiche l'articolo 2 della proposta di cui discutiamo riguarda la legge 47 regionale 47 del 2020 che ha modificato la legge regionale numero 13 del 2020 vale a dire lo strumento normativo con il quale è stata data la prima risposta regionale alla crisi di liquidità delle imprese in particolare delle micro e piccole al fronte degli effetti del primo lockdown di marzo quando a livello statale è stata disposta una chiusura sostanzialmente generalizzata di tutte le attività non essenziali come misura per arginare la prima ondata della pandemia covid-19 a novembre del 2020 si è avvertita l'esigenza di modificare la legge regionale numero 13 al fine di introdurre una nuova misura di sostegno al credito delle micro e piccole imprese a fronte dell'imitazione alle attività connesse con i contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per concedere la cosiddetta seconda ondata pandemica come ricorderete si tratta di una ulteriore misura che migliora le condizioni di accesso al credito rendendole ancora meno gravose tale misura si è affiancata a quelle già previste dalla legge regionale 13 del 2020 consistente nella concessione di prestiti a tasso agevolato e nella concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il credito credilizio in sede di attuazione di questa nuova misura e di concerto con i confidi cui affidata la gestione delle misure previste dalla legge regionale 13 è apparso opportuno specificare in modo espresso che la stessa è cumulabile con le due linee di intervento già presenti ciò al fine di rendere più efficaci il sostegno della regione alle imprese marchigiane duramente colpite dal protrarsi della crisi da qui l'esigenza di modificare la legge regionale 47 nella sostanza la regione nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea vuole essere di stimolo e di aiuto quindi promuovere la multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso le attività turistiche di ristorazione di ospitalità al fine di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici nell'ottica della creazione di nuova occupazione in particolare giovanile concludo presidente ringraziando l'assessore Carloni il presidente acquaroli e tutta la giunta il presidente puzzo della seconda commissione i componenti tutti della seconda commissione per la particolare attenzione per la lungimiranza dimostrata al settore della pesca alla pesca che si relaziona con le attività turistiche del nostro territorio ma un particolare ringraziamento al personale tutto dirigenti funzionari gli uffici dedicati alle attività di assessorato e di commissione per il buon lavoro svolto grazie grazie consigliere Bilò la parola al relatore di minoranze il consigliere Antonio Mastro Vincenzo prego grazie le modifiche alla legge 33 2019 sono tutto sommato condivisibili l'estensione della normativa al settore dell'acqua cultura che è considerata la normativa statale alla stregua dell'attività di impresa ittica a sua volta assimilata a quella agricola ritengo sia opportuna in considerazione che in essa rientrano le attività di allevamento in mare di mitili molto diffuse nella nostra regione si è poi voluto specificare il concetto di attività prevalente che si configura quando il tempo impiegato nell'attività di pesca professionale è superiore a quello dedicato all'attività connesse secondo un criterio già presente nell'ordinamento regionale la definizione quindi di carattere di prevalenza intesa come attività temporale e non ad esempio economica e basata sul fatturato permette sicuramente maggiori possibilità di sviluppo all'iti turismo pur sempre legato ai soli operatori della pesca le altre proposte di modifica o integrazione sono più concernenti ad aspetti di regolarità normativa infine la modifica della legge 47 del 2020 che a sua volta modificava la legge 13 del 2020 va nel senso di allargare quindi positivamente le opportunità dei finanziamenti alle micro e piccole imprese che hanno subito forti ripercussioni negative dalla pandemia e quindi è condivisibile grazie consigliere grazie consigliere Antonio Mastro Vincenzo è aperta la discussione sulla proposta di legge chi vuole intervenire se c'è qualcuno che vuole intervenire aspettiamo anche per chi è a distanza oltre al consigliere Ciccioli anche consigliere Emanuele Vora e l'assessore Carroni non c'è nessuno dichiaro chiusa la discussione sulla proposta di legge numero 14 e a questo punto passiamo alla votazione dei singoli articoli del deliberato conclusivo e quindi della proposta di legge allora l'articolo 1 e modifica la legge regionale 33 2019 il testo approvato dalla commissione identico a quello originario della proposta di legge dichiarazione di voto non ci sono aperta la votazione sull'articolo 1 chiusa la votazione chiusa la votazione favorevoli 28 contrari nessuno astenuti nessuno l'articolo 1 è approvato articolo 2 modifica la legge regionale 47 2020 anche qui il testo approvato dalla commissione identica a quello originario dichiarazione di voto apertura della votazione chiusura della votazione favorevoli 28 contrari nessuno astenuti nessuno l'articolo 2 è approvato articolo 3 in varianza finanziaria dichiarazione di voto nessuna apertura della votazione sull'articolo 3 chiusura della votazione favorevoli 28 contrari nessuno astenuti nessuno l'articolo 4 è approvato l'articolo 3 è approvato l'articolo 3 è approvato l'articolo 4 in votazione dichiarazione di urgenza apertura della votazione chiusura della votazione favorevole 29 contrari nessuno astenuti nessuno l'articolo 4 è approvato votazione sul coordinamento tecnico degli articoli così come sono stati approvati apertura della votazione chiusura chiusura della votazione favorevoli 28 contrari nessuno astenuti nessuno il coordinamento tecnico è stato approvato dichiarazioni di voto sulla proposta di legge così come è stata approvata articolo per articolo prima della sua votazione finale il capogruppo del gruppo PD Maurizio Mangialardi prego sì grazie presidente per confermare il voto positivo del gruppo del Partito Democratico all'interno dell'Assemblea come anticipato dal consigliere Mastro Vincenzo relatore di Mino grazie grazie a lei il consigliere Andrea Puzzo per la dichiarazione di voto prego grazie presidente io voglio ringraziare i due relatori il collega Mirko Pilò il collega Mastro Vincenzo per questa PDL anche essa importante già hanno spiegato entrambi diciamo l'importanza di questa PDL mi limito solamente a dire che il gruppo di Fratelli Italia è favorevole a questa proposta e mi auguro che sono certo mi auguro anche che ci siano anche altre iniziative a sostegno dell'acquacultura e l'istiturismo perché credo sia importante fondamentale sostenere anche in questo momento questi tipi di attività quindi dichiaro voto favorevole grazie altre dichiarazioni di voto metto in votazione la proposta di legge la proposta di legge è la numero 14 disposizione urgente in tema di economia etica e sostegno all'imprese apertura della votazione chiusura della votazione favorevoli 28 contrari nessuno astenuti nessuno la proposta di legge numero 14 è diventata legge adesso passiamo al secondo punto all'ordine del giorno interrogazione risposta immediata partendo dalla prima la numero 50 dei consiglieri Biancani Vitri Mangialardi Mastrovincenzo tempi vaccinazioni anti SARS Cov2 Covid-19 dei disabili degli operatori dei familiari care Vigers e dei conviventi che è abbinata alla numero 54 della consigliera del Movimento 5 Stelle Lupini tempi di vaccinazione anti SARS Cov2 Covid-19 degli assistenti sociali di cuni ambiti territoriali degli educatori professionali dei servizi domiciliari dei cari scolastici e dei cari Vigers delle persone con fragilità non dipendenti di ASOR risponde l'assessore Filippo Saltomartini prego prego assessore è la numero 50 abbinata alla 50 grazie presidente colleghi consiglieri il piano regionale sulla pandemia risponde al piano strategico nazionale quindi in prima analisi stiamo vaccinando il personale sanitario della sanità pubblica poi verrà vaccinato conseguentemente il personale dipendente dalle aziende private accreditate e poi verrà vaccinato il personale dell'RSA delle residenze protette delle case di riposo e poi quando è finita questa prima vaccinazione che dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio si procederà con le categorie fragili quindi con le persone che hanno determinate patologie e tutte le persone che secondo il servizio sanitario nazionale meritano diciamo così questo tipo di vaccinazione teniamo conto che la scansione delle vaccinazioni è determinata appunto dal commissario e dalle autorità sanitarie dal ministero della salute quindi non c'è diciamo così discrezionalità da parte della regione mi permetto di sottolineare ai colleghi e a tutta l'assemblea che la partita sulla covid-19 si gioca indubbiamente sulla vaccinazione di tutta la popolazione e mi permetto di mettere in evidenza come il nostro paese che è il terzo paese produttore di farmaci a livello mondiale dopo la Cina e l'India abbia necessità di fare un investimento preciso probabilmente da Recovery Fund con almeno 2-3 miliardi pagando i diritti dei brevetti dei vaccini per realizzare nel nostro paese i vaccini cioè la svolta che l'Italia deve intraprendere è essenzialmente quella di produrre ai nostri paesi i vaccini covid perché la vaccinazione per l'intera popolazione durerà tutto quest'anno e anche il prossimo anno quindi spero anzi sottolineo chiedo ai capigruppo dell'attuale maggioranza ma se si associano anche i colleghi dell'opposizione di presentare una mozione un documento unitario dell'assemblea regionale delle marche con cui si sollecita il governo a investire 2-3 miliardi di recovery fund per produrre i vaccini nel nostro paese perché abbiamo le tecnologie le esperienze il know-how per essere un paese produttore dei vaccini non un paese importatore questo si può fare pagando i brevetti a chi ha registrato questi diritti e quindi è opportuno che si possa avviare un processo di questa natura grazie presidente grazie chi dei interroganti vuole intervenire per la replica allora consigliere Simone Lopini poi Andrea Biancani poi Antonio Mastro Vincenzo prego consigliere Simone Lopini grazie presidente grazie assessore per la risposta io chiedevo nello specifico posto che chiaramente credo che su questo siamo tutti d'accordo non ci sono cittadini da vaccinare prima o dopo ma una strategia dobbiamo trovarla nel piano di vaccinazione non riesco a capire ma magari il mio limite per questo chiedo se tra gli operatori sociosanitari siano compresi anche assistenti sociali dei comuni che non sono non fanno capo all'Asur ma agli ambiti territoriali o direttamente ai comuni e gli educatori professionali che poi vanno ad espletare i servizi sociali nelle case dei minori a rischio nelle case dei disabili o nella scuola perché ricordiamo ecco che sono servizi fondamentali che chiaramente se venissero sospesi per malattia o se venissero sospesi per una scelta di tutela dal covid andrebbero chiaramente a depauperare l'offerta per i cittadini quindi chiedo chiedo proprio questa cosa nel dettaglio perché a quanto io ho capito sono rimaste fuori da questa prima vaccinazione con gli operatori espressamente del sociale che non sono dipendenti di cooperative grazie grazie consigliere Andrea Biancani grazie presidente rispetto alla risposta alla interrogazione che è firmata ovviamente da me ma anche dal consigliere a vitri in mangiare di Mastro Vincenzo devo dire che non c'è stata risposta nel senso che almeno che io non l'ho capita dopo se l'assessore magari me la vuole anche magari con più calma dare sarei grato nel senso che ovviamente so benissimo che il piano strategico vaccinale nella regione Marche è in linea con il piano strategico nazionale nella prima fase sono previste rivaccinazioni sono previsti gli operatori sanitari i sociosanitari il personale delle residenze protette le persone con più di 80 anni nella seconda fase sono previste le persone con più di 60 anni gli insegnanti il personale scolastico i lavoratori dei servizi essenziali e coloro che sono affetti da più patologie ma leggendo il piano strategico regionale ho capito che sono comprese anche le persone che hanno una maggiore facilità quello che veniva chiesto e secondo me la regione può sicuramente prendere una posizione nel senso che nella pianificazione della seconda fase iniziare da subito con determinate categorie risposto che ad altre questa è una scelta che la regione potrebbe fare io ritengo che sia alle persone disabili a chi le assiste ai loro familiari vada data comunque una priorità anche perché non parliamo di numeri come dire importantissimi fortunatamente sono sicuramente tanti ma poi non sono così numerosi e quindi dare una priorità anche perché questi sono soggetti che fanno sicuramente difficoltà a utilizzare i dispositivi per potersi proteggere fanno difficoltà a rispettare le regole per il distanziamento ovviamente quando parlo di disabilità mi riferisco alle persone ad esempio colpite che ho un disturbo di spazio autistico da chi ha una disabilità intellettiva sensoriale psichiatrica comunque persone che non sono autosufficienti questo potrebbe porterebbe a una garanzia maggiore sia degli stessi disabili ma soprattutto di chi lavora per loro e dei propri familiari non chiedo quindi uno stravolgimento mi sarei aspettato devo dire la verità una risposta che prevedeva che sicuramente nella primissima fase perché la seconda fase non durerà una settimana durerà mesi e mesi un conto è vaccinare un disabile a fine giugno un conto è vaccinarlo i primi di marzo anche perché hanno anche loro come dire sono in tante i disabili che sono come dire deceduti purtroppo a causa di questa malattia di questo virus quindi mi sarei aspettato una maggiore sensibilità e una risposta che prevedeva appunto un'accelerazione un'attenzione particolare rispetto a queste categorie grazie grazie il consigliere Antonio Mastro Vincenzo prego grazie io non sono assolutamente soddisfatto della risposta che è una risposta parziale scontata in realtà noi con questa interrogazione come ben evidenziava il collega Biancani chiedevamo proprio l'inserimento di questa delle persone disabili nella fase immediatamente successiva ai primi vaccini peraltro è intenzione al di là del quello che al momento è scritto sul piano nazionale da parte del commissario Alcuri di ampliare la vaccinazione proprio a questi soggetti presto ma è evidente che le regioni possono farlo con propri atti perché è già successo nella regione Lazio dove le persone con comorbidità severa immunodeficienze e fragilità di ogni età le persone disabili quelli che frequentano i servizi semi residenziali e gli operatori dei servizi di urne domiciliari sono stati inseriti tra i soggetti tra le persone che hanno diritto a una vaccinazione in via prioritaria questo avremmo voluto discutere nella mozione che ci è stato impedito di discutere oggi in aula lo riteniamo grave perché questa è una richiesta di famiglie associazioni e è evidente che giustamente l'assessore della sanità si deve interessare di questi aspetti e non è certo una perdita di tempo come ha sottolineato prima la consigliera Marcozzi se l'assessore della sanità si occupa di vaccinazioni di disabili in quest'aula e negli uffici che devono seguire queste vicende non ci sono altri interventi dei interroganti quindi passiamo all'interrogazione successiva la numero 52 del consigliere Antonio Mastro Vincenzo su assistenza sanitaria alla casa albergo per anziani gerundini di Falconara dopo il focolaio di covid risponde l'assessore Filippo Saltamartini prego grazie presidente allora nel mio precedente intervento avevo chiaramente illustrato il piano della regione Marche che è quello di vaccinare immediatamente il personale della sanità pubblica sanità privata RSA e tutte le categorie che hanno una disabilità il nostro fine è quello di salvare vite all'interno delle RSA delle residenze protette ma anche evidentemente per tutte quelle persone che hanno delle patologie derivanti da ventilazione sla e così via io non ho escluso assolutamente nulla e trovo demagogico questa idea di fare una classificazione tra tutte le categorie fragili io credo che il personale sanitario quindi che tecnicamente è in grado di capire quali sono le priorità non abbia bisogno di una lezioncina che viene dal consiglio regionale in cui si deve stabilire quali sono le persone fragili e quali sono le priorità perché qui si tratta di salvare vite la priorità deriva evidentemente dalla gravità della patologia e dalla gravità della condizione personale quindi non c'è una graduatoria c'è una graduatoria che i servizi territoriali i medici di famiglia possono assolutamente valutare quindi trovo sempre questo intervento con le interrogazioni per cui voi presentate le interrogazioni io vi rispondo poi voi fate le vostre controdeduzioni per dire esattamente il contrario della risposta che vi viene fornita allora cerchiamo di metterci d'accordo noi seguiamo un piano che tende a vaccinare tutte le persone fragili gli ultraottantenni e per questo abbiamo fatto anche un accordo con i medici di famiglia che conoscono perfettamente i loro assistiti e sono in grado di intervenire secondo le patologie pregresse di queste persone quindi noi abbiamo i medici di famiglia i distretti e tutto il personale sanitario che io voglio ringraziare in questa sede venire qui invece a fare i professorini per stabilire qual è l'ordine di graduatoria penso che sia un intervento a gamba tesa per usare una espressione diciamo così calcistica per quanto riguarda la risposta alla 52 la RSA di cui l'interrogazione presentata dal presidente mi pare Mastro Vincenzo eccola qua sì risponde tecnicamente alla necessità di assistere tutte le persone che in questo periodo di covid hanno contratto la patologia che cosa avveniva prima del diciamo così nella prima fase della pandemia avveniva che questo personale era assistito dai medici di famiglia i quali non garantivano né la continuità né l'appropriatezza delle cure noi con il nostro insediamento è stato uno dei primi atti di indirizzo che io ho esplicitato e emanato nei riguardi delle aziende interveniamo nelle RSA in queste strutture residenziali con medici specialistici con IUSCA con personale infermieristico dell'ASUR la proprietà di questi interventi ha determinato che moltissime persone siano guarite dal covid-19 e non abbiamo avuto le stragi che ci sono state in altre regioni detto questo se questo è il protocollo quindi che cosa è successo il 5 gennaio sono stati riscontrati 18 positivi su 19 in questa struttura quindi la struttura è stata isolata sono intervenuti prontamente i medici USCA gli specialisti e così via e questo è l'intervento che abbiamo fatto per tutte le diciamo così le strutture oggi abbiamo tre situazioni emergenziali nella residenza di Tolentino in quella di Porto Recanati e in quella in un'altra struttura ecco detto questo abbiamo chiesto anche per poter seguire attentamente queste vicende l'intervento della sanità militare che voglio qui ringraziare perché opera nella regione Marche con quattro medici dell'aeronautica unitare con dieci infermieri quindi se sarà necessario concludo la mia risposta interverremo all'interno della struttura portando il personale che serve appunto per garantire questa appropriatezza e continuità di cura necessaria per queste persone fragili grazie grazie la parola all'interrogante Antonio Mostro Vincenzo prego grazie su questa risposta preciso che la struttura di Gionudini non è un RSA ma è un Casalbergo ma mi auro che l'attenzione che c'è stata all'inizio quando è scoppiato il focolaio continui anche nelle prossime settimane perché sono come metto in evidenza nelle interrogazioni sguarnite di personale sanitario con professionalità appunto adeguata a gestire questa situazione complicata chiudo questo mio intervento facendo riferimento invece alla prima parte dell'intervento dell'assessore nessuno vuole fare il professorino in quest'aula è evidente che non si può lasciare al libero arbitrio di medici di medicina generale e degli operatori sanitari chi vaccinare prima tra le varie categorie deve essere tutto ben chiaro perché se c'è una richiesta esplicita a livello nazionale e anche regionale da parte delle associazioni familiari delle persone disabili o con problemi di immunodeficienza evidentemente il problema c'è quindi il problema va risolto con espressioni e definizioni chiare laddove ci sono atti scritti comprensibili da tutti grazie passiamo ora alla successiva interrogazione ed è costituita da due interrogazioni abbinate la 53 della consigliera Ruggeri su situazione critica riscontrata all'ospedale di Urbino abbinata con la 55 dei consiglieri Vitri Biancani azioni urgenti per riaprire i reparti di cardiologia e riaminazione all'ospedale di Urbino risponde l'assessore Filippo Saltamartini prego grazie presidente nell'ospedale di Urbino nel plesso ospedale di Urbino si è verificato un focolaio che ha compromesso diciamo così la funzionalità della struttura perché 24 operatori sanitari sono risultati positivi al covid 19 quindi ha riguardato questa estensione della patologia il reparto di cardiologia il reparto di rianimazione si è proceduto già nei giorni precedenti ieri e l'altro giorno alla disinfestazione dei reparti e naturalmente si è cercato di trovare una soluzione per il fatto che l'ospedale di Urbino è l'unico presidio no free covid della provincia di Pesero e si è intervenuti in che modo? Innanzitutto portando una parte dei pazienti che erano ricoverati all'interno dell'ospedale presso la struttura privata di Macerata Feltria presso Cagli e presso la struttura di Galantara dopodiché nella giornata di sabato abbiamo chiesto tramite il GORES alla protezione civile nazionale l'invio di alcuni medici di cardiologi di anestesisti e di rianimatori per poter riattivare nell'ospedale di Urbino ma anche nell'ospedale di fermo le attività ordinarie programmate non abbiamo ancora avuto risposta in ogni caso voglio sottolineare che un'area dell'ospedale è stata adibita dove si presentasse la necessità con l'attrezzatura necessaria alla rianimazione per soccorrere eventuali persone che avessero bisogno di questo tipo di trattamento fino ad oggi non si è reso necessario non ci sono stati dei casi che hanno richiesto questo tipo di intervento l'assessorato segue perisseguamente questa vicenda e siamo in attesa di conoscere se la protezione civile nazionale attraverso la sanità militare sarà in grado di inviare ulteriore personale per garantire appunto alla struttura di Urbino e alla struttura di fermo la funzionalità necessaria per garantire la programmazione degli interventi che erano stati precedentemente organizzati e strutturati grazie grazie assessore degli interroganti chi vuole intervenire la consigliere Marta Ruggeri prego grazie presidente io innanzitutto vorrei ringraziare l'assessore Saltamartini che in queste giornate che stanno diventando settimane se non mesi difficili sicuramente si sta impegnando al massimo per risolvere dei problemi che si è trovato per due motivi per un'organizzazione sanitaria la cui fragilità in tanti avevamo indicato quando ancora non c'era l'emergenza e questa situazione di fragilità dell'organizzazione è stata messa a nudo purtroppo con l'emergenza pandemica che stiamo stiamo vivendo quindi non credo che dall'assessore da questa giunta ci si possa aspettare miracoli mi fa piacere che l'assessore abbia anche parlato del caso di fermo qui è possibile noi siamo solo due il nostro gruppo è un gruppo consigliare piccolo è possibile presentare un'interrogazione a consiglio ci sorprende un pochino l'atteggiamento del PD che pur essendo otto ogni volta vengono a coprire i nostri atti con un atto identico è successo anche questa volta quindi invece di fare un'interrogazione che ne so su Urbino come ha fatto la consigliera Luggeri e presentarne una su fermo che forse era opportuno vengono presentate due interrogazioni identiche che costringono di fatto l'assessore per fortuna non a ripetere ma insomma a intervenire su uno stesso argomento secondo me questo è un modo di fare che non ha rispetto del lavoro dell'opposizione e tra opposizioni sinceramente non lo trovo un bel modo di fare anche perché additiamo sempre la maggioranza quando fa così e poi ci troviamo l'opposizione gonfia dei consiglieri del maggior numero di consiglieri che fa uguale con l'opposizione diciamo ridotta di numero comunque tornando a questa tracotanza del PD mi ha sorpreso moltissimo leggere dichiarazioni di parlamentari nel fatto di specie di senatori Verducci che è intervenuto sulla questione di fermo e soprattutto Morani la sottosegretaria che è intervenuto per la questione di Urbino dicendo che si accorge oggi che Urbino è un ospedale importantissimo per l'entroterra vorrei sapere questi personaggi politici quando l'ex presidente della giunta Ceriscioli stava depotenziando tutte queste strutture sanitarie per costruire il mega ospedale che vi ricordo che in origine nella nostra provincia avrebbe dovuto tra l'altro distruggere una vallata bellissima una zona molto bella come quella di Fossombrone dove erano mentre noi movimenti politici cittadini associazioni eravamo lì a dire che non si dovevano chiudere gli ospedali minori come minori insomma come quello di Fano come quello di Urbino adesso ci si accorge in piena pandemia che manca il personale per esempio o che non sono sufficienti i posti letto per esempio quindi io direi che forse fare un'opposizione strumentale e demagogica in questa fase non è il massimo quindi chiederei al PD un pochino più di umiltà e soprattutto di intervenire su certi argomenti facendo meno trascorrere un po' di tempo visto che le elezioni le ha perse sonoramente proprio per la disorganizzazione che ha creato in questi anni sulla questione sanità quindi Assessore noi saremo contenti se lei ci dirà il prima possibile se arriverà tramite la protezione civile nazionale e questo personale in più cercheremo comunque di fare il nostro lavoro ispettivo e anche di proposta al meglio che possiamo evitando proprio di fare strumentalizzazioni e cercando almeno in questa fase emergenziale di aiutarvi il più possibile insomma grazie grazie consigliere la parola adesso all'altra interrogante un'altra interrogante Michela Vitri prego si ringrazio innanzitutto l'assessore Salta Martini per la risposta sono parzialmente soddisfatta nel senso che mi ha risposto a una parte di interrogazione relativamente al team militare specialistico richiesto dalla regione non ha specificato quanti medici sono stati richiesti credo che corrisponda a verità quello che ho saputo tramite i media due cardiologi e tre anestesisti io ho presentato questa interrogazione non per scavalcare o per oscurare l'interrogazione delle consigliere del Movimento 5 Stelle ma proprio per avere una risposta diversa volevo venire a conoscenza dei tempi di arrivo di questo team militare che è fondamentale per il nostro territorio quindi era anzi forse ad integrazione della vostra interrogazione se l'avesse letta avrebbe visto che non era identica e oltretutto chiedo anche un'altra cosa diversa alla quale non ho avuto risposta dicevo parzialmente soddisfatta perché nella mia interrogazione chiedo anche come si intende riaprire i due reparti del nosocomio di Urbino magari facendo riferimento e avvalendosi anche di una struttura come quella di Macerata Feltria con la quale si ha un accordo con il privato COS per 40 posti letto a me risulta che attualmente di questi 40 posti letto ne vengono utilizzati solo 13 per pazienti covid e quindi la mia interrogazione ribadisco a differenza di quella del Movimento 5 Stelle chiedeva nello specifico se è possibile utilizzare sfruttare tutti questi posti letto e quindi in modo propositivo davo anche l'opportunità di valutare un modo per poter alleggerire ulteriormente l'ospedale di Urbino dai pazienti covid e farlo tornare prima possibile come struttura covid free quindi ringrazio l'assessore anche io per il lavoro che sta facendo ma mi definisco parzialmente soddisfatta perché non è stata data assolutamente risposta a questa parte della mia interrogazione sulla struttura di Macerata Feltria e sui tempi invece soddisfatta perché come diceva purtroppo ancora non lo sapete grazie passiamo adesso alla interpellanza la numero 3 dei consiglieri Bora Casini Mastrovincenzo Carancini su politiche regionali per raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas effetto serra e attuazione del patto di sindaci chiede di intervenire il consigliere grazie presidente chiedo il rinvio dell'interpellanza come della interrogazione 41 e della mozione 27 allora mettiamo a votazione se non ci sono interventi che dichiarino praticamente invece l'insistenza per la discussione quindi per il mantenimento dell'interpellanza mettiamo a votazione il rinvio dell'interpellanza numero 3 dei consiglieri Bora Casini Mastrovincenzo Carancini sull'oggetto che ho detto prima non ci sono interventi pro e contro quindi mettiamo a votazione il sì 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 rallentiamo un attimo perché ci sono poi quelli a distanza e hanno un collegamento sfalsato di qualche secondo quindi mettiamo a votazione l'interpellanza il rinvio dell'interpellanza numero 3 dei consiglieri Bora Casini Mastrovincenzo Carancini su politiche regionali per raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione dei patti di sindaci prego di aprire la votazione un attimo un attimo solo che devo organizzare per la votazione al secondo soltanto bene aperta la votazione chi è a favore dell'invio del rinvio vota verde chi è contro per il mantenimento vota rosso chi si astiene non esprime il proprio parere aperta la votazione chiusa la votazione favorevoli 24 contrari nessuno astenuti nessuno l'interpellanza numero 3 è rinviata interrogazioni la numero 34 dei consiglieri Mastrovincenzo Bora Cesetti Casini Vitri Carancini Mangialardi Biancani su pubblicazione report numero contagiati da covid-19 per comune risponde l'assessore Filippo Saltamartini a chi ha chiesto grazie presidente informo gli interroganti che da ieri è stato è in funzione sul sito della regione Marche la pubblicazione di questi dati sul sito www.regione.marche.it slash regione trattino utile slash salute coronavirus slash report contagiati per comune la fonte la fonte interna dei dati quarantena della regione Marche c'era stato questo ritardo semplicemente perché non si era in grado di allineare tutte le informazioni dei dati tra gli vari uffici dopo un lavoro che era iniziato evidentemente da un po' di tempo siamo riusciti comunque ad avere questo tipo di informazione quindi vi informo che appunto questi dati sono pubblicati sul sito della regione Marche per quanto riguarda la precedente interpellanza sempre qui per dare la maggiore informazione possibile ai colleghi in questo frattempo ho inviato un messaggio ai dirigenti del servizio e informo la collega consigliera che gli assistenti sociali dei comuni degli ambiti territoriali per i quali è prevista la vaccinazione nella seconda fase e oltre a questi naturalmente tutti gli assistenti scolastici caregiver di persone con fragilità e tutto ciò che rappresenta un po' l'assistenza delle persone appunto che hanno delle disabilità che dovranno essere vaccinate appunto con priorità grazie grazie allora chiede la parola per replica il consigliere Mastro Vincenzo sì grazie ci fa piacere che da ieri siano pubblicati questi dati ricordo che la nostra interrogazione del 4 dicembre quindi più di un mese fa evidentemente è servita da ulteriore stimolo e sollecitazione in virtù del fatto che la risoluzione numero 8 era stata approvata anche questa un mese prima e quindi all'inizio di novembre ci sono voluti più di due mesi ma l'importante è che si sia raggiunto il risultato e credo che questo sia un fatto importante in termini di trasparenza grazie grazie consigliere allora l'interrogazione numero 34 è stata appena svolta adesso c'è l'interrogazione numero 40 dei consiglieri Carancini Cesetti Mangialardi Mastro Vincenzo Bora Casini su riconoscimento del debito fuori bilancio di quello articolo 5 come secondo della PDL 5 e 2020 ora legge regionale 49 e 2020 l'assessore Guido Costelli per la risposta prego assessore prego assessore tocca a lei allora torna in aula la vexata question del debito fuori bilancio che trae origini dalla vicende sostanzialmente degli anni 90 allora interroganti cosa chiedono ulteriormente rispetto a quella vicenda sostanzialmente 6 sono le domande le avrete lette nell'interrogazione la prima sono state espletate sempre che ricorrano i fatti costitutivi del presunto credito le procedure di cui all'articolo 16 della legge 203 sono le procedure che la legge agraria prevede nel caso di miglioramento se sia pervenuta questa è la seconda domanda dal conduttore quindi dalla famosa cooperativa definita rossa una formale richiesta di indennità ai sensi dell'articolo 17 dell'articolo successivo se sia stata fatta una stima da parte dei competenti uffici regionali della presunta indennità se è stata fatta una dichiarazione specifica che è prevista dal comma quinto dell'articolo 17 se e qui la domanda come dire è retorica un po' insidiosa se nell'insussistenza dei fatti costitutivi del presunto credito non si intenda cancellare l'articolo con cui abbiamo riconosciuto il debito e sempre se nell'eventuale sussistenza del credito stesso o meglio del debito a parte nostra non si intenda a far determinare l'indennità nei modi previsti sempre dall'articolo 17 in sostanza si torna sulla legittimità sulla correttezza di quella operazione che voi sapete destò insomma una certa vivacità nel conflitto nella polemica nel dibattito a margine del del nostro assestamento allora la prima osservazione siamo fermamente convinti che il riconoscimento diversamente da come dicono gli interroganti non sia stato fatto incautamente l'avverbo incautamente è stato introdotto in maniera come dire un po' aggressiva dagli interroganti aderendo a quella che gli inglesi definiscono la profezia che si autoavvera no? perché se tu all'inizio di un discorso dici posto che tu hai fatto una cosa sbagliata cosa vuoi fare per rimediare? allora ovviamente ci sottraiamo alla profezia che si autoavvera dicendo no il riconoscimento è stato assolutamente cauto e doveroso perché perché noi abbiamo in quel ricordo famoso articolo stabilito come oggetto del debito fuori bilancio un importo che allora non era ancora determinato che correva tra 0 e 800 mila euro e abbiamo previsto proprio perché era determinabile ma non determinato l'importo che la fissazione della quota eventualmente dovuta sarebbe stata determinata a seguito dell'espletamento delle procedure che pure prevede la norma quindi il riconoscimento del debito lo ripetiamo ancora una volta non è stato incauto perché la legge per disposto normativo che abbiamo voluto precisare ulteriormente ha chiarito che la determinazione del quantum sarebbe stata subordinata e soggetta all'attivazione della procedura dell'articolo 17 il riconoscimento del debito quindi è stato frutto di un approccio prudenziale quindi il contrario della non cautela ma addirittura dello scrupolo tenuto conto della necessità di dover assumere l'impegno in senso di titolo entro il 31 12 2020 così come in precedenza era stato prescritto e previsto dalla corte dei conti voi sapete noi abbiamo aderito ad una interpretazione del concetto di debito fuori bilancio così come previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo 118 che è frutto di una adesione a quella che era stata chiamiamola giurisprudenza impropriamente che la corte dei conti aveva espresso esplicitato proprio il riferimento al consuntivo per l'anno 2019 che come è noto era stato oggetto di mancata parifica rispetto a due debiti fuori bilancio proprio perché riteneva e ritiene ritengo la corte dei conti che la procedura dovesse essere quella che abbiamo per l'appunto messo in campo per il famoso debito della cooperativa russa le indicazioni fornite dalla sezione di controllo della corte dei conti in sede di perifiche e rendiconto 2019 mi scrive il funzionario competente il dottor Poloni prevedeva quella norma inserita in quell'atto in quella legge dell'assestamento come l'unico strumento legislativo utilizzabile per far sì che si operasse in maniera totalmente corrispondente alle indicazioni della corte dei conti quindi abbiamo prevenuto e qui siccome il consuntivo l'avevamo approvato un'ora prima l'assestamento dopo dicevo non si può fare questa cosa così illogica di utilizzare un metro per il consuntivo e di usarne un altro per l'assestamento abbiamo voluto invece essere particolarmente scrupoloso e la cosa politicamente può sortire anche qualche ilare interpretazione capita che dovendo guidare ex novo un ente ci si debba far carico ma questo è il principio di continuità amministrativa su cui si fonda lo Stato di diritto ti fai carico anche degli errori altrui se di errori se di errori si può parlare altro concetto fondamentale noi non abbiamo agendo così precostituito alcun diritto proprio perché il lan e il quantum ovvero il se e il quanto di questo debito sarebbe stato ed è stato subordinato per le ragioni che dirò agli accertamenti tecnici tecnico-amministrativi proprio dell'articolo 17 che ci sono stati perché dal momento in cui 30 novembre dato al mio compleanno questo è un dettaglio abbiamo approvato l'assestamento si sono determinate delle situazioni perché è arrivata la richiesta di indennizzo da parte della famosa cooperativa però prima di arrivare a questo devo ricordare perché tra l'altro aggiorna anche i contenuti e le informazioni di cui il legislatore regionale deve possedere piena contezza che sugli elementi posti a fondamento del riconoscimento del debito si evidenzia come nella perizia di stima che era stata fatta in precedenza sottoscritta inviata dalla PF tutela del territorio di ancora gestione del patrimonio il 31 luglio del 2020 il 31 luglio del 2020 si è fatta una perizia di stima per poter procedere alla vendita ed era emersa in quella perizia di stima che poi i servizi hanno compulsato analizzato l'esistenza di titoli abilitativi o denunce di inizio attività rilasciati a favore dell'affettuario ovvero presentato dal medesimo cioè noi abbiamo ricostruito la vicenda e questa perizia di stima fatta da noi e immagino anche trasmessa all'assessore a patrimonio di allora che era il collega Cesetti erano emersi delle procedure dei titoli qualcosa evidentemente e nella perizia di stima è possibile individuarlo si era evidenziata tali atti la prego di concludere sì tali atti riguardano la realizzazione ex novo di opere e ristrutturazioni nell'ambito del complesso immobiliare di proprietà regionale inoltre le opere sempre in sede di perizia di stima che era finalizzata a questa sono state effettivamente rilevate nel corso anche dell'ultimo sopralluogo effettuato il 24 luglio del 2020 questa è la novità la regione era a conoscenza del fatto che alcune attività erano state oggetto di inizio di attività e quindi la regione governo di allora non poteva non sapere come avrebbe detto qualcuno qualche anno fa che era ipotizzabile presumibile probabile che sarebbe arrivata la presentazione di istanze di indennizio che è successo da questo punto di vista parliamo di vicende gestionali che risalgono a un arco temporale molto risalente del tempo 34 anni fa perché è dall'86 a tutt'oggi che si è sviluppata questa vicenda e quindi cosa è successo è successo che alla fine il conduttore alla fine non alla fine al mezzo approfitto ancora un po' perché penso che sia utile proprio per capire come sono andate le cose il conduttore ha inviato una richiesta di indennità ex articolo 17 con una nota pervenuta il primo dicembre del 2020 il giorno dopo l'approvazione della legge per un valore di 733 mila euro questa è la richiesta in data 9 dicembre 2020 è pervenuta una nota specificativa che concludeva per un importo complessivo di 733 mila euro questa determinazione la nota era accompagnata da una voluminosissima documentazione e qui ci sono i numeri di protocollo qualcuno ride ma dovrebbe piangere perché evidentemente tutto questo poteva essere noto a chi governava il 31 luglio del 2020 che non sono certo io prego di concludere la stima dell'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 17 è stata richiesta al competente ufficio tecnico con nota la medesima è stata completata dai nostri uffici concludendosi per un valore di migliorie riconoscibili pari a 208 mila euro non è stata fatta alcuna dichiarazione dell'articolo 17,5 perché quella dichiarazione viene fatta in sede di vendita la vendita non c'è stata e quando soprattutto si deve comunicare l'esistenza di oneri a carico del proprietario nei confronti del conduttore ma in questo caso non ci sono offerte da parte di soggetti diversi dal conduttore finisco ma è importante e interessante Presidente se posso avere farei in questo modo se un attimo posso spendere la risposta considerata che è una questione su cui ci stiamo tornando tre volte nel giro di un mese poco più concluda dopodiché lo spazio uguale necessario per le risposte cioè per le repliche il succo è questo poi è tutto a disposizione il succo qual è? che loro hanno fatto la nostra richiesta noi abbiamo fatto e valutata quella che è la posizione gestionale tecnica dei competenti i nostri uffici la controparte non ha dichiarato di accettare l'indennità come sovradeterminata e quindi da questo punto di vista ha attivato loro hanno attivato l'ispettorato agrario territorialmente competente per il tentativo di conciliazione per il resto è evidente che noi da questo punto di vista siamo in grado di poter determinare il quantum il quantum è la cifra indicata in relazione alla riconoscibilità di opere fatte secondo indicazioni che erano note dalla regione già il 31 luglio e tutto ciò che eccede o meglio la differenza tra gli 800 mila euro potenziali e le somme invece che ho dichiarato che sono 208 mila euro andranno ovviamente in economia per sostenere progetti attività e opere di interesse dei marchigiani e non per dare seguito a quella che è stata la gestione ripeto di una vicenda e di un appezzamento di terreno su cui sicuramente questa maggioranza e questa giunta non ha mai messo bocca grazie assessore allora 7.56 minuti diciamo in più quindi questo è il tempo che concediamo per gli interventi ho fatto derogare a questa situazione perché no no certamente accettiamo le scuse però no 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 non è il suo tempo assolutamente volevo dire comprendiamo si comprende che la questione è molto sentita dagli interroganti come amministrazione che ha seguito fino a l'ottobre scorso la questione e molto sentita anche dall'amministrazione che è attuale che dà una risposta per l'impostazione diversa che ha dato la vicenda quindi la deroga serve perché su questa questione diciamo così ci sono ancora forti contraposizioni e quindi entrambe le parti sono convintissime delle proprie argomentazioni quindi lo stesso tempo che ha avuto la necessità l'assessore Castelli di spiegare i passaggi successivi e comunque di spiegare la risposta è concessa agli interroganti a cominciare dal consigliere Romano Correncini a cui cedo la parola grazie grazie presidente la risposta è l'assessore nero ricordandosi il riferimento colorato l'assessore nero è abbastanza sconcertante ma le sorprese del caro Guido che chiamo così così come lui nel passato sempre in quest'aula in realtà non c'è una ripetizione e non c'è una contrapposizione signor presidente l'interrogazione ha solo l'obiettivo di essere trasparente sui fatti quindi non c'è una contrapposizione noi intanto abbiamo abbiamo chiesto quale fosse come dire il seguito il sequel del appostamento come debito fuori bilancio e oggi scopriamo che il giorno successivo all'assessamento cioè esattamente il primo di dicembre viene la richiesta eh di indennizzo ai sensi del del combinato disposto sedice e dieci ci consentirà l'assessore nero di immaginare che è una che è una come dire è una conseguenza è un fatto abbastanza è abbastanza inquietante ma come dire può venire anche un minuto dopo l'approvazione dell'assessamento questo dimostra però signor presidente assessore nero che che al momento dell'approvazione dell'assestamento di bilancio non c'erano i fatti costitutivi del diritto di credito che noi abbiamo considerato esistente assessore nero nonché avvocato Guido Castelli che è molto è è un principe del foro sa certamente meglio di me lo insegna a me che i fatti costitutivi sono gli elementi essenziali per dire che esiste o non esiste o è contestato un credito il tre io io no io non l'ho 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 sia così sia così cortese il 30 di novembre non esisteva un credito non esisteva neppure la richiesta di un credito ecco perché dal punto di vista tecnico contabile alcuni consiglieri hanno ritenuto non esistente e l'articolo settantatre individua tassativamente alla lettera E se non vado errato come in realtà si faccia riferimento a criteri esistenti noi abbiamo approvato illegittimamente è un'opinione oggi scopriamo che in realtà il giorno dopo viene richiesta viene fatta la richiesta per 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 il riconoscimento di questa indennità in relazione al maggior valore dell'importo per effetto degli investimenti degli investimenti fatti oggi mi chiedo come mai assessore non si è arrivato in aula tutta la procedura che l'articolo sedici prevede e cioè le richieste fatte in corso del del contratto di affitto da parte dell'affittuario rispetto alle addizioni ai miglioramenti esistenti è strano o come dire non si sono visti prima dal punto di vista tecnico chi doveva vederli non li ha visti considerato che non c'era una richiesta di riconoscimento di un'indennità oppure oppure perché questa è l'altra alternativa tecnica oppure queste richieste di miglioramenti addizioni non erano state riconosciute come lei sa meglio di me da principe del foro e assessore sa meglio di me che l'articolo sedici quando stabilisce il principio del riconoscimento dell'indennità impone una procedura tecnica attraverso anche l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che verifica la come dire fattibilità la riconoscibilità di quel miglioramento e allora non è chiaro nulla quindi lei come dire cerca da questo punto di vista di non rispondere addirittura però mi dispiace onestamente non risponde addirittura non solo non risponde e noi a oggi a maggior ragione diciamo che non c'era quella legittimità ma addirittura attribuisce agli altri la responsabilità non so di cosa non so di cosa si sa solo e qui completo il mio ragionamento si sa solo che un minuto dopo che abbiamo approvato l'assestamento la come dire com'è la cooperativa rossa ha chiesto all'assessore nero 800.000 euro il quale ha deciso di riconoscergli questi 200.000 euro a seguito della perizia tecnica lei sicuramente visto che le delibere non le fa come dire non le fanno i tecnici le delibere non le fanno i tecnici ora io chiudo qui dobbiamo lasciar parlare il ho capito io chiudo qui dicendomi ritenendomi soddisfatto a maggior ragione alla luce della risposta fornita dall'assessore lo dico certamente non perché qui qualcuno ha ragione perché l'appostamento come debito fuori bilancio in sede di assestamento è un atto è stato un atto illegittimo non è stato in cauto come dire la previsione all'interno di un fondo caro caro assessore perché noi avevamo proposto di inserirlo in un altro fondo più corretto rispetto al termine voi come dire probabilmente avevate già raggiunto qualche accordo perché altrimenti non si spiegherebbe tutto ciò per questo è evidente che la risposta dell'assessore Castelli sul tema è assolutamente in idonea addirittura a sciogliere i dubbi e anzi come dire alimenta ne alimenta altri grazie grazie consigliere Carancina chiesto di parlare l'altro interrogante il consigliere Fabrizio Cesetti prego sì grazie presidente io per la verità non volevo non volevo intervenire però lo debbo fare e voglio dirlo senza alcuna contrapposizione perché non c'è alcuna contrapposizione assolutamente se del caso ci sono diverse visioni politiche poi magari avremo anche un modo un po' così goliardico di porci tutti quanti maggioranza minoranza però non c'è assolutamente contrapposizione e in questo caso da parte mia non ci può essere anche perché è vero io sono stato l'assessore al patrimonio per cinque anni in questa nostra regione no? quindi figuriamoci figuriamoci se c'è se ci può essere da parte mia contrapposizione rispetto ad atti gestionali che hanno posto in essere dirigenti e funzionari che io ho guidato sotto l'aspetto politico presidente no? quindi fatta questa premessa è premesso che ci torneremo sopra ancora una volta all'esito delle dichiarazioni rese dall'assessore Castelli delle quali io non sono per niente soddisfatto e dico perché innanzitutto assessore Castelli l'ipotizzare per la verità non l'ho trovato qui dentro nella risposta l'ipotizzare che l'assessore al patrimonio di quel tempo quindi io doveva essere o poteva essere a conoscenza di queste migliorie me lo devi consentire è un'attestazione falsa e spiego perché e spiego perché e spiego perché spiego perché è un'attestazione falsa presidente semplice perché in relazione a questa azienda agraria io ho portato in giunta ben due delibere ben due delibere nella diciamo per l'alienazione dei beni quindi di ricognizione del patrimonio e per l'alienazione nelle disposizioni che io ho dato sotto l'aspetto politico o il che ho condiviso delle delle indicazioni gestionali nel documento istruttorio nel documento istruttorio non ho fatto altro che disporre la vendita la vendita e la cessazione del contratto agrario a far data dal 31 dice dal novembre 2019 se non vado errato mai mai ed in alcun modo io sono venuto a conoscenza o altrimenti sarei potuto venire a conoscenza della presunta sussistenza delle migliorie né tantomeno che le stesse potessero essere state autorizzate nessuno a me lo ha mai detto ma non me lo potevano dire assessore Castelli perché lo stesso ufficio gli ha preparato la risposta la risposta dice sostanzialmente che queste migliorie sarebbero emerse indirettamente in occasione del sopralluogo del 31 luglio 2020 quindi alla scadenza del mio mandato quando la PF tutela del territorio d'ancoglio gestione del patrimonio diciamo hanno fatto il sopralluogo per la vendita e lì hanno verificato l'esistenza di titoli abilitativi o denuncia di inizi attività seguimi assessore Castelli questo è importante ripeto non c'è alcuna contrapposizione quindi soltanto il 31 luglio ci si sarebbe accorto di che cosa qualche titolo abilitativo qualche denuncia di attività dice oddio forse questi avranno fatto delle migliorie quindi voi capite a me nessuno l'ha mai detto ne lo poteva dire perché probabilmente no probabilmente sicuramente non lo conosceva neanche l'ufficio ma c'è di più c'è di più il problema delle migliorie perché su Sistallanne e Castelli me lo insegna perché è un avvocato perché su Sistallanne è necessario che le migliorie siano state o autorizzate o previamente comunicate e validate dall'ispettorato del lavoro non poste ma prima l'ispettorato scusate l'ispettorato dell'agricoltura perché perché l'articolo e questo è il punto l'articolo 16 se non vado errato la parte che intende proporre l'esecuzione delle opere di quattro primo comma in mancanza di un prevedivo accordo deve comunicare all'altra l'ispettorato provinciale dell'agricoltura mediante lettera raccomandata correlata di progetto la natura le caratteristiche e la finalità delle opere questo significa presidente del consiglio e all'assessore Castelli che se hanno rilevato se hanno rilevato titoli abilitativi dalle quali si poteva dedurre l'esistenza delle opere se quelle opere sono state fatte al di fuori di questa procedura non solo non gli è dovuto niente ma devono rispondere dai danni devono rispondere dai danni questo è il tema e voi avete fatto voi avete fatto lo dico senza senza alcuna contrapposizione sia chiaro non vi è alcuna responsabilità perché l'ho detto l'altra volta perché il consiglio è sovrano è immune diciamo dai voti i dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni per questo gli uffici gli uffici aggiungo intelligentemente vi hanno fatto riconoscere il debito fuori bilancio perché non ne rispondete quindi tranquilli ma è stata incauta quella decisione perché guarda caso riconoscere quel debito il giorno dopo il primo dicembre arriva la richiesta vi siete mai chiesti perché il giorno dopo arriva la richiesta questo è il fatto grave questo è il fatto grave e su questo è evidente che l'assessore Castelli l'assessore Castelli non porta alcuna responsabilità come tantomeno la porto io ci mancherebbe come ex assessore tantomeno la portate voi ma l'unica responsabilità che portate no non perseguibile tra l'altro è quella politica di aver riconosciuto un debito fuori bilancio quando quello non era un debito fuori bilancio quando poteva essere prudenzialmente messa la somma come aveva proposto io con l'emendamento sulle passività potenziali è vero Garancini no che avrebbe avrebbe ugualmente tutelato però è ovvio non avrebbe riconosciuto un canché o alcunché questo è il punto e tra l'altro come si dice nell'interrogazione ma ci torneremo perché va valutata bene dice sa e perché non è stato richiesto quando è stata fatta la vendita il riconoscimento di cui è l'articolo 17 perché l'articolo 17 ci dice l'articolo 17 della legge 203 dice che l'affittuario ha diritto all'indennità eccetera nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario dell'indennità il proprietario ha tenuto a dichiarare nell'atto di vendita dell'esistenza dell'obbligazione no c'è stata l'asta Castelli no 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 perché no la prego la prego assessore di lasciare terminare no almeno ma Castelli ma è semplice no immaginate voi immaginate voi se c'è una vendita c'è un'asta pubblica nel momento in cui c'è l'aggiudicazione del bene la vendita si è perfezionata no Carancini si è perfezionata allora come fa a essere dichiarata dopo allora supponiamo che io sia il conduttore ok il conduttore bene e poi la questo questo bene va all'asta Carancini risponde all'asta e se lo acquista alla cifra di euro un milione un milione no non ho perso il filo non ho perso il filo perché se Carancini se Carancini se Carancini se l'acquista un milione Carancini che è terzo rispetto al venditore e al conduttore reclamante le indennità mica gli può essere opposta l'indennità Carancini no ma Carancini se la giudica quella cifra per questo l'articolo 17 ti dice che lo devi dichiarare e quando si fa una vendita pubblica dove va dichiarato va dichiarato nell'asta no va dichiarato nel bando va dichiarato nel bando Castelli questo è il punto ma non dobbiamo noi non dobbiamo risentere nulla ma sapete perché non è stato dichiarato perché non hanno diritto a queste migliorie non c'è non ci hanno diritto e non gliele dovete pagare io quello che chiedo per questo ci torneremo è Assessore Castelli è termino e colleghi consiglieri ripeto da parte dell'Assessore Castelli e da parte vostra non vi è alcuna responsabilità lo ripeto per l'ennesima volta alcuna responsabilità tra virgolette perseguibile ci mancherebbe altro è solo una responsabilità non perseguibile che è quella politica del giudizio politico sbagliato finisco finisco concluda concluda perché no 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 io non sto io non sto guardate bene io non sto io non sto io ho lavorato il funzionario pubblico il funzionario il funzionario pubblico di cui tu parli tu Castelli ha un vizio Castelli ha il vizio scusate adesso vi chiedo allora scusate qui siamo no no finisco 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 concludere l'Assessore Castelli non può intervenire altrimenti finisco finisco l'Assessore Castelli l'Assessore Castelli neanche tanto abilmente la butta la butta la butta sempre sul personale prego di concludere aspetta un attimo Assessore Castelli Assessore Castelli io non ti non ti autorizzo non ti consento di dire di dire che io che io sto qui a massacrare o attaccare un funzionario perché quel funzionario di cui dici tu io l'ho proposto a ragione l'ho proposto a dirigente quanto è bravo un attimo un attimo siamo fuori io sto 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 contestando sto dicendo sto dicendo semplicemente una cosa sto dicendo in quest'aula sto dicendo in quest'aula attenti attenti prima di procedere al riconoscimento e al pagamento di quelle migliorie perché secondo me secondo noi non sono dovute questo è il punto e non mi pare e non mi pare che il funzionario che dice Castelli dica che siano dovute non mi pare non mi pare che dica a concluso dobbiamo concludere questo è io dichiaro chiusa l'interrogazione poi poi chiusa l'interrogazione poi ci torneremo ci torneremo comunque no perché voglio dire non dobbiamo abusare delle deroghe concesse e il fatto che l'argomento era caldo non ha nessun problema giustamente ciascuno fa il suo compito e quindi il tema è di una valutazione anche di ordine giuridico e anche oltre che politico molto molto interessante però dobbiamo rimanere sui termini e il richiamo che ha fatto il consigliere Cesetti sull'attribuzione di responsabilità è uguale al mio invito che faccio ora a fra noi chiamarci generalmente nei confronti di tutti a chiamarci per i titoli che abbiamo e le generalità che Alain Agere fece risulta senza alcun'altra diciamo così dizione o pseudonimo che non sia riconosciuto detto questo e quindi questo vale voglio dire quando ci riferiamo a consiglieri e agli amministratori detto questo eh la interrogazione è conclusa passiamo all'interrogazione successiva la numero quarantuno dei consiglieri Mangialardi Bora Carancini Casini Cesetti Mastro Vincenzo sull'oggetto strategia di specializzazione intelligente il capogruppo Mangialardi della interrogazione grazie dobbiamo mettere a votazione quindi chiederei l'aiuto per la messa a votazione del rinvio di questa interrogazione la numero quarantuno dei consiglieri Mangialardi Bora Carancini Casini Cesetti Mastro Vincenzo su strategia di specializzazione intelligente apriamo la votazione aspettiamo un secondo perché abbiamo i tempi di collegamento a posto aperta la votazione chi vuole rinvio verde chi vuole invece che sia discusso adesso rosso chi non ha deciso e quindi si astiene giallo chiusa la votazione favorevoli ventuno contrarie nessuno asseduti nessuno la interrogazione quarantuno è rinviata interrogazione numero quarantaquattro dei consiglieri Biancani e Vitri su test antigenici rapidi possibile utilizzo per identificazione soggetti asintomatici in ambiente scolastico andamento effettuazione testa da parte di medici di medicina generale risponde l'assessore Filippo Saltamartini prego assessore io ho paura che se noi ci facciamo vedere troppo critici per dare la parola l'assessore Filippo Saltamartini grazie presidente il consigliere Biancani e Vitri propongo una serie di il primo particolare nello specifico se rientro a scuola della maggior parte degli studenti non si ritenga necessario organizzare un sistema di monitoraggio della popolazione scolastica per intercettare i soggetti positivi asintomatici così da ridurre il rischio di accensione di focolare proveniente dall'ambiente scolastico e se in particolare non stacchiamo per favore i collegamenti esterni ecco perché ci sono poi delle dichiarazioni che non possono essere registrate e quindi pregherei di togliere il finanziamento il collegamento Allora proseguiamo con l'assessore Filippo Saltamartini chiedono sempre i consiglieri Biancare e Vitri se in particolare non si ritenga opportuno è possibile prevedere la possibilità come già succede in Emilia Romagna di sottoporre periodicamente su base volontaria la popolazione scolastica e le relative famiglie a testo e rabbi antigenici presso le farmacie la risposta da fornire è che stiamo come è noto svolgendo questo screening di massa nelle varie città della regione Marche si sta proseguendo adesso con le città con più di 20.000 abitanti finora dalla sottoposizione dello screening sono emersi sono emersi circa 600 soggetti positivi che in questo modo vengono responsabilizzati per evitare che possano diventare vettori inconsapevoli del virus presso nelle relazioni familiari affettive o nell'ambiente di lavoro quindi la giunta regionale sta procedendo a sostenere appunto l'esecuzione di questi screening e per quanto riguarda eventuali focolai che si dovesse registrare tra il personale scolastico degli studenti i distretti i distretti delle ASU delle aree vaste sono pronti a intervenire mediante l'utilizzazione di test antigenici rapidi ai medici di famiglia sono stati consegnati complessivamente 1111 test e a 647 medici di medicina generale pediatri di libera scelta e su questi 1111 test sono risultati positivi 190 pazienti per quanto riguarda la questione più generale della sottoposizione degli studenti e delle scuole alla riapertura al test antigenico vi è da rilevare che il personale delle strutture sanitarie sono completamente assorbiti in prima analisi dalla cura e dalla prevenzione ospedaliera e dei distretti per quanto riguarda le attività di cura delle persone che sono affette da appunto il coronavirus e in seconda analisi il personale restante è totalmente impiegato nella sottoposizione alla vaccinazione del personale sanitario e allo screening di massa non esilvano risorse umane per poter procedere in quella direzione penso che tuttavia allora quando il test riguarda i singoli agglomerati di popolazione le città i studenti il personale sanitario potrà aggiogolarmente aderire allo screening e sottoporsi al test per verificare l'eventuale positività tengo qui a sottolineare in ogni caso che il sistema migliore per poter far riaprire i cicli scolastici in assoluta sicurezza riguarda questo procedimento appunto della sottoposizione a vaccinazione abbiamo chiesto per questa ragione essendo contrariamente a quanto è stato dichiarato da alcuni colleghi una delle prime regioni che ha somministrato tutti i vaccini ai dipendenti delle aziende ospedaliere e del personale delle aziende private e dell'RSA ecco abbiamo chiesto al commissario Arcuri una integrazione della fornitura di vaccini e appunto in relazione alla fornitura abbiamo chiesto di poter indirizzare se vi dovesse essere un aumento di questa fornitura soprattutto con i vaccini della nuova della nuova ditta moderna appunto se vi dovesse essere un aumento di questi vaccini appunto la sottoposizione a vaccinazione del personale delle scuole e del personale docente vedremo adesso nelle conferenze Stato-Regioni che cosa si riterrà opportuno diciamo così adottare come misure per far ripartire in sicurezza il sistema e l'istruzione ma credo che la risposta che la Regione Marche e tutto il sistema sanitario regionale possa fornire non vi sia anche un dubbio che sia appunto quello della vaccinazione di massa a cominciare appunto da studenti e docenti grazie grazie Assessore allora chi dei interroganti vuole intervenire il consigliere vicepresidente Andrea Biancani prego grazie grazie Presidente io rispetto la risposta dell'Assessore volevo in qualche modo dare un contributo nel senso che questa è una questione che reputo importante cioè il tema del riuscire a riaprire la scuola quanto prima io penso che tutti siamo d'accordo che la scuola rappresenta un luogo di crescita sociale culturale un luogo dove i ragazzi si educano un luogo legato alla formazione e quindi pensare di lasciare gli studenti mi riferisco in particolar modo anche in questo caso a quelli delle scuole superiori per quasi un anno ma sarebbero praticamente due anni scolastici senza poter rientrare all'interno della propria senza poter fare la scuola in presenza penso che sia una scelta sbagliata io ho fatto un'interrogazione ho fatto una serie di proposte che voglio in qualche modo sottoporre all'intera aula ovviamente anche lo stesso Assessore con la volontà come dire di poter dare un contributo positivo e favorevole nel senso che io ritengo che innanzitutto i punti che la regione Marche giustamente ha attivato i punti dove vengono fatti i tamponi rapidi antigenici i punti screening che vengono fatti in diverse località in diverse città ovviamente sarebbe impossibile a partire lo stesso giorno dappertutto questi possono diventare dei punti garantendo ovviamente l'ariappertura della scuola almeno con l'obiettivo di riaprire la scuola almeno al 50% in presenza questi possono diventare dei punti dove gli studenti possono andare studenti e personale scolastico possono andare anche se non vivono in quella città ad esempio si stanno facendo i tamponi a Fano i ragazzi pesaresi possono andare a Fano oppure si fanno a Vallefoglia quelli di Pesaro o di altri di Urbino possono andare a Vallefoglia cioè il punto dove si fanno i punti i tamponi diventare dei punti dove anche se il ragazzo o il personale scolastico viene da fuori può andare per fare lo screening ovviamente sto parlando di casi asintomatici e senza contatti diretti dall'altra parte la proposta è quella di utilizzare la convenzione che giustamente la regione ha fatto con i medici di medicina generale oggi i medici di medicina generale è vero che possono fare i tamponi anche i ragazzi ma li possono fare solo se sono sintomatici o se sono venuti a contatto diretto con una persona sintomatica qui invece si sta parlando di considerare i ragazzi gli studenti tra quelle categorie come ad esempio le forze dell'ordine per fare un esempio che possono andare dal proprio medico di base e richiedere un test antigenico rapido anche se privi di sintomi anche se senza un contatto diretto l'altra proposta era quella di individuare un ulteriore punto che possono essere le farmacie già altre regioni hanno allargato oltre ai test aerologici la possibilità di far fare ovviamente gratuitamente ai giovani anche nelle farmacie i test aerologici e quello potrebbe essere un altro punto l'altra proposta che avevo fatto era quella di utilizzare l'azienda ospedaliere e i testi ospedali Marche Nord fa i test agli antigenici solamente a pagamento se incominciasse a farle anche magari per i ragazzi potrebbe essere un'ulteriore opportunità oppure individuare attraverso una modalità di avere i propri screening all'interno delle scuole con ovviamente mi rendo conto che il personale dell'Azio non è talmente impegnato che non può andare ma cercando di utilizzare i medici volontari la croce rossa e quant'altro quindi una proposta un po' più ampia cioè quella che dice che noi oggi come regione Marche abbiamo deciso di prorogare come hanno già fatto altre regioni ma altre invece hanno deciso di aprire la possibilità della scuola in presenza almeno al 50% queste sono tre o quattro soluzioni che vengono date che mi auguro che vengono accolte perché noi nel momento in cui dovessimo anche riaprire il primo di febbraio rispetto ad oggi non è cambiato niente quello che deve cambiare è la modalità di riuscire a tracciare i giovani se noi non diamo un segnale importante non prendiamo nessuno non facciamo nessuna scelta è vero che i vaccini e condivido ovviamente con l'assessore che i vaccini saranno la soluzione ma i vaccini a un giovane se va bene lo faremo a novembre a settembre il prossimo anno ma si deve proprio andare grassa 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 allora noi da qui a settembre ottobre non prendiamo nessuna soluzione non individuiamo nessuna modalità secondo me o riapriamo perché costretti ma senza aver trovato un modo per fare lo screening per fare il tracciamento o se no questo può essere perché il tema dei trasporti io capisco che c'è un tema dei trasporti ma o chi o la prefettura vaneggia la prefettura insieme ai comuni insieme alle aziende di trasporto e erano presenti anche i rappresentanti della regione ha individuato una modalità per garantire l'accesso in sicurezza al 50 fino al 50% degli studenti anche fino al 75 per il 75 è necessario modificare gli orari di accesso la scuola ha difficoltà modificare gli orari di accesso bene il 50% lo possiamo garantire da subito domani mattina i trasporti le aziende insieme alle prefetture hanno approvato il piano e hanno definito come fare allora dico la prefettura ha fatto da coordinamento e ha individuato le modalità ad esempio nella provincia di Pesirubino parliamo di 22 autobus in più di nuove istruzioni e parliamo di nuove persone che verranno messe posizionate nelle stazioni delle scuole per evitare gli assembramenti i trasporti chi se ne doveva occupare se ne è occupato e la soluzione per il 50% l'hanno trovata ma fino al 75 ma ripeto è un problema più per le scuole che per i trasporti io penso che la regione debba come dire sedersi intorno al tavolo cercare di capire trovarla una soluzione per quanto mi riguarda queste sono delle proposte che ovviamente se l'assessore ha voglia di condividere anche in un confronto sono a disposizione perché penso che questa come dire che questa scelta di non riaprire le scuole possa dare dei danni veramente creare dei danni veramente importanti ai giovani che vedete non voglio fare populismo però io non ho figli ma ho nipoti ho comunque amici che hanno i figli mi dicono tutti i genitori che sono esasperati per vedere questi ragazzi in casa come dire così un po' anche come dire poco demotivati non riescono più a seguire il pomeriggio comunque vanno in giro si trovano e si ritrovano dappertutto quindi io penso che chi ha il compito come noi la responsabilità debba ribolcarsi le maniche sapendo che è vero che ci sono delle priorità ma trovando delle soluzioni che mi sembra che ho dato in maniera sirena in maniera come dire metto a disposizione dobbiamo affrontarle e capire come possiamo fare grazie comunque all'assessore per la sempre disponibilità che ci mette ogni volta che facciamo delle domande grazie consigliere passiamo all'interrogazione numero 49 dei consiglieri Vitri e Biancani ospedale di Fossombrone accesso a radiologia dei pazienti e servizi ambulatoriali e specialistici risponde l'assessore Filippo Salta Martini grazie presidente i colleghi la collega Vitri la collega Vitri chiede con questa interrogazione una risposta su sostanzialmente cinque capitoli di interrogazione il tempo naturalmente non mi consente di dare una risposta diciamo così esaustiva a questi cinque punti perché l'interrogazione è unica ma sono cinque punti abbastanza complessi cercherò di compendiarli velocissimamente e poi fornirò alla collega la risposta che è stata predisposta al servizio sanità se poi ci dovessero essere ulteriori elementi ma lo diceva poco fa il vicepresidente Biancani le sue argomentazioni saranno tenute in assoluta considerazione perché vi è un interesse pubblico generale far sì che vi sia diciamo così l'appropriatezza dell'intervento pubblico soprattutto in questo periodo di pandemia allora il primo capitolo di domanda chiede i motivi per cui ancora non sono terminati i lavori dell'accesso esterno alla sala di attesa del servizio radiologico evitando attraverso il percorso provvisore di creare disagio e potenziale pericolo di contagio per i potenziali frequentatori dei piani superiori la risposta fornita dal servizio sanità è che nella prima fase emergenziale presso l'ospedale comunità di Fossombrone era stato disegnato e attivato un percorso idoneo e separato per accogliere pazienti sospetti o covid positivi non ricoverati che necessitano di approfondimenti diagnostici a partire dal 2 novembre su indicazione di medici di base e delle USCA e mediante prenotazione telefonica è stato riattivato il percorso prevedendo tutti i giorni una fascia oraria dedicata all'interno della quale vengono erogate solo le prestazioni legate al percorso covid in modo da consentire un adeguato distanziamento ed una corretta sanificazione pertanto l'accesso dall'esterno avviene da un ingresso dedicato e non presenta pericoli di contagio per i frequentatori della struttura secondo capitolo di domanda chiede i motivi per cui non si è provveduto alla previsione programmazione e percorso esterno alla sala di attesa del servizio radiologico prima di indirizzare i malati covid con necessità di esami in tale struttura dal primo novembre l'accesso in vero diretto dall'esterno avviene da un ingresso dedicato separato dal portone transene così da dividere i transiti ed evitare accidentali ingressi in una zona dedicata pertanto la soluzione attualmente individuata non presenta pericolo di contagio per i frequentatori della struttura terza domanda i tempi per il ripristino presso l'ospedale comunitaria di Fossumbrona dei servizi ambulatoriali specialisti ospedalieri di cardiologia ortopedia e TAC con il cosiddetto mezzo di contrasto eh nello specifico in realtà la per la TAC eh la mancata richiesta di esami eh senza contrasto nel territorio e la necessità per la TAC eh che sia presente un medico anestesista non impegnato in altre mansioni ha determinato la scelta di concentrare sulla struttura di Urbino gli esami richiesti con mezzo di contrasto privilegiando la continuità e l'accessibilità fosse un brone della TAC senza mezzo di contrasto affrontando anche in questo modo il problema di stare di attesa per tale esami la quarta domanda chiede i motivi per cui tali servizi ambulatoriali sono stati sospesi non erogati la risposta è che per quanto riguarda la prestazione di cardiologia comunque è stata garantita a livello distrettuale e quella di ortopedia sono state riviste a seguito della temporanea riduzione del personale per cessazione o lunga assenza a cui si deve aggiungere l'emergenza e da tempo interessa il territorio l'area vasta già posti in essere e continua ad attivarsi per poter reclutare nuove figure professionali utili anche a garanzia della riapertura delle attività ambulatoriali erogate dall'equipo ospedaliera il quinto punto chiede se intende attivare in tempi brevi anche ulteriori eventi posti letto di curi intermedi previste da delibere della giunta regionale a marchio 139 del 22 febbraio 2016 e alla data attuale attivi esclusivamente per un numero pari a 30 la risposta è che per quanto riguarda l'attivazione dei posti letto aggiuntivi delle cure intermedie si rammenta che sono già in corso i lavori per l'ampliamento dell'ospice e l'attivazione dei posti letto covid con la relativa necessità di separazione dei percorsi non permette per ora di attivare negli spazi esistenti ulteriori posti letto si coglie l'occasione comunque per ricordare che presso le strutture già convenzionate a Fossumbrone in altra realtà del distretto di Fano e Peso non sono stati ampliati i posti letto in RSA che possono in parte colmare la temporanea trasformazione dei posti letto di cure intermedie in posti letto covid positivi concludo per riaffermare ancora una volta qui a tutti i colleghi che tutto quello che sarà necessario fare per la somministrazione dei vaccini tamponi per garantire livelli delle prestazioni noi lo potremo fare solo a condizione che potremmo avere a disposizione ulteriore personale sanitario soprattutto medico del settore infermieristico a questo riguardo sarà utile se il governo accoglierà la richiesta più volte formulata nella conferenza Stato-Regioni dalle Regioni per poter utilizzare il personale medico il personale infermieristico che è stato collocato in quiescenza con la legge 100 perché questo collocamento impedisce a questi sanitari di poter effettuare le prestazioni mediche sanitarie e questo naturalmente se potesse essere accolta come nostra richiesta attraverso una modifica legislativa magari in serie di conversione l'attuale decreto legge attualmente pendente in Parlamento in serie di conversione ecco se questo dovesse essere fatto potremmo far sì che le associazioni del terzo settore la Croce Rossa l'AMPAS le associazioni volontariato potranno appunto con questi pensionati garantire un aiuto concreto al servizio sanitario regionale affinché appunto si possa aumentare il volume delle vaccinazioni di massa e il volume della sottoposizione a tampone delle popolazioni comprese quelle degli studenti e comprese quelle del personale insegnante grazie grazie assessore chi prende la parola degli interroganti la consigliera Michela Vitri prego si ringrazio l'assessore Saltamartini in effetti è un'interrogazione piuttosto corposa con sei diversi quesiti molto puntuali e ho trovato anche alcune incongruenze rispetto allo stato dei fatti e alla realtà che mi hanno descritto le persone che lavorano e vivono nel territorio di Fossombrone o che comunque hanno avuto modo di frequentare la struttura mi preoccuperò anche io di verificare poi esattamente se la sua risposta corrisponde al vero non ho motivo di dubitare assolutamente però mi hanno riferito che i lavori non sono stati terminati e che i percorsi esterni riattivati al momento non risultano totalmente sicuri quindi sarà premura magari mia così come dell'assessorato di verificare che la situazione sia sicura per ciò che riguarda invece l'altro punto e in particolare il quarto quello sui motivi per cui i servizi ambulatoriali sarebbero stati sospesi o non erogati mi fa piacere aver sentito proprio dalle sue stesse parole che l'area vasta sta cercando nuove figure professionali su questo la prego davvero di verificare di sollecitare e anche di incalzare nei confronti dell'area vasta affinché queste figure professionali siano davvero trovate al più presto per poter dare giusti servizi al territorio grazie grazie consigliera abbiamo chiuso lo spazio dedicato alle interrogazioni passiamo alle mozioni partendo dal punto numero 5 all'ordine del giorno la mozione è la numero 19 dei consiglieri Carancini Mastro Vincenzo Casini Bora Biancani Vitri Mangialardi Cesetti su brand le marche delle università ha chiesto di intervenire il primo proponente Romano Carancini prego ne ha la facoltà sì grazie presidente signori consiglieri ci apprestiamo a votare una mozione che io spero possa essere affrontata al di là delle appartenenze ma cercando di osservare e guardare alla sostanza e al contenuto della proposta di mozione contenuta l'indirizzo la proposta di indirizzo contenuto appunto della mozione sappiamo tutti quale sia stato nel corso dei decenni lo sviluppo l'evoluzione del ruolo dell'università che accanto ai tradizionali compiti di insegnamento e di ricerca ha elaborato questo terzo valore che è la cosiddetta terza missione che altro non è che la capacità delle università la necessità che le università possano elaborare all'interno del proprio territorio dei rapporti proficui con le comunità imprenditoriali sociali e in genere l'attività nelle marche abbiamo un bellissimo primato che troppo spesso non viene ricordato che è il rapporto chiedo scusa di fare silenzio in aula per lasciare l'intervento che si è ascoltato da tutti e la concentrazione per carità può anche non essere ascoltato da nessuno è dovere solo per la mia capacità poi ricordavo come la regione Marche ha uno straordinario primato che viene sempre ricordato e che è il rapporto fra il numero delle università e i propri abitanti noi abbiamo una università ogni 381 mila abitanti ed è la regione dopo il Molise che ha una sola università che ha il rapporto più importante più incisivo rispetto appunto alla popolazione lo ricordo a tutti l'università degli studi di Urbino la Politecnica delle Marche l'università degli studi di Macerata e l'università degli studi di Camerino aggiungo che non solo vi è questo numero importante che è un segno di grande valore sociale ma che in realtà le università si distribuiscono quali compiti quali vocazioni anche come università umanistiche e tecnico-scientifiche anche se questo come dire questa cristallizzazione si va sempre più modificando cercando ovviamente contaminazioni aggiungo che nelle Marche accanto alle quattro università noi abbiamo la fortuna di avere anche degli altissimi degli importantissimi presidi di alta formazione culturale quali sono le le accademie e i conservatori ne abbiamo abbiamo un'accademia a Macerata abbiamo un'accademia importante a Urbino abbiamo dei conservatori in due città importanti come Fermo e pesa complessivamente complessivamente questi istituti relativi all'università muovono ogni anno circa 50.000 studenti è evidente che questo questo che ho provato a descrivere che è lo stato di fatto della situazione relativa all'università alle istituzioni di alta cultura musicale e artistica in realtà diventano alla luce appunto dei compiti che le università si stanno dando si sono date che naturalmente crescono costantemente sono evidentemente un segno fortissimo caratterizzante identitario della nostra regione Marche che è evidente anche alla luce delle caratteristiche non si occupa solo di università ma si occupa soprattutto in questi ultimi anni vi è stata un'accelerazione incredibile del appunto anche di altri temi riguardanti le questioni che occupano le comunità io credo che questo tipo di valore considerato nella sua unitarietà e cercando di guardare oltre dico io anche provando a diventare una sorta di laboratorio nazionale su questo tema proprio considerando come questa possa essere ritenuta una regione capitale del sapere un luogo dove l'esperienza viene applicata e quindi da questo punto di vista e debbo dire le esperienze che abbiamo vissuto in questi ultimi anni io penso al terremoto ma penso lo stesso alla stessa pandemia queste esperienze ci hanno convinto e come dire la mia proposta la proposta del partito democratico con me origina sostanzialmente proprio dall'esperienza quotidiana dei rapporti con le università sono stati anche oggetto sporadico non organizzato non istituzionalizzato di di rapporti di relazioni molto importanti ricordo a tutti che la proprio questa assemblea legislativa delle marche nella scorsa legislatura commissionò a tutte le università delle marche a tutte le università delle marche un lavoro profondo di ausilio naturalmente di conoscenza di potenziale strategia che riguarda appunto nuovi sentieri di sviluppo per l'appennino marchigiano dopo il sisma del 2016 che certamente è un lavoro fondamentale per far conoscere a chi la politica la vive all'interno di queste aule di cosa può valere cosa può significare quale tipo di effetto davvero importante può esserci rispetto a questa a questa opportunità penso considerando poi gli obiettivi finali della mozione a quello che è accaduto durante il periodo del covid questa mozione origina sostanzialmente dall'esperienza vissuta nel periodo covid quando le università purtroppo si sono ritrovate da un momento all'altro in una condizione davvero di grande difficoltà rispetto ai rapporti con i propri studenti in relazione agli affitti alle abitazioni e appunto alle città dove loro vivevano in quella occasione noi facciamo come dire promosso dal comune di Macerata proprio un incordo con tutti i rettori dell'università ecco che cosa credo che ci misura attraverso questa mozione e ribadisco il concetto principio a cui facevo riferimento prima proviamo a fare un salto di qualità e a proporre nella attraverso la regione Marche un nuovo modello di collaborazione istituzionale fra la regione Marche e le università delle Marche comprese evidentemente conservatori e accademi perché questo può essere un elemento sarebbe una esperienza innovativa mai presente in nessuna altra regione italiana attraverso la quale la regione diventa un punto di riferimento un interlocutore io lo dico come dire subendo e considerando alcune cose alcuni argomedi alcune considerazioni che vengono dopo questa prima esperienza la condivido con chi è stato sindaco in particolare l'ente regione non sempre vissuto in maniera seria o meglio non sempre percepito all'interno dei territori come un ruolo determinante fattivo vicino alle persone vicino alle comunità vicino alle attività lo vengono così considerati comuni perché come dire si è al fronte io credo che questa sia una prova che possa consentire alla regione Marche attraverso quest'impegno di indirizzo di poter scendere al livello delle nostre comunità e come dire le università e gli istituti di alta formazione sono certamente un gioiello sono un'opportunità che io credo noi dobbiamo raccogliere ecco perché propongo al consiglio regionale proprio di approvare questa mozione che tende a valorizzare un percorso ovviamente istituzionale non non di raccordo lo dico all'assessore alla cultura che ho ascoltato in un'occasione su questo tema non semplicemente di raccordo non abbiamo bisogno noi dobbiamo in una qualche maniera guidare e istituzionalizzare questo laboratorio di collaborazione eh di sinergia istituzionale formativa perché da questo evidentemente ne trarrebbero vantaggio le nostre comunità ma non solo la stessa regione e dico io anche collocando questo rapporto dentro dentro un cosiddetto brand che non è come dire una semplice parola fatta di marketing ma vuol dire molto perché tutto questo può può determinare in termini di effetti un rapporto sulle sinergie voi immaginate in questa epoca covid se noi avessimo coinvolto le università tecnico-scientifiche in maniera forte caratterizzata con risorse rispetto alla vicenda che stiamo vivendo penso anche a tutti gli effetti di carattere economico ai rapporti con le aziende e penso anche alla questione turistica perché è evidente che le università in un'ottica di concorrenza nazionale tra le regioni tra le università stesse hanno bisogno di come dire un sostegno un sostegno concreto che possa far immaginare come dire presentare all'intero paese e non solo perché oggi le nostre università sono anche sto finendo eh presidente sono anche come dire grandi attrattori internazionali poter far sì che la regione su questo punto si metta al servizio attraverso risorse progetti e visioni io credo che sia un'opportunità opportunità uniche per questo chiedo che venga votata favorevolmente questa mozione sulla quale peraltro qualora votata favorevolmente l'intero consiglio regionale che credo non si dividerà spero non si dividerà su un'idea come dire di servizio potrà attraverso l'eventuale proposta legislativa lavorare insieme per ovviamente valorizzare questo questo grande gioiello complessivo che abbiamo nella nostra regione grazie 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 consigliere Garancini chiesto di parlare di capogruppo di Forza Italia Jessica Marcozzi prego grazie presidente per quanto si è portata a riconoscere la bontà di questa mozione anzi vorrei ricordare la frase del consigliere Carancini che ci invita ad apprezzare la sostanza di questa mozione perché al centro della mozione vi sono i custodi del sapere delle arti e dell'alta formazione nelle nostre marche ossia le università le accademie e i conservatori non posso però non stigmatizzare come questa mozione in questa mozione manchino a nostro avviso delle componenti essenziali che sono certa anche le istituzioni che abbiamo citato le università le accademie e i conservatori riconosceranno come meritorie di essere coinvolte in un vero tavolo di ampio respiro dunque realmente costruttivo ed è in questa direzione che l'assessore latini sta andando le nostre istituzioni universitarie accademiche e musicali sono da sempre e sempre di più un vanto per la nostra regione e rappresentano naturalmente come ha affermato il consigliere Carancini eccellenze in termini qualitativi e di formazione su scala nazionale ed internazionale basterebbero i dati che ha citato le statistiche e i riconoscimenti ricevuti da alunni studiosi ricercatori professori cattedratici musicisti e artisti e mi fermo qui altrimenti dovrei parlare per ore di quanto questa componente culturale sia essenziale per la rinascita delle marche e soprattutto per la formazione non solo culturale ma anche civica sociale e umana dei nostri ragazzi considerando oltretutto che i due aspetti vanno di pari passo ma ricordiamoci anche che queste istituzioni sono da anni anzi decenni impegnate a plasmarsi sul territorio ad amalgamarsi appieno con il tessuto sociale che le circonda e le custodisce come tesori e di qui si nutrono e sono quintessenza di valori e principi dunque non posso non segnalare l'importanza di coinvolgere al tavolo proposto dalla mozione associazioni di categoria comuni ed enti locali dei territori di riferimento proprio per compiere al meglio le missione oltretutto menzionata nella mozione stessa come terza della totale pregnante interazione con la società e i territori credo che solo con la pluralità il confronto di cui le istituzioni in questione sono fulgito esempio si possa centrare l'obiettivo dando ulteriore valorizzazione a quello che queste sempre più rappresentano non solo per le marche ma che di certo alle marche apportano un plus valore inestimabile in termini di valoriali e di prestigio altresì mi preme rimarcare come le istituzioni possono trovare sì un momento di confronto con la politica al tavolo permanente ma non dimentichiamoci che proprio le peculiarità di ognuna di esse ha fatto sì che nella nostra regione convivano delle realtà del sapere così prestigiose permettetemi una parentesi sul brand così come ha detto l'assessore Carancini francamente non credo sia così incisivo le marche delle università anche perché dimentica questa frase le marche dell'università le accademie i conservatori e in una regione al plurale non si possono certo dimenticare se non altro per il loro assoluto valore al pari degli enti universitari tutte insieme rappresentano il sapere l'unica spina dorsale di una presente di un presente propedeutico a creare il migliore futuro possibile quindi si deve riflettere su questo aspetto secondo me assolutamente non secondario noi quindi apprezziamo la mozione ma devo dire che quando il consigliere Carancini afferma spero che anche la maggioranza possa apprezzare la sostanza di questa mozione io dico che noi ma l'assessore Latini sia andata oltre la sostanza della mozione perché perché chiede un tavolo permanente non solo con le università le accademie i conservatori ma anche con le associazioni di categoria i comuni e gli enti locali io quindi ritengo che questa mozione sia superata perché l'assessore ha già avviato un percorso che va oltre questa mozione si è già attivata quindi o ritirate la mozione oppure siamo costretti a votare contro perché ormai il percorso l'ha già avviato ma un percorso molto più completo di quello che si dice qui in questa mozione ripeto io apprezzo questa mozione ma il lavoro fatto dall'assessore Latini è andata molto è andata oltre la mozione ha già attivato un tavolo permanente non solo con le università le accademie i conservatori ma anche con le varie associazioni comuni e gli enti grazie è chiesto di parlare dell'assessore Giorgia Latini prego grazie presidente grazie allora io ho finito adesso un tavolo con i rettori perché c'è stata adesso la CRUM quindi si è riunita la CRUM siamo stati più di un'ora a confrontarci anche su questa diciamo iniziativa su cui avevamo appunto avviato questo dialogo e questo tavolo di confronto allora io con il consigliere Carancini mi sono confrontata nel senso che secondo me il tema delle università ovviamente è importantissimo per la nostra regione abbiamo delle eccellenze dobbiamo valorizzarle e dobbiamo trovare ovviamente la modalità migliore per creare una sinergia con il territorio e questa è la finalità che ci poniamo come giunta come maggioranza perché è ovvio che la mozione come adesso ha ribadito la consigliera Marcozzi pone comunque dei limiti ecco noi vediamo questo laboratorio più esteso quindi non solamente tra l'università e gli AFAM ma anche attraverso i comuni il coinvolgimento dei comuni che soprattutto che ospitano le università e il coinvolgimento delle associazioni di categoria ma soprattutto questo è un dialogo sinceramente che noi vogliamo portare avanti in accordo con i rettori perché la nostra intenzione è quella di creare un dialogo virtuoso e non di creare magari dei tavoli che possono essere diciamo visti magari dai rettori come contrapposizione perché io all'inizio quando gli parlavo di questo tavolo ovviamente loro dicono già c'è un tavolo tra le università che è la CRUM dove la regione comunque è protagonista e si coinvolge e quindi non vogliamo ovviamente io ho parlato appunto con loro proprio per confrontarmi direttamente con loro e loro ecco hanno ben visto magari questo ampliamento alle associazioni di categoria per avviare un confronto però è ovvio che quando si intraprende un percorso del genere ecco io sinceramente mi confronto prima con i rettori per creare di creare una sinergia perché sennò poi dopo si creano magari dei rapporti conflittuali che magari pure lei ha avuto nel suo comune con il rettore di Macerata e invece noi dobbiamo avere dei rapporti comunque collaborativi e sicuramente sarà mia intenzione convolgere la minoranza anche attraverso diciamo la collaborazione del consigliere Carancini che sicuramente potrà far parte del tavolo regionale quindi io questa esperienza nel senso l'ho iniziata prima anche prima di essere nominata assessore alla cultura e all'università qua delle Marche perché avevo iniziato questo dialogo virtuoso quando ero parlamentare quando ero vicepresidente della commissione istruzione alla Camera dei Deputati e avevo diciamo iniziato questo dialogo con le imprese del territorio della provincia di Ascoli Piceno con le università del territorio per capire quali erano le esigenze e lì si è creato questo dialogo virtuoso che poi ha portato a capire che in quel territorio c'era un'esigenza di formazione all'interno del settore dei materiali compositi che poi dopo si è conclusa con l'avallo da parte del Ministero della dotazione di 18 borse di studio proprio all'università della Politecnica delle Marche e alla Università di Camerino ecco questo qua è il percorso che vogliamo questo modello portare anche a livello regionale e quindi siamo orientati verso questa direzione anche perché ha portato dei risultati concreti tangibili per il territorio e sicuramente la collaborazione è ben accetta quindi non è che si vuole bocciare perché non si hanno a cuore le università e le AFAM anzi voglio dire mettere insieme AFAM e università è una cosa che accogliamo ovviamente con favore però ampliandolo a più soggetti e ovviamente la regione in questo ruolo avrà un ruolo di coordinamento inoltre ha spiegato bene prima il motivo per cui il brand le marche dell'università magari non ci convince perché se parliamo di ampliare anche all'AFAM con il brand università delle marche magari gli AFAM vengono comunque esclusi e poi secondo me le marche delle università diciamo noi possiamo ci sono tanti altri ambiti dove le marche si caratterizzano sono anche le marche dei cento teatri sono le marche insomma il brand deve essere a livello regionale ma questa cosa io già la condivisa comunque ovviamente con i rettori e secondo me sarebbe meglio semmai parlare di università per le marche perché comunque sono al servizio alla crescita sono al servizio proprio del territorio quindi il loro ruolo è far crescere la nostra regione poi per quanto concerne la terza missione delle università sicuramente questa sarà la direttrice di questo percorso partecipativo però dobbiamo concepirla nella sua accezione più ampia più moderna di public engagement ossia nell'assumerci la responsabilità sociale di dialogare con il territorio non solo nelle forme di una mera attività di divulgazione e nella realizzazione di venti di ordine culturale e sociale ma come consolidamento di un processo che prevede interazione e ascolto con l'obiettivo di generare benefici che vanno dallo sviluppo di nuove competenze e l'acquisizione di nuove idee al miglioramento delle finalità della ricerca e la promozione di forme di coprogettazione convolgendo anche coloro che non hanno con l'università nessuna relazione di studio o di lavoro e poi dopo a mio avviso questo approccio partecipativo però non possiamo di certo ricondurvi come è stato citato nella mozione come esempio la ricerca che è stata espletata nella precedente giunta i nuovi sentieri di sviluppo per l'appennino marchigiano dopo il sismo del 2016 in quanto nasce come un progetto coordinato dall'Istau non direttamente dalla regione che ha visto la partecipazione di singoli docenti universitari e non ha visto invece il coinvolgimento della governance delle università e quindi non c'è stato neanche un diretto coinvolgimento delle imprese e del tessuto produttivo del territorio e di conseguenza ha avuto una ridotta valenza pratica nell'orientare la ricostruzione dell'area colpita dal sisma ecco queste sono le osservazioni che mi sono sentita di portare insomma in questo consiglio ma senza insomma andare contro a prescindere solamente ecco per essere più costruttivi e voglio dire possiamo anche poi dopo quando sarà terminato il dialogo con i rettori e con l'università nulla toglie che si può fare anche un documento congiunto tra maggioranza e minoranza quindi grazie dell'attenzione grazie assessore adesso ha chiesto di parlare il consigliere Antonio Mastrovincenzo prego sì solo su per replicare rispetto a questo ultimo aspetto che dopo i miei colleghi il consigliere Carancini avranno modo di dire la loro e di replicare preciso assessore forse non è stata informata bene che la ricerca sullo sviluppo dei nuovi dei nuovi sentieri di punto di sviluppo del appennino marchigiano dopo il sismo è stata finanziata dal consiglio regionale coordinata dal consiglio regionale della presidenza del consiglio tutte le università hanno partecipato dopodiché questa ricerca non è stata solamente fatta svolta e condivisa da 87 sindaci del cratere e da tutte le parti sociali gli operatori gli stakeholders del cratere è stata portata in aula votata con un atto amministrativo in quest'aula e riconosciuta dal governo come atto fondamentale per la rinascita di tutti i territori colpiti da sisma i consiglieri di maggioranza che erano nell'aula e che hanno votato quell'atto possono confermare che loro stessi hanno votato quell'atto all'unanimità in quest'aula quella ricerca è frutto del consiglio regionale smentirla adesso direi che è proprio grave grazie consigliere non ci sono altri interventi chiede intervento Romano Carancini questa volta come nell'ambito della discussione non come proponente quindi prego grazie presidente non so se mi fa tenerezza perché onestamente le parole sono imbarazzanti assessore imbarazzanti non entro nel merito del riferimento ai Stau e a quello che l'è stato ricordato mi verrebbe da dire che un assessore alla cultura che non sa cosa è accaduto rispetto a tutto ciò mi pare abbastanza grave però come dire si può sbagliare dico però che le motivazioni adotte e che fanno un po' il paio con quelle che diceva la Marcozzi dico mi sembrano deboli intanto ho l'impressione che non abbiate letto la mozione si fa riferimento alla presenza degli antilocali consigliera Marcozzi ai sindaci delle città sedi dove naturalmente esistono queste queste le nostre università secondo elemento chiamatela come vi pare chiamatela il brand delle università le università del brand cioè ho l'impressione che facciate finta di non capire lo dico a lei che è intervenuta la Marcozzi a noi non ce ne importa nulla come la volete chiamare stiamo cercando di insieme di costruire un indirizzo aggiungo che se lei avesse qualche volta parlato con i con i responsabili con le apicalità dei dei conservatori e dell'accademia in realtà loro stessi come sono parificati alle università parificati loro stessi si considerano università quindi non è un elemento negativo è un elemento positivo ammesso ma non concesso che questi fossero come dire dispiaciuti il crume è un'altra cosa assessore alla cultura si occupa di altre cose la proposta che qui facciamo in aula è una proposta che credo stia nelle corde di un'assemblea legislativa non è che noi penso con il rispetto dei eh dei rettori come dire dobbiamo essere condizionati è l'assemblea legislativa delle marche che considera non considera ha una visione non ce l'ha rispetto a un rapporto quindi non è che noi dobbiamo come dire essere condizionati è la l'assemblea legislativa delle marche che ha una propria competenza piena di visione culturale perché si può anche non fare oppure come penso io voi avete necessità di attaccarvi una medaglia lei ha detto che come dire io non non metto in dubbio che lei si sia industriata ma parliamo di qualcos'altro rispetto alle borse di studio parliamo di qualcos'altro qui parliamo di davvero una visione una sperimentazione che mette insieme in maniera più stretta in una qualche maniera fa planare fa scaricare a terra un rapporto fra l'ente più importante territoriale che deve ovviamente impegnare investire rispetto a un progetto così ambizioso lei mi parla di 18 borse di studio è qualcos'altro assessore è qualcos'altro io come dire mi sforzo da questo punto di vista di non cercare una polemica perché dico scegliere il tavolo come termine tecnico che come dice qualche persona non si nega a nessuno è come si può negare un tavolo facciamo un tavolo è come dire abbiamo risolto tutti qui chiediamo una cosa diversa che l'assemblea legislativa delle marche unica tra le regioni in Italia possa mettere insieme un progetto una visione culturale in cui la regione come dire scende dal piedistallo e va nelle università nei territori c'è stato un importante evento a Pavia nel 2015 nel quale non so se lei lo conosce nel quale i sindaci delle città sei gli universitari hanno costruito insieme una possibilità di lavoro sinergico noi facciamo un passo in avanti noi facciamo un passo in avanti siamo più ambiziosi come dire poi la medaglia se l'attacca lei a me non me ne importa nulla se l'attacca lei ma facciamo un passo di collaborazione voglio anche esprimere un pensiero rispetto all'altra grande manchevolezza cioè quella relativa all'assenza delle associazioni guardate è una scelta è una scelta quello che noi quello che noi proviamo a proporre è un vero e proprio strumento un vero e proprio valore istituzionale le associazioni ma non solo le associazioni le imprese i territori diventano come dire il link il collegamento a terra di questa come dire visione culturale in cui la regione finalmente si mette al servizio delle università e quindi dei territori e quindi degli studenti e quindi delle famiglie ecco perché è una cosa diversa da quella che lei pensa se la pensa non c'entrano nulla le associazioni e le aziende quelle sono certo certo un po' un collegamento ma il minuto dopo quando la regione insieme a tutti gli enti lavora una visione un programma degli investimenti che poi possono essere utilizzati in maniera forte dagli stessi rettori con il territorio rispetto all'attività della terza al compito della terza missione ecco perché assessore le chiedo come dire di fare un passo in avanti come le cedo la mozione le cedo la mozione perché è davvero un passaggio molto importante se poi come dire maliziosamente la la ricettate e fra un mese venti giorni la volete ripresentare voi per io la la voto glielo anticipo però sarebbe davvero come dire un approccio completamente contraddittorio rispetto alla collaborazione che a ogni piesso spinto viene richiesta in quest'aula dalla maggioranza grazie grazie ha chiesto di parlare il consigliere Andrea Puzzo prego grazie presidente intanto voglio esprimere a nome di Fratelli d'Italia lo faccio anche qui in quest'aula la mia solidarietà all'assessore Giorgia Latini in merito al vergognoso attacco che ho ricevuto negli scorsi giorni speravo che Carancini invece di esprimere tenerezza nei confronti dell'assessore Latini visto che si è abbattuto anche lui come consigliere per l'Equatorosa per il rispetto della donna speravo che qualcuno anche dal partito democratico potesse esprimere anch'essi la solidarietà perché si può avere idee diverse si può lottare per idee diverse ma credo che è vergognoso quello che è successo all'amica all'assessore Giorgia Latini io ho avuto modo di ascoltare guardate non volevo intervenire perché era stata molto capace la collega Gessica Marcozzi aveva spiegato anche l'assessore Latini su qual è l'indirizzo politico in merito a questa mozione però io vedo che c'è un consigliere regionale che propone il brand delle marche dell'università quando questo consigliere regionale quando era sindaco è stato famosissimo non so se voi lo sapete per chi non è di Macerata è stato famosissimo per andare in rotta proprio con il rettore dell'università di Macerata tanto che nel 2018 pensate il suo stesso partito il partito democratico in consiglio comunale a Macerata aveva proposto dopo un ordine del giorno per dire ragazzi qui caro sindaco mettiamoci insieme al rettore dell'università di Macerata invece di fare sempre la guerra tanto che lo stesso PD sconfessò allora l'attuale è l'ex sindaco proponendo l'ordine del giorno che è stato firmato anche da altri gruppi della maggioranza invitando l'amministrazione comunale a costruire un tavolo tecnico congiunto con l'Ateneo ora capisco perché il tavolo tecnico non piace proprio al collega del partito democratico che ha illustrato questa proposta io dico la verità dico che sono veramente rispiatuto sono rispiatuto perché innanzitutto invece di parlare di tenerezza se l'assessore io fossi lei proverei imbarazzo nel presentare questa mozione dove proprio lei magari è stato il sindaco più famoso di tutti nell'aver pessimi rapporti con l'università della sua città quindi l'avrei fatto presentare ad altri colleghi però capisco che la coerenza non è di casa ed è normale scontato e logico che sta continuando su questo percorso io sono dispiatuto perché ancora una volta si trova un pretesto per andare allo sconto noi abbiamo un'idea è scontato abbiamo iniziato a lavorare su un percorso politico importante il merito non solo al brand dell'università perché credo questo sia importante fondamentale ma anche credo per l'istruzione anche credo per l'impresa quello che si è detto condivido in parte quello che dice il collega Carancini però è normale non è che noi capisco che la sua storia è fare il dittatore quindi ovviamente tutto ciò che dice lui legge è normale stare in questo momento dove c'è una mozione che questa maggioranza non vuole approvare se non deve fare la ragione però le chiedo la cortesia nei confronti delle donne magari cerchi di utilizzare termini più tranquilli piuttosto di dire proprio tenerezza perché la tenerezza me la fa a me visto la tanta incoerenza che lei oggi ancora dimostra nei confronti di quest'aula e dei cittadini di Macerata che l'hanno cacciato dalla sua giunta perché ovviamente avete perso le elezioni e grazie a Dio aggiungo concludo che il rettore dell'università di Macerata è stato il primo ad esultare quando avete perso le elezioni perché ha dichiarato finalmente con una nuova giunta potremmo discutere e parlare proprio per i progetti futuri per l'università di Macerata grazie grazie ha chiesto di parlare il consigliere Marco Osili prego le ha la facoltà ecco grazie presidente sì sicuramente mi affianco al consigliere Andrea Puzzo nel manifestare anche da parte mia una certa sorpresa nel momento in cui vedo che vari consiglieri del partito democratico intervengono si rivolgono all'assessore Latini senza fare menzione almeno di un gesto di solidarietà di due parole di solidarietà dopo questi disgustosi eventi che sono capitati di recente aggiungo che è evidente siamo davanti ad un patrimonio universitario quello marchigiano che è di grande valore di grande importanza e che come l'assessore Latini ha già molto bene significato noi abbiamo la piena volontà di conservare e valorizzare si pensi come diceva l'assessore al diritto allo studio alla valorizzazione dell'alta formazione alla collaborazione tra le università e a favorire la terza missione delle università vedete sono più o meno obiettivi che anche da parte vostra consiglieri del partito democratico sembrano essere obiettivi importanti e noi non possiamo che compiacersi se la minoranza vede negli obiettivi di programma di questa maggioranza degli obiettivi condivisibili il punto sta poi sullo strumento lo strumento attraverso il quale addivenire quegli obiettivi e mi sia concesso dire che la maggioranza ha la facoltà ha l'onere e l'onore di doverlo individuare evidentemente con con le sue forze un po' perché si sono state vinte le elezioni e un po' perché gli strumenti che nel corso degli anni precedenti sono pervenuti dalla diversa parte politica sono stati strumenti generalmente fallimentari perché se pensiamo a come si è gestita la vita dei giovani marchigiani vediamo un evidente fallimento perché dobbiamo sempre tenere in considerazione quella che è il tremendo dato dell'emigrazione giovanile negli ultimi anni l'emigrazione giovanile delle marche rappresenta un dato davvero sconfortante e preoccupante quindi come l'assessore Latini già ha ben significato e concludo è evidente che qui dopo tanti tanti anni questa maggioranza vuole cominciare un cammino e lo ha già iniziato di elaborazione di nuovi strumenti è chiaro che nel corso dei cinque anni ascolteremo e soppeseremo uno ad uno i vari contributi che verranno da tutti però mettersi qui dopo due mesi dall'inizio di questa legislatura e pontificare su strumenti vecchi e fallimentari io credo che non faccia bene a questa assemblea e alle marche grazie consigliere ausilio ha chiesto di parlare il consigliere Mirko Bilò prego nella facoltà grazie presidente io non volevo intervenire perché non piace intervenire soprattutto quando ci sono in corso polemiche sterili e non si guarda invece a quello che è la sostanza la mozione diciamo che andiamo a rinviare sicuramente non è che non sia interessante dal punto di vista delle proposte delle idee proposte idee che Carancini il collega Carancini oggi voleva metterci qui evidenziare qui in questa aula sicuramente io dico le avrebbero potute evidenziare quando diciamo aveva la sua maggioranza diciamo qua in assemblea e quindi poter dare tutta la massima scioltezza su tutte le iniziative su tutte le capacità aggregative di rapporti con le università con i rettori e non voglio entrare neanche nella polemica pur condividendola perché polemica è stata che il collega Puzzo voglio dire ha ricordato io non me la ricordavo quella ma non entra nella mia mentalità io innanzitutto le parole diciamo che lei ha rivolto all'assessore un assessore che prima di essere assessore era il vicepresidente in Parlamento quindi anche nella commissione che oggi diciamo in un certo senso aveva trattato e aveva mantenuto rapporti con le università della cultura credo con la sua esperienza con il suo diciamo modo di fare così tranquillo sereno senza provocare e senza andare inasprire diciamo situazioni che non hanno senso ha detto ha detto la sua di come si vuole muovere di come la maggioranza vuole muoversi in questa in questi cinque anni e ci sono opportunità e occasioni anche per la minoranza per ben figurare ma parlo contribuzioni collaborative non dispregiative e voglio concludere dicendo che c'è spazio per tutti quindi ci sono cinque anni davanti se uno ha delle buone idee le mettesse in atto nelle commissioni nelle proposte e quindi così saluto l'assessore Latini innanzitutto nella mia piena solidarietà e credo di tutti noi dalla maggioranza da parte anche quindi della Lega per le minacce ricevute questo mi preoccupano a me quelle sono debolezze quelle persone sono debolezze non l'assessore Latini quindi io rivolgerei più una debolezza perché questo è a chi ha lanciato quelle minacce e da parte nostra da parte mia da parte nostra la piena solidarietà all'assessore Latini grazie ha chiesto di parlare l'assessore Filippo Saltamartini prego diamo il collegamento grazie presidente io intervengo su questa mozione perché ritengo che sia di straordinaria importanza il rapporto che la l'amministrazione che è stata eletta il 20 il 21 settembre potrà instaurare per quanto riguarda le nostre università dopo parlo e intervengo anche alla luce di un'esperienza universitaria che è durata una decina d'anni un altro ateneo non marchigiano per dire che dovremo investire moltissimo per quanto riguarda la ricerca scientifica applicata l'università non è solo un laureficio e soprattutto le nostre università potranno essere un vettore straordinariamente importante per lo sviluppo economico sociale di quelle piccolissime piccolissime imprese che costruiscono le cose belle che poi noi vendiamo nel mondo quando ho risposto poco fa ad una interrogazione per quanto riguarda il trattamento del covid io vorrei qui sottolineare e precisare che l'industria farmaceutica che risiede nelle marche ha una storia straordinariamente importanza in tutto il mondo senza enunciare dei marchi e c'è un know-how una collaborazione strettissima con la ricerca universitaria e quindi appunto valorizzando le nostre università noi potremo far ripartire l'economia della nostra regione e soprattutto riportare i brevetti la ricerca sull'occupazione su diciamo così su tutte le cose che oggi fanno tendenza nella ricerca e nella potenza di un paese industrializzato a livello mondiale e a livello internazionale ed è per questo motivo che credo che l'intervento che noi dovremo fare dovrà riguardare anche la ricerca di fondi lo sfruttamento di importanti risorse che verranno anche da recovery fund e soprattutto da bandi internazionali che potranno far sì che la cooperazione interuniversitaria anche a livello internazionale possa portare la nostra regione a ricoprire quel ruolo che finora non ha avuto e se questo ruolo non l'ha avuto dopo 25 anni di governo del PD probabilmente colleghi consiglieri toccherà a noi ristabilirne la capacità di indirizzo e la capacità di cooperazione con le università io qui non interverrò sui rapporti che possono essere stati tra l'amministrazione di un comune o un rettore dell'università di Macerata non mi interessa credo tuttavia che i sindaci e i comuni che hanno appunto la fortuna di avere delle università debbano dimostrare anche con le attività di indirizzo di cooperazione con gli altri organismi e gli enti che forma Repubblica la regione e lo Stato le attività propulsive dirette a sostenere quelle università e quindi qui il giudizio lo potranno fornire i cittadini di quelle città di quelle province in particolare la città di Macerata se questo è stato fatto a me preme in questa sede rilevare che è compito preciso nostro è nel programma elettorale riuscire a corroborare l'attività degli Atenei affinché le imprese gli Atenei la ricerca applicata e la ricerca scientifica possa riportare la nostra regione verso i suoi più alti e immancabili destini che sono destini di sviluppo di coerenza e soprattutto destini capaci di dare un futuro alle future alle nostre generazioni grazie grazie ha chiesto di parlare il consigliere Renzo Marinelli prego grazie presidente no e per sostenere l'attività che l'assessore Latini sta portando avanti Giorgia per questa volontà con questo suo progetto vorrei portare la sua attenzione all'esperienza che ho vissuto con l'università di Camerino nel quale abbiamo condiviso una consulta negli ultimi 6-7 anni e lì non ho visto mai la presenza della regione quindi forse fino ad oggi è mancato quello che serviva con Giorgia stiamo instaurando questo rapporto e vorrei dire che quello che abbiamo costruito senza la regione come università di Camerino ma con il territorio quello che diceva Carangini con il sindaco dell'università secondo me è riduttiva deve essere fatto un discorso di territorio le università devono essere riferimento soprattutto per quanto riguarda quella di Camerino che è più interna che deve essere collegata al territorio quindi deve essere il punto di riferimento del territorio quindi ha funzionato fino ad oggi coinvolgendo tutti i sindaci del territorio le associazioni del territorio le fondazioni e tutti coloro che operavano in quel settore quindi quello che sta portando avanti l'assessore va in questa direzione va in una direzione più partecipativa che come dicevo prima sul nomine dei rappresentanti per quanto riguardava la legge sulla pesca di essere il più partecipativo possibile anche in questo caso ci muoviamo in quella direzione perché parlare di università e sindaci di università spesso e quello che è successo a Macerata ne è un esempio ci sono dei contrasti perché poi tra università e sindaci della serie dell'università spesso ci sono malumori mentre c'è forse più condivisione con quelli con i sindaci e le istituzioni del territorio quindi è su questo che invito l'assessore Giorgio Aradini di andare avanti sul coinvolgimento di tutti gli operatori quindi come sta facendo tutte le istituzioni del territorio non fermiamoci solo ai sindaci delle università perché spesso ci possono fuorviare ma rendiamo questo tuo lavoro sempre più allargato in modo che possa coinvolgere maggior numero di persone maggior numero di istituzioni e di associazioni di categoria sicuramente sarà un percorso che ci porterà a dei risultati abbiamo quattro università che sono una eccellenza della regione Marche ma come dicevamo non l'unica insieme ad altre quindi fare il brand dell'università forse potrebbe essere esagerato però sicuramente le quattro università sono un riferimento e una qualcosa al quale noi dobbiamo guardare con molta attenzione perché la crescita delle Marche su questo noi stiamo lavorando e quello che vogliamo come maggioranza sicuramente dovremmo fare affidamento anche sul loro apporto grazie grazie consigliere ha chiesto di parlare il consigliere Marco Marinaggi li prego sì grazie presidente eh non volevamo parlare nessuno ma poi alla fine vedo che tutti quanti apportiamo il nostro contributo ma sicuramente sono determinanti gli spunti che i consiglieri di minoranza ci danno qui oggi avevamo una proposta una mozione tutto sommato valida con dei contenuti molto interessanti dove si evidenziava l'eccellenza della dell'università marchigiana proposte di crescita proposte di integrazione tra le varie parti di attori del nostro territorio ma eh purtroppo eh ci troviamo invece una un atteggiamento ancora una volta direi abbastanza polemico abbastanza e devo dire sono molto sorpreso negativamente dalla cattiveria che va al di là del confronto politico io oggi mi sarei aspettato consigliere Garancini all'indomani di un'aggressione verbale violenta fuori da ogni congezione democratica e di rispetto della persona e della donna in questo caso mi sarei aspettato un atteggiamento anzitutto di condanna di certi atteggiamenti e mi sarei aspettato un confronto molto più costruttivo perché ripeto le sue proposte sono proposte condivise sono proposte che possono essere argomentate e sottoposte anche a una risoluzione comune successivamente ma debbo necessariamente mettere in evidenza questo atteggiamento di cattiveria che non è corretto non è consono a un'assemblea di questo tipo quindi il dire poi consigliere Garancini quando lei dice mi sforzo di non fare polemica ma fortuna fortuna che non si sforza di fare polemica perché quando lei dice all'assessore Ladini alla quale va tutta la nostra solidarietà sia per quello che sta facendo e sia per l'impegno che sta portando avanti quando lei dice definisce imbarazzanti le parole dell'assessore Ladini e addirittura dice mi fa tenerezza cioè questo tipo di atteggiamento adesso non voglio fare il censore non voglio fare il giudice ma debbono essere portate fuori da quest'Aula se vogliamo effettivamente creare una sinergia una collaborazione che possa portare un miglioramento delle condizioni dei marchigiani quindi chiudo rinnovando la nostra la mia personale solidarietà per i fatti accaduti e li condanniamo e il sostegno per l'attività politica amministrativa che sta portando avanti il nostro assessore Giorgio Ladini grazie grazie non ci sono altri interventi non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione della mozione 19 se il primo proponente in qualità del relatore vuole intervenire a 5 minuti di tempo ha chiesto di parlare poi l'assessore Giorgio Ladini che è ugualmente a 5 minuti di tempo dopo c'è dichiarazione di voto e quant'altro sì allora non il proponente non chiede di parlare la parola all'assessore Giorgia non userò i 5 minuti ma 30 secondi solamente per dire che magari sì sicuramente mi aspettavo solidarietà anziché un'affermazione un'espressione di tenerezza in senso denigratorio e soprattutto quando poi si sminuivano anche i risultati ottenuti in passato delle 18 borse studio comunque sono sempre un milione e due per il territorio che arriva dal ministero nel senso secondo me non c'è niente da sminuire e in più quando io parlavo del progetto dei Sibillini e parlavo che comunque la governance universitaria non era stata coinvolta ne ho parlato perché comunque mi è stato riferito così quindi significa che magari si saranno sbagliati gli stessi rettori ok però sono delle affermazioni che ho fatto dopo essermi informata grazie apriamo non è però il non è il relatore della consigliere vostro vincenzo sì dunque però chiusura della discussione articolo sessantatré il proponente che è stato il consigliere carancini ha il diritto di replica apriamo la dichiarazione di voto e fa il suo intervento perfetto no no io lo faccio fare subito però apro la fase successiva allora dichiarazione di voto ora per proponente l'applicazione dell'articolo sessantatré chi espone non il firmatario ma chi espone in aula alla pari dei relatori di maggioranza e di minoranza chi espone in aula all'intervento relativo alla in questo caso mozione quindi avendolo fatto il consigliere romano carancini e lui che ha diritto diciamo così dopo la chiusura di intervenire cinque minuti ugualmente all'assessore al presidente della giunta gli altri rimangono firmatari apriamo le dichiarazioni di voto chi vuole intervenire per dichiarazione di voto ne ha la facoltà si deve scrivere consigliere romano carancini per il gruppo pd prego sì grazie presidente ma prima per precisare alcune cose all'assessore dire che mi ha fatto tenerezza non era offensivo se lei lo interpreta in maniera offensiva come dire è un problema suo e quindi da questo punto di vista lo può interpretare non solo letteralmente certo è così poi è chiaro sì è così così capisco che è difficile consegua l'interpretazione attentica perché lo dice lo stesso proprio dichiarante prego e non c'era nessuna offesa non c'era nessuna offesa perché le sue risposte da quel punto di vista suscitavano tenerezza perché è evidente l'ha detto lei stessa un attimo fa lei ha letto delle cose che lei non conosceva che non corrispondono alla realtà quando quindi lei io le dico che ha fatto tenerezza era di comprensione di comprensione quando lei dice che io ho sminuito io non ho sminuito le sue diciotto borse di studio faccia uno sforzo non le ho sminuite ho solo detto che la proposta di mozione aveva ad oggetto situazioni diverse non le diciotto mozioni ben vengano fossero state anche di più o saranno di più noi siamo contenti non c'era assolutamente una una sottovalutazione ma la mozione il contenuto della mozione è altro ovviamente secondo me è molto di più quanto alle quanto alle diciamo no le prevedibili eh prevedibili critiche che sono arrivate quindi lo dico anche a Marina Angeli che insomma eh è rimasto stupito del mio attacco io credo di aver fatto come dire aver espresso in maniera molto propositiva nessun proprio nessuna polemica nessuna polemica esattamente il contrario ma come dire non credo che chi guarda poi capisce quello che voglio dire a proposito della strumentalità della strumentalità rispetto ai rapporti che ci sarebbero tra me e il rettore di macerata dico ai consigli regionali che noi non contiamo nulla nel sindaco nel rettore contano le comunità che è un'altra cosa e gli altri voglio ricordare a chi non lo sapesse poi come dire continuate su questo tema che io avrei sarei contro le università voglio ricordare cito solo uno ma se ne potrebbero elencare altri che comune di macerata nel corso l'amministrazione guidata da me ha stabilito modificato il proprio statuto lasciando un diritto di tribuna all'università gli studenti dell'università di macerata e dell'accademia in consiglio comunale poche università in Italia hanno fatto questo credo che sia lo dico solamente per simboleggiare credo che sia la massima il massimo riconoscimento il massimo valore attribuibile da una comunità di soggetti che rappresentano la città rispetto all'ente università non ce ne sono molte in Italia andatelo a leggere quante ce ne sono credo che solo questo basterebbe senza considerare altro gli investimenti del comune di macerata rispetto all'università ma quello che in realtà vale non è il sindaco o il rettore noi passiamo noi passiamo e se il sindaco attuale della città di macerata farà meglio io sarò felice di questo evidentemente ci può fare sempre meglio quello che dico a Marina Angeli che ha trovato parole diciamo plausibili quello che chiedo a Marina Angeli come si fa a mettere insieme una questione che ha riguardato la Latini nei giorni scorsi sul quale ognuno di noi ha la propria opinione voi neanche al primo intervento avete manifestato solidarietà lo avreste potuto fare questa mozione vi ha dato l'opportunità ma è un'altra cosa rispetto alla mozione è un'altra cosa stiamo parlando di un altro argomento lei stesso ha parlato di condivisione io se dico che si condivide il contenuto di una mozione lo voto però non è così del resto come dire tra le parole qui come dire a Macerada si direbbe si direbbe si direbbe siamo vecchi di caffè sappiamo tutti qual è la situazione non si vuole approvare una mozione che nel merito può essere condivisa ma che probabilmente si vuole mettere il cappello ho anticipato che se domani ovviamente non con con questa ecumenicità a cui si fa riferimento faceva riferimento anche il buon Marinelli quello che vale questa mozione è la capacità del del rapporto istituzione centri formativi dentro una programmazione che non si può fare con le associazioni quello viene un minuto dopo certo con i territori certo con i sindaci città sedi universitarie che poi ramificano gli investimenti la visione che quel nuovo strumento può mettere a disposizione prego di concludere ho finito e quindi da questo punto di vista come dire non c'è nessuna aggressività non c'è nessuna come dire offesa esattamente il contrario chiaro che se uno ha dei come dire un retroterra da questo punto di vista e pensa pregiudizialmente male ovviamente si può pensare male questo come dire Marinelli ci conosciamo no pure noi quindi da questo punto di vista sappiamo per queste ragioni credo che vada meriti l'approvazione di questa mozione per queste ragioni a nome del gruppo consigliare noi la voteremo favorevolmente convinti che sia un'occasione mancata ma che può evidentemente anche non essere l'ultima occasione come spero possa qualora non venga approvata come possa avvenire nel futuro grazie si è prenotato da remoto il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli quindi aspettiamo qualche secondo per perché si attivi il collegamento si è in linea sono in linea ho aperto sono in linea allora se si mi si sente allora innanzitutto osservare da remoto è molto interessante è difficile si sente qualche secondo a posto sono pronto allora se mi si sente mi si sente allora osservare da remoto è molto interessante perché un conto è stare dentro un sistema per recuperare il collegamento ha chiesto di intervenire attraverso un messaggio telefonico per dichiarazione di voto ecco prego voglio diruggeri urgentemente si pronto allora grazie grazie presidente allora osservare da remoto fare la dichiarazione di voto si allora osservare da remoto è molto interessante si si prego faccia la dichiarazione di voto perché da dentro il sistema come in fisica sei un osservatore interno da fuori invece hai modo di avere tutto io osservo questo che fare l'opposizione è duro sto dentro il sistema fare l'opposizione è duro perché chi governa agisce e ne ha esperienza al PD chi sta all'opposizione invece è impotente parla parla ma non può prendere decisioni è paradossale che dopo 25 anni di gestione da parte della sinistra di cui gli ultimi 15 il PD si parli dei massimi sistemi è quando uno ha avuto tutti questi anni per operare dentro i massimi sistemi no le proposte che fa il PD attualmente ci vorrebbero strutturate in ben altro modo non attraverso dichiarazioni sommarie di principio almeno 5 anni quindi pensate cosa significa università nelle marche l'università di Ancona implica per la facoltà di medicina un'azienda ospedaliera che ha 3200 dipendenti e 1000 posti letto pensate quindi cosa si aggancia l'università poi una facoltà è la facoltà di medicina con il territorio con i servizi alla persona alla gente tutti coloro che ci lavorano direttamente attraverso l'università o indirettamente che in questo caso sono a maggior parte quindi un progetto serio implica non il brand implica una visione organica del ruolo dell'università marchigiani nelle marche un ruolo storico che viene da lontano la facoltà di Urbino quella di Macerata quelle Camerino sono tra le più antiche d'Italia l'università di Ancona è recente che la Politecnica ha solo 50 anni poco più 51 se non sbaglio e quindi noi non si può liquidare sommariamente perché c'è bisogno di far vedere che uno sta sul pezzo con una mozione in cui si discute per un'oretta o poco più un problema così complesso come quello dell'università anzi indico l'assessore Latini verso la quale mostro i sensi della mia solidarietà per lattiacchi veramente volgari e aggressivi che ha avuto di indire una vera propria conferenza per l'università una conferenza dell'università in cui si coinvolgono non solo i rettori si coinvolgono gli organi universitari allargati si coinvolgono anche le rappresentanze degli studenti ovviamente la regione e non solo la regione perché come dicevo prima l'università è fortemente integrata con il sistema sanitario ma non solo con il sistema sanitario anche con una serie di enti per cercare di dare un modello marchigiano dell'università che hanno il vantaggio di essere piccole università rispetto alle grandi università italiane ma proprio perché piccole hanno una dimensione più gestibile e proprio perché hanno una dimensione più gestibile hanno un rapporto studente-insegnante studente-territorio operatore-territorio che è di grande interesse quindi noi non è che votiamo contro votiamo contro perché questa qui è una mozione che pretende risolvere il problema dell'università in poche righe è veramente ridicola quindi noi non è che votiamo contro la mozione sull'università votiamo contro il ridicolo cioè questo è quello che penso io non si può fare a meno di votare contro poi un documento articolato di programmazione eccetera quella è una cosa diversa sulla quale dovremmo avere tutti la massima disponibilità non si può fare a meno di votare contro poi un documento articolato di programmazione eccetera quella è una cosa diversa sulla quale dovremmo avere tutti la massima disponibilità non ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi metto a votazione la mozione numero 19 dei consiglieri Carancini Mastro Vincenzo Casini Borra Biancani Vitri Mangialardi Cesetti dal come oggetto brand le marche dell'università aperta la votazione prego votare chiusa la votazione favorevoli otto contrari diciassette astenuti due la mozione è respinta passiamo alla mozione successiva quella dal punto sei dell'ordine del giorno con la numerazione numero 23 delle consigliere Ruggeri e Lupini dall'avente d'oggetto attuazione della legge regionale 24 2009 verifica di conformità dei piani d'ambito dei rifiuti prodotti dalle ATA chi presenta la mozione il capogruppo del Movimento Cinque Stelle consigliera Marta grazie grazie la legge regionale 24 del 2009 disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale a tale scopo la regione approva e adotta il piano regionale di gestione dei rifiuti al quale si devono conformare gli strumenti programmatori di dettaglio del territorio ovvero i piani d'ambito che devono essere adottati dagli ambiti territoriali ottimali che sostanzialmente corrispondono più o meno ai territori provinciali i piani d'ambito sono deliberati dalle assemblee territoriali d'ambito le ATA composte dai sindaci dei comuni che compongono l'ambito territoriale ottimale il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente è stato approvato nel 2015 ed è entrato in vigore il 30 aprile del 2015 e alla scadenza del 30 aprile 2021 entro un anno dalla sua approvazione ci si attendeva secondo la legge regionale che le ATA delle 5 province adottassero i loro piano d'ambito redatti in conformità e correnze con il piano regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge citata praticamente ci stiamo avvicinando alla scadenza del piano regionale senza che nessuno dei piani d'ambito provinciali siano stati approvati e validati a parte quello che è avvenuto poco prima di Natale ovvero l'approvazione del piano d'ambito di Ancona e avevamo già insomma noi protocollato la nostra interrogazione la nostra mozione per fare degli esempi concreti per quanto riguarda la provincia da cui provengo da cui sono state elette la proposta di piano d'ambito delle ATA 1 di Pese è stata trasmessa il 26 aprile del 2017 all'esito dell'istruttoria da parte dell'ufficio preposto della regione essendo state rilevate diverse criticità in particolare nelle modalità di gestione delle discariche con conferimenti di rifiuti speciali anche da fuori regione oltre la percentuale del 50% dei rifiuti solidi e urbani io immagino che voi tutti abbiate scorso i giornali sia dicembre che anche oggi per esempio perché un giornale locale titola a caluccio che la discarica di urbino traffico senza sosta risposte gestioni poco chiare tir in fila così esattamente come è accaduto pochi mesi fa questa è una prima criticità quella della gestione delle discariche ma la seconda e non è di minore importanza è l'eccessivo dimensionamento previsto per l'impianto di trattamento meccanico biologico di Tavuglia capacità di trattamento di 100.000 tonnellate all'anno contro un fabbisogno di trattamento prospettico dell'ambito territoriale di 65.000 tonnellate all'anno il documento preliminare è stato rimandato al mittente per le necessarie correzioni ma l'ata 1 non ha ritenuto di condividere i rilevi della regione e ha risposto con una lettera di contradduzioni il risultato è che il piano d'ambito ripeto dell'ata 1 non è ancora stato adottato i gestori del servizio di igiene urbana del territorio che sono Marche Multiservizi ed Aset stanno operando e pianificando gli investimenti negli impiatti ad il fuori di qualsiasi programmazione pubblica per esempio voi sapete che è stata istituita un'ata la società controllata Green Factory SR che ha già presentato un progetto per un impianto di trattamento della Forsu mediante digestione anaerobica e produzione di biometano di dimensioni tali da anche questo impianto come quello di TMB avere una considerevole quantità di rifiuti da fuori provincia e da fuori regione quindi esattamente così come è avvenuto per il piano d'ambito che è stato rimandato indietro con le deduzioni per l'impianto di TMB visto che il piano d'ambito non è stato approvato adesso ci sono le imprese private che stanno andando avanti fuori completamente dalla gestione pubblica e questo è un problema veramente serio dal nostro punto di vista quindi ci risulta che anche altri piani d'ambito al di là di quello di Ancona si trovano in una situazione di questo tipo e riteniamo che sia indispensabile e urgente un'azione politica da parte della regione che blocchi la situazione e quindi abbiamo chiesto che sia applicata la legge regionale 24 del 2009 i motivi sono presto detti alcune cose ve l'ho già dette altre sono contenute all'interno della mozione la mancata approvazione dei piani d'ambito da parte delle ATA sta avendo un grave risultato un irreparabile deficit di programmazione la programmazione non la sta gestendo il pubblico ma i privati stanno andando avanti in ordine sparso per fare profitto e non certo per difendere la salute sia dell'ambiente che dei cittadini e quindi c'è una abdicazione del governo pubblico del servizio in questione il modus operandi di cui sopra di fatto sta consentendo a soggetti privati di riempire del vuoto decisionale pubblico che pare orientato a perseguire una logica di operosa inerzia tali soggetti privati hanno tendenzialmente come unico scopo quello del profitto di impresa piuttosto che dell'esclusivo interesse della collettività locale quindi questo è il quadro secondo noi questa è una mozione di peso importante vedo che c'è molto poco interesse in aula e sinceramente mi dispiace tutt'altro mi fa piacere insomma comunque la situazione è questa da due anni aspettiamo l'approvazione dei piani d'ambito non essendo stati approvati il piano d'ambito i privati vanno avanti in ordine sparso non è possibile che su un tema così delicato come la gestione dei rifiuti non ci sia a gestire le cose il pubblico quindi chiediamo che i nuovi amministratori la nuova giunta prenda in mano la situazione e veramente apporti un cambiamento cioè che richieda che venga fatto quello che la legge regionale prevede grazie grazie se ci sono interventi chiediamo adesso un attimo il collegamento con l'assessore Aguzzi quindi attendiamo un secondo vediamo un attimo se si può collegare se è collegato non è collegato nemmeno telefonicamente in questo momento e quindi dobbiamo provare ancora una seconda volta altrimenti rinunciamo al collegamento con l'assessore Aguzzi che è l'assessore competente per quanto riguarda la materia dei rifiuti deve prendere ecco prego no semplicemente perché ho sentito adesso ho sentito adesso l'assessore ecco adesso un attimo ok non gli parte l'auto riproviamo riproviamo il collegamento manca l'audio l'assessore è in collegamento ma non riesce a collegarsi con l'audio capogruppo vuole fare l'intervento intanto oppure soltanto per vuole fare l'intervento no allora adesso aspettiamo ancora un secondo grazie a tutti Grazie a tutti. No, mi sentite? Adesso l'hanno disattivato loro, secondo me. Mi sentite? Ma voi lo sentite? Adesso qui è attivato, ma non va. Ha detto che loro si sentono. Allora, Presidente, l'abbiamo riattivato? Sì, sì, ecco. Il suo intervento... Mi sentite? Sì, la sentiamo chiaro e bene. Il suo intervento è solo mozione... Sì, noi la sentiamo. Adesso l'hanno disattivato loro, secondo me. Bene. Allora intervengo, no? C'era questo problema, non so se dipendeva da qui, da me o da voi. L'importante è averlo superato. Sì. Procedo, Presidente. Mi faccio un cenno. Sì, sì. Può fare il suo intervento. Bene, grazie. Prego, faccia il suo intervento. Grazie. Io intanto ringraziando lei, ma ringrazio... Sì, sto parlando. Mi ascoltate? Pronto? Mi sentite? Sì, Assessore, faccia l'intervento. Bene. Prego, può procedere. S'è bloccato lo schermo. Mi chiamo a quel ragazzo. Mi sentite, Presidente? Io non so se lo vi devo dire. Può parlare, può procedere. Vado avanti. Oh, bene. Sì, l'ascoltiamo. Può procedere. Perfetto, sarò veloce, visto che abbiamo perso un po' di tempo. Comunque, volevo intanto ringraziare la consigliera Ruggeri, che ha sollevato una questione indubbiamente molto reale rispetto alla mozione che ha presentato. Dico molto reale perché insediandomi qui a ottobre... Noi ascoltiamo, lei proceda con il suo intervento, senza fermarsi. Io non mi fermo. Dicevo che insediandomi qui ho subito notato una serie di situazioni, di una serie di leggi normative che erano ormai datate e che avrebbero meritato già una rivisitazione anche in tempi precedenti. Vi posso riferire al piano CAVI, come vi posso riferire alla legge urbanistica più in generale, ma qui ci soffermiamo sul piano regionale dei rifiuti. Il piano regionale dei rifiuti, la regione Marche, lo ha approvato nel aprile 2015 ed entro un anno da quella data le ATA provinciali avrebbero dovuto produrre, quindi adeguando la loro strategia, quello che era il piano regionale e approvando appunto i piani provinciali. Questa cosa non è mai avvenuta, se non come diceva poco fa la consigliera Ruggeri giustamente, in extremis l'ATA di Ancona, ma anche su questo, adesso senza scendere nei particolari, ci sono delle situazioni che vanno chiarite, non so se è una validazione reale o che dovrà invece essere rivisitata, credo la seconda. Ma su questo ci torniamo. Cosa è avvenuto quindi in questi cinque anni? che il piano d'ambito ovviamente spingeva fortemente sulla raccolta differenziata, no il piano d'ambito, il piano regionale scusate, e su questo gli ambiti hanno comunque operato, e la regione Marche sotto questo punto di vista ha, diciamo così, una raccolta differenziata buona, abbastanza buona in maniera omogenea su tutto il territorio. Qual è il problema vero? Il problema vero poi è la mancanza di strategia, cioè noi investiamo tanto come regione, le società che gestiscono il settore investono tanto per quel che riguarda la raccolta differenziata, per poi portare la stragrande maggioranza di quanto viene raccolto e differenziato in impianti di riciclo al di fuori del territorio regionale, perché qui da noi manca di fatto una strategia di riconversione, di differenzazione reale, di riutilizzo in questa regione. Effettivamente qui il piano prevede di fatto solo le discariche e anche le discariche che sono comunque previste, in parte sono esaurite, ma non è certo quello l'orientamento dell'Europa e la strategia migliore per quel che riguarda l'utello ambientale e il riutilizzo appunto di queste sostanze. Conseguentemente insediandomi qui ho subito notato questa cosa e ho già dato mandato ai miei uffici di iniziare a pensare ad un nuovo piano d'ambito regionale che noi dovremo portare nel, tra virgolette, il più breve tempo possibile per quanto occorrerà comunque lavorarci un po' per capirne meglio le strategie, che individui il modo, diciamo così, di chiudere il cerchio, nel vero senso della parola si parla di economia circolare, di arrivare quindi ad avere anche una sufficiente impiantistica in questa regione che consente in qualche modo di non solo riciclare ma anche riutilizzare la gran parte dei rifiuti prodotti e lasciare la minor parte possibile poi per andare nelle discariche e che devono comunque anche queste essere in qualche modo individuate e rinnovate per il futuro. La consigliera Ruggeri, ripeto, ha ragione sotto molti punti di vista tant'è che io non nascondo assolutamente né alla consigliera Ruggeri né all'Aula che proprio i giorni successivi a quando è stata presata questa mozione e ne è stata notificata, io oltre ad aver preso preventivamente i contatti tramite i nostri uffici con le varie ATA e anche con i direttori direttamente e personalmente in qualche caso ho proprio fatto una lettera a tutte le ATA provinciali dicendoli che la regione Marche si avvia a redigere un nuovo piano regionale dei rifiuti e per appunto approcciare questo tipo di iniziativa occorrevano delle relazioni precise da parte delle cinque ATA sullo stato d'avanzamento dei loro piani provinciali per capire come si erano mossi, lo stato dell'arte, come si erano mossi cosa avessero prodotto nella attuale diciamo situazione di questo periodo. Il giorno di scadenza credo sia ieri o oggi e a stamattina mi risulta nessuna delle cinque ATA abbia risposto a questa nostra missiva. Prendiamoci pure qualche ora di tempo ma qualora effettivamente non rispondessero è il caso a questo punto di convocarle ufficialmente come regione e iniziare a ragionare insieme a loro. Quindi detto questo voi direte quindi la mozione della consiglia Ruggeri oltre che essere giusta, motivata è anche da approvare. Su una cosa io invece sarei restio e lo dico con molta serenità perché a un certo punto la mozione della consiglia Ruggeri dice impegna il presidente della giunta regionale e l'assessore ad esercitare tempestivamente il potere sostitutivo previa formale di fida da inoltrare alle ATA. Cosa vorrebbe dire questo? Che di fatto le ATA non avendo proceduto alla realizzazione dei piani provinciali noi di fatto dovremmo commissariarle cioè dovremmo farle noi. io non voglio nemmeno escludere questa eventualità qualora questa situazione perduri nel tempo però devo dire la verità io non sono una persona che ama tagliare le teste nel senso occorre comunque anche un dialogo questo tutto al più era un qualcosa che poteva aver fatto l'aggiunta precedente, l'amministrazione precedente dopo quattro anni che le ATA non le hanno risposto noi ci siamo appena insediati abbiamo iniziato a prendere i contatti con il presidente delle ATA provinciali e i direttori delle ATA provinciali abbiamo anche scritto a questo punto io sarei maggiormente orientato come assessore a costruire insieme alle ATA provinciali il nuovo piano di rifiuti prevedendo anche quella impiantistica inedita innovativa necessaria su questo territorio sulla quale ovviamente poi dovremmo ragionare come consiglio regionale e a divenire la miglior soluzione possibile ad esempio agganciandomi a quello che diceva la consigliera Ruggeri il biodigestore di Pesaro io non vedo in maniera negativa un biodigestore anzi dico che necessita fortemente sul territorio di Pesaro come su quello di altre province della nostra regione ma occorre calibrare bene secondo le esigenze dei nostri territori e soprattutto che sia poi gestito e seguito da una mano pubblica nelle prossime ore uscirà anche una mia intervista sulla stampa dove io sostengo che Marche Multiservizi che è proponente di questo impianto nella provincia di peso si associ con Aset che è l'azienda pubblica di Fano in modo da aumentare fortemente la quota del pubblico per intervenire in quell'impiantistica però con mano pubblica non tanto con mano prettamente privata però detto questo in questo ripeto mi differenzio se noi quindi andassimo a votare la mozione della consigliera Ruggieri pur avendo delle basi più che mai giustificate più che mai giustificate andremmo a una rotta di collisione con i sindaci dei territori con i presidenti delle province con le ata stesse io sinceramente dopo appena tre mesi che sono qui come assessore a nome dell'intera amministrazione eviterei una rottura con le ata e con le amministrazioni locali ma piuttosto sarei orientato a costruire insieme a loro un percorso che porti ad un buon migliore piano regionale dei rifiuti il più adatto possibile alle nostre esigenze e alle specificità della nostra regione quindi per questo non mi sento di indicare un voto positivo perché sinceramente ci andremo diciamo così a lavorare nell'immediatezza dei rapporti che invece io proverò a portare avanti in maniera positiva per il bene di tutto il territorio è chiaro che se poi da qui alle prossime settimane o ai prossimissimi mesi capiremmo che questo percorso oltre che arduo è reso anche diciamo è reso ed è ostacolato come è stato in questi quattro anni precedenti non voglio nemmeno escludere un'eventualità di quel genere proporlo oggi con una mozione che venisse approvata in questo senso sinceramente lo ritengo eccessivo anche perché un'amministrazione regionale deve lavorare insieme ai sindaci e ai presidenti dei principi del territorio non deve andare ad uno scontro premeditato perlomeno ecco essendo l'inizio del mio mandato non mi sento di dare un parere favorevole a questa mozione con questa motivazione non perché non abbia delle buone ragioni grazie Assessore grazie del suo intervento lo consideriamo chiuso con queste ultime parole ritorniamo in aula se ci sono consiglieri che vogliono chiedere la parola si devono prenotare non ci sono no prima vediamo se ci sono altri interventi altrimenti dichiaro chiusa la discussione chiusa la discussione la parola è per cinque minuti al proponente che è al relatore della proposta di mozione la consigliera Marta Ruggeri prego grazie presidente è un po' surreale questo dialogo a due tra me e l'assessore Aguzzi che è più o meno quello che è avvenuto recentemente sulla mozione per l'amianto e anche in quel caso mozione bellissima anzi ordine del giorno perché sapete bene le vicissitudini di quell'atto prima la mozione poi l'emendamento e poi abbiamo proposto qui in ordine del giorno adesso ci ritroviamo a vivere la stessa scena su un altro argomento importantissimo su cui con l'assessore siamo d'accordissimo però l'atto viene bocciato un'altra volta allora io all'assessore dico che non è discrezionale applicare la legge questa legge regionale è stata votata nel 2009 noi non eravamo esistevamo da poco noi del movimento 5 stelle quindi non è sicuramente responsabilità nostra se si parla di diffide di commissariamento e se l'assessore o ai consiglieri di maggioranza di opposizione sembra troppo non è responsabilità nostra noi chiediamo semplicemente che venga applicata la legge cosa che non è avvenuta negli 4 anni precedenti e cosa che ci auguriamo che avvenga nei tempi che meglio richiede l'assessore Aguzzi ed è per questo che io vi rilancio la palla in campo e vi dico vi indispettisce il tempestivamente leviamolo l'assessore Aguzzi si prende ai suoi tempi per verificare quando mandare la lettera di diffida quando eventualmente e quali ata commissariare speriamo tutti che non ce ne sia assolutamente bisogno però questa è la proposta che esce dal movimento 5 stelle anche perché comunque mi fa piacere che l'assessore abbia riconosciuto che ha cominciato a muoversi dopo che abbiamo presentato la mozione e questo comunque il risultato politico al di là del voto che esprimerete è molto importante perché vuol dire che comunque una mano al vostro lavoro la stiamo dando a prescindere perché se non avessimo accese le spie della legge sull'amianto che non era stata rifinanziata infatti dopo è stata rifinanziata con un emendamento della come si chiamano emendamenti sì adesso non mi viene in mente della maggioranza e adesso stiamo affrontando un'altra tematica che vi abbiamo posto noi sul piatto della bilancia quindi adesso è da verificare molti di voi sono già stati in opposizione quindi sanno che quando si fa opposizione bene penso poter dire che io e la mia collega stiamo facendo non in modo strumentale ma per perporre in discussione cose importanti per la regione un minimo dico un minimo di soddisfazione bisognerebbe riconoscerla perché se no è veramente troppo frustrante fare opposizione così bravi bravi però vi bocciamo gli atti sapete chi faceva così? lo sapete? il PD il PD del mio consiglio comunale ha fatto così per sei anni e mezzo e io mi aspetto da voi in atteggiamento diverso magari sbaglio vedremo grazie allora la discussione è chiusa l'intervento che chiede Romano Carancini il consigliere Romano Carancini no ho dichiarato chiusa la votazione ho dichiarato chiusa la discussione ho dichiarato chiusa la discussione e quindi ho lasciato la parola per l'intervento alla consigliera Ruggeri quale relatore della proposta di mozione apriamo la fase della dichiarazione di voto sulla mozione numero ventitré chi vuole intervenire per la dichiarazione di voto chi interviene rappresenta il gruppo di appartenenza salvo espressioni di senso dichiarate non ci sono dichiarazioni di voto no c'è il capogruppo del PD Maurizio Mangialardi prego sì grazie presidente per dichiarare il voto di astensione del gruppo del partito democratico abbiamo ascoltato attentamente la presentazione e saluto anche con grande favore l'intervento dell'assessore che ha dovuto aspettare le sollecitazioni della consigliera per mettere mano al percorso lo valutiamo sempre in maniera molto positiva questo i solleciti che avvengono che determinano poi delle azioni presuppongono che non ci sia un'adeguata conoscenza degli strumenti io condividerei l'atto perché è vero che ci sono alcune realtà dove il piano d'ambito non è stato strutturato e quindi non produce gli effetti che vorremmo e che erano previsti dal piano regionale però ascoltando le indicazioni che arrivano dalla giunta attraverso le parole dell'assessore che c'è la volontà di rimettere in mano al piano regionale e quindi i due strumenti a quel punto andrebbero in grande contraddizione perché se dovessero approvare i piani d'ambito che non sono stati come dire attuati finora e vengono messi a disposizione che poi determinano poi le scelte di pianificazione impiantistica territoriale quello strumento andrebbe a condizionare fortemente il nuovo piano che la giunta sta pensando quindi siccome noi invece siamo sempre proattivi e pensiamo alle necessità del territorio alle necessità dei dei nostri amministratori e degli ambiti così come individuati riteniamo che quel tempo possa servire appunto per recuperare le grandi esperienze del territorio gli obiettivi importantissimi che questa regione è riuscita a raggiungere nell'ambito della raccolta differenziata della diminuzione della produzione dei rifiuti grazie anche alle politiche che sono state messe in campo negli anni precedenti le scelte in ambito impiantistico che hanno permesso almeno alcune ambiti di trovarsi all'avanguardia quindi riteniamo che ci debba essere quel tempo di coinvolgimento del territorio per far sì che possa produrre un nuovo piano regionale dei rifiuti in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze e le prospettive di una regione sostenibile grazie grazie consigliere ha chiesto di parlare il consigliere Luca Serfilippi prego grazie presidente il tema della mozione della consigliera Ruggeri e Lupini è sicuramente importante e anche come confermato dall'assessore Aguzzi è chiaro che noi dovremo dare un segnale importante ai marchigiani e tutte le nostre province anche perché ereditiamo una situazione veramente imbarazzante noi lo vediamo in particolar modo nella provincia di Peso Rubino ma penso che anche nelle altre province ci siano dei grandi deficit quindi è sicuramente importante mettere mano alla modifica di questa legge e se necessario anche intervenire per quanto riguarda gli ambiti detto questo io penso che anche le parole dell'assessore Aguzzi siano importanti perché significa che già l'assessore si è mosso per sollecitare gli ambiti territoriali e vediamo che cosa rispondono che cosa hanno prodotto in questi anni di certo io invito anche l'assessore comunque a venire in commissione magari parlandone anche con il presidente Antonini tutta la nostra commissione perché sicuramente è importante capire anche qual è la linea che la giunta riterrà opportuno portare avanti da qui in poi pertanto per quanto riguarda la mozione mi sembra che in parte sia stata superata perché comunque l'assessore si è già mosso e dall'altro è sicuramente importante che questa tematica venga innanzitutto affrontata in commissione e poi eventualmente portata in consiglio regionale per quanto riguarda invece il discorso politico della consigliera Ruggeri io ero in consiglio comunale con lei e abbiamo visto come ci trattava il PD penso che invece questa maggioranza abbia dimostrato che quando da parte dell'opposizione ci vengono fornite delle emozioni e dei documenti comunque sia importanti che hanno anche una valenza l'abbiamo visto anche in sede di bilancio preventivo dove alcuni emendamenti sono stati approvati noi non abbiamo pregiudizi ideologici di nessun tipo in questo caso ripeto io direi di dare mandato comunque all'assessore Aguzzi a rivedere tutta la legge e anche a discuterne insieme in commissione consigliare ci sono tante tematiche ambientali che dovremmo affrontare questa sarà sicuramente una delle più importanti e mi viene da dire come anche lei sollevato consigliera Ruggeri è anche urgente quindi come gruppo lega penso anche come maggioranza voteremo contrariamente questa mozione grazie presidente grazie consigliere non ci sono altri interventi c'è l'intervento per dichiarazione di voti dalla consigliera Marta Ruggeri prego grazie presidente io vorrei sapere la mia proposta che fine fa perché non mi è stata data risposta siete andati avanti a testa da riete per sfondare un'emozione che pure vi piace tanto senza tenere in considerazione le variazioni che ho portato sul tema pochi minuti fa quindi gradirei una risposta io chiedo chiediamo semplicemente l'applicazione della legge non vi dettiamo più i tempi secondo noi tempestivamente sarebbe stato meglio però volete tempi più lunghi per provare a dialogare con le ATA benissimo togliamo l'avverbio e resta quello che avete detto che farete insomma e che avete iniziato a fare dopo nostre sollecitazioni detto questo naturalmente noi voteremo a favore di questa mozione capiamo che c'è un problema politico perché le ATA inadempienti come dicevo prima sono costituite da sindaci in gran parte di centrodestra e centrosinistra quindi voglio dire io capisco che il centrodestra sia in imbarazzo a votare questa mozione e cerca strade più dolci più edulcorate per raggiungere lo stesso obiettivo vi ricordo solo che la stessa cosa l'ha fatta il PD e non è arrivato da nessuna parte vi auguro che con la vostra tranquillità e lentezza si arrivi a qualcosa di meglio perché se no insomma per noi del Movimento 5 Stelle che siamo gli unici che possiamo portare avanti questa battaglia con coerenza e determinazione sarà gioco facile iniziare ad attaccarvi sul punto grazie grazie consigliere Carancini solo se vota in dissenso del gruppo scusi assolutamente lei la parola è corretto giustamente vota in dissenso e quindi anche con come dire la condivisione del del consiglio del mio caporuppo proposta dico al Movimento 5 Stelle se posso intervenire che quando si fa il maggiordomo purtroppo vi invitano quando fa come a mangiare un po' i resti è evidente questo è evidente questo se voi fate la stampella o i maggiordomi della maggioranza è chiaro è chiaro che avviene questo io devo dire che nel merito condivido le parole del dell'assessore Aguzzi sono parole responsabili ragionevoli come dire amministrative di una persona all'altezza che comprende come si affronta un tema dedicato come quello delle ATA voi siete duri e puri duri e puri attenzione che quando siete duri e puri poi siete i primi a cadere siete i primi a cadere come dire ci sono esempi 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 dell'abbattimento delle povertà esempi che il giorno dopo dite esattamente il contrario di quello che dite prima come dire non siete duri e puri lo siete a parole cara consigliera Ruggeri e quando e quando e quando lei si lamenta e continua a ringraziare io sono felice quello che però è il consiglio che gli do fatevi una telefonata si faccia invitare in maggioranza quando i capigruppo di maggioranza si vedono con l'esecutivo fatevi invitare perché altrimenti vi umiliano vi umiliano vi fa si è si è un po' si è un po' citata io sono stato zitto quando lei prima ha offeso il partito democratico io non ho problemi io come dire il suo ragionamento suo ragionamento di merito non è un ragionamento sbagliato ma giustamente l'assessore in questo passaggio come dire è prudente e soprattutto cerca di capire cosa sta succedendo perché in ogni territorio ci sono situazioni diverse io posso testimoniare che nella provincia di macerata c'è una situazione molto delicata per tante ragioni che è inutile che sto qua a ripetere però c'è un dato politico in questa mozione non è solo il merito cara consigliera Ruggeri le voglio dire si faccia invitare cambi come dire è l'abito da maggiordomo che il Movimento Cinque Stelle da stampella fa la maggioranza e sia da questo punto di vista più capace di identità e non come dire di ringraziamento voterò favorevolmente chiedo scusa contro alla 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 mozione grazie consigliera Garancini la consigliera Jessica Marcozzi prego di creazione di voto no ma semplicemente per fare chiarezza consigliere Garancini noi non umiliamo nessuno non è nelle nostre intenzioni visto e considerato che io sedevo lì nei banchi dell'opposizione per cinque anni l'arroganza dell'amministrazione regnava sovrana noi non ci siamo mai permessi di essere arroganti non ci permetteremo mai non è nelle nostre intenzioni umiliare qualcuno cioè semplicemente rispetto di quest'aula e rispetto delle persone grazie dichiarazione di voto noi voteremo no no l'ha già detto l'assessore Aguzzi che è intervenuto noi voteremo contro questa mozione perfetto grazie e il consigliere Andrea Assenti in dissenso dalla Lega no Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia anche al buon presidente non si preoccupa non è questo il problema volevo dire Fratelli d'Italia ma io solo per fare un po' il punto della situazione veramente veloce sia su come hanno votato o come si stanno apprestando a votare il gruppo del Partito Democratico perché vede consigliera Ruggeri lei ha perfettamente ragione quando dice che non c'eravate però ahimè purtroppo non è vero perché negli anni passati nell'ultima legislatura almeno due dei suoi consiglieri regionali soprattutto e mi riferisco a quello eletto a quello eletto nella circoscrizione di Ascoli Piceno aveva poteva interagire e chiedere all'attuale all'allora amministrazione regionale l'attivazione dei poteri sostitutivi cosa che non è stata fatta in un silenzio assordante oggi del Partito Democratico perché perché hanno esattamente cognizione e coscienza che quello che avrebbero potuto fare non è stato fatto perché perché c'era il famoso dilemma dibattito sull'attivazione e l'applicazione di Marche Nord Marche Sud siccome siamo arrivati esattamente dopo tre anni dall'idillio dall'inizio di questa operazione siamo arrivati alla fine al fine 19 che non si è riusciti poi a portare avanti questa operazione le società incaricate dalle ATA da ciascuna ATA provinciale hanno rivandato la palla a futura memoria tant'è che nella provincia di Ascoli la consigliera Casini sa esattamente che la ditta OIGOS brancola esattamente nel buio da tre anni perché non hanno mai più ricevuto l'input sulla definizione delle Marche Nord Marche Sud quindi siccome io l'ATA ci ho fatto parte da vice sindaco per ben quattro anni e il problema è esclusivamente politico cioè se l'ATA partecipano i sindaci e questa maggioranza dei sindaci a quadra centrosinistra è stata spaccata per anni sulla definizione del dilemma che dicevo prima è normale pensare che nessuno potrebbe mai addivenire una soluzione così come sulla regolamentazione della norma di bonifica altro tema importante esposto poi al ministro in persona diversi anni fa perché sicuramente dovrebbe essere poi rivisitato e migliorata la legge quindi io penso che quello che diceva l'assessore Aguzzi è pienamente condivisibile perché noi arriviamo in un periodo dove dobbiamo iniziare a dialogare con l'ATA magari dando delle prescrizioni chiare certe anche dando una tempistica chiara oggi però limitarsi nel dire entro tre mesi attiviamo i poteri sostitutivi di una regione francamente sembra sembra azzardato però prendo di buon auspicio quello che diceva l'assessore quindi aspettiamo vediamo che tipo di lavoro si riesce a fare con le varie ATA anche perché sono state costituite come ben ricordava cinque anni fa nella migliore dell'ipotesi ma l'ultima l'anno scorso dopodiché vediamo se è il caso che la regione intervenga direttamente o meno quindi il nostro voto a nome del gruppo di Fratelli d'Italia è contrario a questa mozione grazie consigliere non ci sono altri interventi e ha già espresso il dichiarazione ha già fatto la dichiarazione di voto ecco esprima il concetto su che cosa è stata chiamata come fatto personale maggiordomo devo sedere alle riunioni di giunta devo passare in maggioranza devo smetterla di portare l'acqua in maggioranza noi non portiamo l'acqua in maggioranza noi stiamo mettendo in discussione delle questioni che evidentemente sono anche importanti mi sembra visto quanto ci siamo scaldati tutti mentre poco fino a poco fa c'era una noia mortale e si interveniva per inerzia e questo deve essere riconosciuto perché qualsiasi atto abbiamo portato ha suscitato finora un minimo di discussione sentita perché sono siamo andati a toccare nodi importanti quindi io non permetto perché a differenza di qualcun altro ho poca pazienza che mi si tratti così me e la mia collega due donne che non portano l'acqua a nessuno ma fanno politica da diversi anni e con onestà intellettuale e con libertà parola che voi non vi compete forse perché evidentemente siete abituati a essere poco liberi discorso che facevo prima non siete liberi di votare a favore questa mozione perché i vostri sindaci inadempienti sono dentro le ata i nostri no e quindi io Simona oltre a averla portata questa mozione la votiamo anche a favore le uniche qui dentro due voti a favore i nostri grazie dunque io ho lasciato parlare il capogruppo e consigliera Marta Ruggeri il fatto personale ne ravvisavo la sussistenza in termini di maggiordomo eventualmente diciamo così interpretato in senso negativo e quindi l'attribuzione di una qualità personale negativa però per la prossima volta in senso dell'articolo 61 prima di poter entrare nel vivo della discussione del fatto personale bisogna che il presidente ravvisi la sussistenza dopodiché chi si è sentito attribuire delle qualità personali negative o fatti inesistenti può intervenire quindi è stato fatto di fila adesso se chi ha provocato il fatto personale il consigliere Garancini ha tre minuti di tempo per replicare sul fatto personale va bene quindi la parola al consigliere Garancini per la prossima volta chi chiede il fatto personale deve prima avere l'autorizzazione della presidenza dell'assemblea che è purtroppo per me l'unica a poter decidere nel contesto dei lavori dell'assemblea se si ravviso o meno il fatto personale mai avrei voluto offendere personalmente né Marta né Simona ovviamente ho fatto una considerazione di carattere politico che cosa ho voluto dire evidentemente che alla luce di quanto è accaduto in questi tre mesi con una serie di votazioni poi ognuno fa la propria come dire partita è evidente che peraltro con lo stessa con la stessa enfasi utilizzata dalla consigliera Marta Ruggeri talvolta nel ringraziare infaticamente la maggioranza rispetto alle proprie esigenze ho ritenuto che politicamente non stando organicamente in maggioranza come dire sono fuori dalla porta ascoltano e origliano la maggioranza e poi intervengono quindi non c'era nessuna questione nessuna questione personale anzi ho una ho sinceramente simpatia e così come del resto non eravamo intervenuti in precedenza quando la Marta Ruggeri aveva aveva un po' come dire alzato il livello di discussione rispetto al PD quindi per me finisce qui non intendo neppure replicare ma solo dire che era stato un segno però come dire è politica non certo personale al contrario bene chiarito il fatto personale entriamo nel vivo della votazione quindi apriamo le votazioni sulla mozione numero 23 punto numero 6 dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri Ruggeri e Lupini del Movimento 5 Stelle attuazione della legge regionale 24 2009 verifica di conformità di piani d'ambito e di rifiuti prodotti dalle ATA dichiarazione apertura della votazione prego votare come si fa passiamo alla mozione passiamo alla mozione successiva di cui al punto 7 dell'ordine del giorno la mozione numero 26 delle consigliere Lupini e Ruggeri del Movimento 5 Stelle avendo ad oggetto misure per il sostegno dell'educazione all'affettività e all'educazione sessuale consapevole chi espone la mozione allora direi di fare in questo modo ecco arriva allora aspettiamo no consiglieri allora lei la parola per quanto riguarda la presentazione della mozione numero 26 misure per il sostegno dell'educazione all'affettività all'educazione sessuale consapevole prego grazie presidente allora questa questa mozione nasce un po' da una richiesta dopo confronto con i cittadini soprattutto con i genitori che si trovano ad assistere alle discussioni politiche sulla sulla legge 194 sull'aborto e quindi di conseguenza sulla sessualità e un po' diciamo superando le questioni ideologiche si preoccupano della salute dei loro figli e della gestione dell'affettività non parliamo di educazione alla sessualità perché sarebbe riduttivo io tra l'altro da tecnico del campo parlo di educazione all'affettività perché in tutta questa diatriba che ha portato anche a insomma dover prendere le distanze da certi toni aggressivi e controproducenti che abbiamo visto sui giornali e sui social direi che dobbiamo fare delle proposte concrete che vadano a tutelare la soprattutto la gioventù della nostra società io non ho sentito nessuno protestare perché in questi mesi i ragazzi non andando a scuola hanno perso completamente il confronto con i loro coetanei e hanno perso soprattutto una cosa molto preziosa che è l'educazione all'affettività chiaramente la didattica a distanza è stata necessaria questo senza alcuna polemica ma non ho sentito nessuno preoccuparsi della mancanza di questo aspetto nella didattica e per questo abbiamo presentato questa mozione la mia collega Ruggeri è anche insegnante io sono una psicologa e ho lavorato tanti anni nel consultorio quindi questa è una proposta che va un po' anche diciamo con lungimiranza a pensare a quando questi ragazzi che hanno come dire hanno molto collaborato per quello che possono vista l'età i ragazzini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia hanno conservato un po' della loro socialità gli adolescenti di fatto hanno dovuto rinunciarvi gli abbiamo chiesto un grande sforzo che hanno fatto per tutti noi io però credo che vadano anche in qualche modo anche loro compresi nella loro comunque difficoltà di gestire poi le relazioni le relazioni umane le relazioni affettive e sentimentali allora per anni abbiamo combattuto e si fa molta fatica a fare educazione all'affettività nelle scuole perché ci sono i programmi curricolari perché gli psicologi del consultorio e anche su questo io avrei voluto sentire una protesta fortissima da parte della politica sul fatto che i consultori sono stati svuotati non sono stati non c'è stato il ricambio generazionale non sono mai stati potenziati e questo lo dico insomma ad onor del vero quindi se vogliamo veramente tutelare il valore sociale dell'affettività della sessualità e della della responsabilità e prevenire il grave insomma la grave esperienza a livello psicologico dell'aborto come è stato detto da più parti seppure rappresenta un diritto e la legge 194 lo definisce in modo chiaro dobbiamo andare a pensare ai giovani perché comunque hanno perso in questi mesi in cui la scuola di fatto ha fatto quello che ha potuto questa possibilità la mia proposta è quella di andare a costruire attraverso le piattaforme su cui insomma viaggiano i giovani poi la modalità con cui farlo non è certo appannaggio della minoranza ma disponibile a insomma a pensare i modi migliori che possano andare a raggiungere il target giusto andare a parlare con i ragazzi a formarli e sensibilizzarli su queste tematiche così importanti la vera prevenzione si fa nelle fasce più giovani non si fa certo insomma negli adulti anche se a cascata va sicuro che andando a lavorare con i più giovani noi andiamo a rieducare e a sensibilizzare anche i genitori gli educatori gli insegnanti quindi questo format funziona da sempre nella scuola formazione e sensibilizzazione di insegnanti genitori e ragazzi lo possiamo fare anche utilizzando questi metodi più ibridi della didattica integrata quindi la mia proposta è molto concreta anche a superare tutte queste polemiche che io credo che ai ragazzi interessino poco e credo anche che i cittadini non vogliano tante polemiche ma vogliano i fatti grazie grazie consigliere apriamo la discussione sulla mozione chi vuole intervenire si deve prenotare allora ha chiesto di parlare il consigliere Giorgio Cancelleri prego sì grazie presidente allora io nel merito posso essere sicuramente d'accordo con la consigliera Lupini su cercare di investire il più possibile per il sostegno dell'educazione all'affettività prima che alla sessualità perché poi quello della sessualità diventa un tema conseguente rispetto all'affettività anche perché anche perché sono testimone che sostanzialmente grandi investimenti attualmente non vengono fatti in questo in questo tema porto per esempio l'esempio della scuola della scuola dove spesso per per far sì che si parli ai ragazzini di affettività e di sessualità si debba spesso ricorrere a genitori o amici di genitori che magari vengono a scuola cioè a soggetti esterni a spiegare il tema dell'affettività e della sessualità quindi vuol dire che sostanzialmente investimenti non ne vengono fatti oppure si utilizza spesso e volentieri il volontariato o associazioni di volontariato che si mettono a disposizione per disquisire questo tema nelle classi nelle aule di ragazzini adolescenti è certo che c'è da fare insomma c'è da fare c'è da investire perché minimo invece di utilizzare sempre questi esperti esterni che spesso vanno a scuola proprio in forma di volontari per supportare gli insegnanti bisognerebbe formare anche il personale il personale interno il personale scolastico ecco quindi sul principio e sulla questione io sono assolutamente d'accordo nell'inserire fondi per questo tema nel prossimo piano sociosanitario dico anche però che siamo dentro un'emergenza covid in cui non solo i consultori sono stati svuotati ma tra l'altro sono cronicamente svuotati ma c'è in questo momento una carenza di personale proprio anche per supportare e per gestire il covid quindi ecco la mia come dire perplessità è legata solamente a questo bisogna fare investimenti bisogna potenziare i consultori intervenire sulla scuola formando o personale interno oppure prendendo degli esterni e magari facendo delle consulenze insomma pagando delle consulenze ma adesso dentro il covid per me è difficile proprio la gestione del momento quando siamo tutti presi ecco per gestire questa incredibile malattia che ci prende risorse economiche psicologiche fisiche e di ogni tipo però ecco sul merito io sono d'accordo grazie e ha chiesto di parlare la consigliera Michela Vitri prego sì vorrei intervenire solo per esprimere il mio consenso perché trovo che sia davvero una mozione propositiva che ho apprezzato sia come genitore che in questo caso come rappresentante di un territorio l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che avrei gradito avere anche delle proposte sulle modalità di attuazione perché a livello ideologico qua secondo me siamo tutti d'accordo è previsto dal 1978 l'intervento delle istituzioni a favore dell'educazione all'affettività e alla sessualità anche nelle scuole quindi sono passati decenni l'importante però è capire come farlo e soprattutto secondo me anche farlo al più presto e non è assolutamente vero che nessuno si è esposto per mettere in evidenza la gravità della mancanza dei rapporti sociali con la chiusura delle scuole anzi io stessa così come i componenti del mio gruppo sono giorni che mi espongo per chiedere la riapertura delle scuole almeno con la DAD al 50% perché ciò che viene a mancare è proprio innanzitutto il rapporto affettivo la socialità tra i ragazzi che fa parte della loro formazione per cui si esprimo il mio consenso e spero che questo sia solo un punto di partenza per ciò che deve essere davvero fondamentale nella formazione dei ragazzini dei bambini e dei giovani non ci sono altri interventi l'assessore l'assessore Filippo Saltamartini prego assessore per l'intervento da parte dell'amministrazione sì presidente è un tema molto importante quello dell'educazione su questi temi è un tema probabilmente sottovalutato per tutta una serie di questioni e quindi l'orientamento dell'aggiunta è quello di accoglierlo con delle modifiche chiedendo alla proponente di presentare un emendamento per verificare la possibilità di trovare con i dirigenti scolastici quindi con il dirigente regionale la possibilità di individuare una forma di educazione su questi temi che sono indispensabili naturalmente per l'armonioso sviluppo dei nostri ragazzi dobbiamo anche aggiungere però che nell'ambito dell'autonomia scolastica noi non possiamo decidere qualche cosa per dei programmi e dei corsi che rientrano non nelle funzioni statali e in particolare nell'autonomia delle scuole quindi se lo riformula la proponente in questi termini ci mettiamo perfettamente d'accordo e sono anche d'accordo nell'accogliere la richiesta del consigliere cancellieri di inserire delle risorse per poter garantire questo percorso questo lo faremo insieme con la cooperazione con l'assessore Latini che è la delega sulla cultura quindi diciamo che mettiamo insieme i servizi sociali la delega di cui io sono titolare insieme alla cultura però ecco penso che si possa ragionare con tutti voi per fare delle iniziative che possono essere molto utili e interessanti ai fini della prevenzione di tanti fenomeni grazie non ci sono altri interventi dichiaro quindi chiusa la discussione il proponente e relatore della mozione può intervenire per 5 minuti consigliere l'opini prego sì è chiaro che io non sono entrata nelle modalità anche perché insomma non è mia competenza né come minoranza né ho sinceramente le conoscenze informatiche per immaginare come si possa utilizzare una qualche piattaforma però non credo che sia così complicato inserire nella didattica integrata a distanza un altro tipo di intervento normalmente nelle scuole facciamo degli incontri appositi durante le ore di lezione con psicologo ginecologo assistente sociale insomma lo immagino così come lo abbiamo sempre fatto in classe non in tutti i territori purtroppo allo stesso modo e questa è la mancanza con gli avvocati dei consultori ginecologi gli assistenti sociali e gli psicologi che abbiamo a disposizione adesso abbiamo a disposizione anche un nuovo protocollo di intesa con il ministero dell'istruzione per la psicologia scolastica abbiamo in regione anche una commissione per la psicologia scolastica che sicuramente può avere delle competenze concrete per aiutarci ad immaginare il modo migliore ritengo che però sia urgente questo tipo di intervento proprio perché dobbiamo pensare oltre l'emergenza sanitaria è vero assorbito tantissime energie ma non possiamo distrarci perché poi i ragazzi insomma non non ci aspetteranno e manifesteranno il loro disagio e la mancanza di questo tipo di di confronto con il mondo adulto molto presto quindi diciamo che la prevenzione in questo caso è doppia proprio perché la società non debba pagare i ragazzi non debbano pagare poi il fatto che l'emergenza sanitaria ha completamente distratto gli adulti il mondo degli adulti che dovrebbe tutelarli dalle loro esigenze e dai loro disagi anche perché nella 194 quindi se parliamo di interruzione volontaria di gravidanza dobbiamo pensare e immaginare il mondo dell'interruzione di gravidanza nelle minorenni che non è un fatto da poco tutti potete immaginare e chi lavora in prima linea sa quanta sofferenza si vede i numeri grazie a Dio scendono negli anni ma è un fenomeno tuttora vivo e io pensavo proprio a queste ragazzine quando ho scritto la mozione quindi credo che sia una forma di prevenzione molto molto importante e molto urgente che non può aspettare neanche la redazione del nuovo piano sociosanitario in cui sono sicura che con la commissione insomma metteremo mano anche a questo aspetto della mancanza di operatori e consultori su questo insomma ho molta fiducia però è urgente e la scuola deve collaborare insieme a noi perché non possiamo inventarlo noi qui in aula il modo migliore ma credo che nessun dirigente scolastico non sia interessato a tale aspetto quindi mi aspetto una collaborazione anche tra assessorati tra ministeri e anche con gli ordini professionali sicuramente grazie grazie ha chiesto di nuovo la parola l'assessore Filippo Salta Martini senza l'articolo 63 ne ha diritto per 5 minuti Massimo prego sì presidente allora io volevo proporre alla consiglia Lupini una riformulazione di questa natura impegna alla fine impegna il presidente e la giunta a concordare con il dirigente scolastico regionale specifiche iniziative riguardo l'educazione all'affettività e l'educazione sessuale consapevole con specifiche professionalità esistenti all'interno dei servizi sociali e sanitari regionali lo ripeto impegna il presidente e la giunta a concordare con il dirigente scolastico regionale specifiche iniziative riguardo l'educazione all'affettività e all'educazione sessuale consapevole con le specifiche professionalità esistenti all'interno dei servizi sociali e sanitari regionali quindi sociologi psicologi quello che ha detto se può andar bene presidente allora per posso vi chiedo la vostra attenzione perché è un fatto anche in questo caso abbastanza inusuale la discussione è chiusa quindi dichiarazione diciamo così in termini in termini di interpretazione restrittiva non si può presentare emendamenti una volta chiusa la discussione se però l'aula nel suo complesso esprime un parere affinché l'emendamento possa essere comunque inserito e accolto allora lo possiamo portare esatto quindi chiedo a parte vostra una votazione chiedo una votazione di aprire una votazione se possiamo inserire l'emendamento anche fuori termini della chiusura della discussione sapendo bene che questo poi diventa un precedente quindi ci dobbiamo regolare ogni volta da qui in avanti nel buon senso di sapere che quando lo presuppo ecco no lo dico ad alta lo dico a espressi verbi siccome lo dico perché questo è il regolamento l'intenzione è quella di accogliere di addivenire a una volontà diciamo così positiva c'è però allora l'assessore ritira l'emendamento ritira l'emendamento per rispetto della forma e della sostanza delle norme che regolano diciamo così il dibattito e la procedura dell'attività del consiglio apro le dichiarazioni di voto sulla mozione chiede di intervenire il capogruppo del PD Maurizio Mangialari grazie presidente molto semplicemente per ribadire la posizione del gruppo del partito democratico come già espresso dalla consigliera Vitri ci sarà un voto favorevole grazie grazie se ci sono altri interventi per dichiarazione di voto vi prego di prenotarvi il consigliere capogruppo della Lega Renzo Marinelli prego se votiamo favorevolmente a questa proposta consigliere Jessica Marcozzi ora la consigliera no semplicemente per dire che anche il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente questa mozione se non ci sono altri interventi come non ci sono altri interventi la consigliera Lupini vuole fare l'intervento per dichiarazione di voto scusa presidente ti ho mandato una richiesta chiudiamo le dichiarazioni di voto presidente ho mandato una richiesta 26 di cui al punto 7 dell'ordine del giorno ha votato e ha ragione il consigliere Ciccioli prima della votazione voleva fare la dichiarazione di voto quindi collegamento dall'esterno da remoto del capogruppo fratelli d'Italia Carlo Ciccioli ci vuole un attimo come sapete avete visto c'è sempre una differenza fra le parole che diciamo noi e le parole ecco presidente ti ho mandato una richiesta si si prego può parlare può parlare può parlare grazie ho mandato una richiesta posso? posso? puoi parlare può parlare consigliere grazie allora volevo dire che per quanto riguarda questa mozione il testo non ci sono pregiudizi cioè il voto di massima è largamente favorevole mi suscita invece perplessità notevole perplessità perché il problema più importante in questo momento della chiusura delle scuole non è relativo all'educazione all'effettività all'educazione sessuale consapevole si si può parlare prego posso? può parlare grazie allora volevo dire che per quanto riguarda questa mozione il testo non ci sono pregiudizi cioè il voto di massima è largamente favorevole mi suscita invece perplessità notevole perplessità perché il problema più importante in questo momento della chiusura delle scuole non è relativo all'educazione 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 non è stato presentato quindi c'è il testo originale ma ma e al contrario i comportamenti sociali sono quelli che suscitano grande perplessità queste esplosioni di aggressività queste esplosioni di aggressività cioè che sono cento ragazzi in varie città d'Italia che si danno appuntamento nelle piazze per picchiarsi è successo anche ad Ancona per non andare molto distanti è stato qui prontamente prevenuto attraverso l'intervento dei carabinieri ma in altre città ci sono stati anche feriti gravi cito Gallarate ma non solo quello ci sono almeno cinque città d'Italia dove la mancanza di socializzazione porta a condotte gravamente antisociali quindi il problema sicuramente esiste della scuola è chiuse quindi delle dinamiche relazionali affettive eccetera eccetera dei giovani ma il problema più grave non è certamente quello dei comportamenti sessuali è lo 0,00 eccetera mentre molto più grave è l'aggressività che si sviluppa con le conseguenze sociali e all'interno delle abitazioni ci sono ragazzi che sono in atteggiamento di abbandono e ritiro sociale da mesi parlo sempre cito pensando dei casi della nostro territorio e poi invece ci sono persone che si recono all'esterno con esplosioni ho detto di aggressività di violenza molto 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 grave le più clamorose venite sui giornali ma tantissime altre no pur essendo state intercettate dai servizi sociali e in proposito esistono anche segnalazioni al tribunale dei minorenni quindi ecco vorrei dire che nel momento in cui la giunta l'assessore si occupa di questo problema dovrà prendere in considerazione sicuramente non trascurare l'aspetto dell'affettività educazione sessuale ma in maniera molto più rilevante comportamenti antisociali comportamenti disfunzionali all'interno all'esterno delle abitazioni delle famiglie da parte dei giovani che sono in una situazione di assenza di attività scolastica 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 grazie grazie capogruppo Ciccioli non ci sono altri interventi quindi riprendiamo dovevamo lasciati e cioè sulla votazione della mozione numero 26 apertura della votazione prego qui non lo vedo adesso se mi togliete la schermata per favore della dichiarazione di voto rientriamo allora se me la potete togliere in ogni caso ha chiesto di parlare l'assessore Filippo Saltamartini siamo in dichiarazione di voto gli assessori non votano in aula possono sempre intervenire in qualità dei rappresentanti della giunta quindi prego a lei la parola Presidente occorre chiarire che l'emendamento e la riformulazione non è passata quindi in votazione viene posta la mozione nella originaria formulazione quindi siccome avevamo trovato un'intesa con la proponente le chiedo consigliera di ritirarlo di ripresentarlo e lo approveremo nella maggioranza si impegna ad approvare una prossima diciamo così seduta nel testo della riformulazione che abbiamo esplicitato naturalmente dunque c'è questa richiesta da parte della giunta c'è questa richiesta da parte della giunta in effetti prima della dichiarazione prima dell'apertura del voto è stato detto che praticamente l'emendamento che era stato proposto dalla giunta per mezzo dall'assessore Filippo Saltamartini non poteva essere accolto per diciamo non derogare la procedura ma mentre l'assessore spiegava anche questa cosa nelle vie brevi abbiamo aperto la dichiarazione di voto le dichiarazioni sono state fatte o volutamente o non volutamente nell'interpretazione che ci fosse da parte di alcuni anche l'emendamento ecco adesso sta lei che è proponente insieme alla consigliera Marta Ruggeri dirci che cosa intende fare altrimenti apriamo la votazione si diamo la parola alla consigliera Lupini per favore sì grazie presidente sì diciamo che avevamo trovato infatti una buona interlocuzione eravamo arrivati a un emendamento che poteva soddisfare un po' tutti mi sarebbe piaciuto arrivare subito a una conclusione anche perché è una mozione che avevo già portato prima delle festività e ci tenevo molto se però questo fa la differenza questo emendamento capisco anche di chi me la propone perché comunque non è piena competenza della regione insomma trovare delle modalità attraverso le piattaforme che usa la scuola chiaramente io non mi sono permessa di entrare nel merito delle modalità perché non è mia competenza però se questo può essere di aiuto e la maggioranza si impegna a trovare una fattiva e rapida interlocuzione con la dirigenza scolastica regionale mi sembra doveroso mettersi a disposizione appunto dei cittadini e arrivare settimana prossima a ripresentare l'atto con insomma il favore di tutta l'assemblea grazie allora a essenza dell'articolo 143 il ritiro della mozione prima del voto lo può essere fatto soltanto dalle proponenti in questo caso dai proponenti dalle proponenti in questo caso quindi se le due firmatari della mozione ritirano la mozione per le motivazioni espresse in questa assemblea e con tutto quanto noi ci siamo detti la mozione non viene messa i voti se passa la successiva quindi conferma confermate il ritiro della mozione allora scusi questa è mia ancora ignoranza imparerò velocemente non ho capito se posso rinviarla con possibilità di emendamento o la devo proprio ritirare mi perdoni lei ritira la mozione la mozione verrà ripresentata in un consiglio successivo tenendo conto che con l'emendamento probabilmente alcuni che hanno già dichiarato il voto o comunque si sono espressi in senso favorevole voteranno in quella direzione quindi la devo ritirare ok allora ritiro ritiro la mozione ecco detto questo va bene sì ritiriamo la mozione per ridiscuterla nella prossima occasione oppure l'altra situazione che lei può fare è chiedere il rinvio e deve essere provotato dall'aula va bene sì per questo chiedevo se posso rinviarla con possibilità demendamento perfetto ecco così però dobbiamo mettere la votazione ah il rinvio allora si chiedo di poterla rinviare con possibilità c'è un caso che è la prima volta sì sì ci mancherebbe bene allora il rinvio in questo momento non è possibile perché eravamo in dichiarazione di voto quindi purtroppo l'unico è il ritiro chiedo scusa dell'andirivieni sulla valutazione è un caso che non è mai venuto prima vi chiedo scusa per aver detto una cosa e poi averla indirizzata in un'altra l'indicazione però dell'aula è ben chiara se voi confermate di ritirarlo verrà ripresentato in un altro modo e poi ci sarà la possibilità del completamento dell'attività della mozione con la discussione finale e la votazione della mozione stessa consigliere l'opini sì allora ritiro questa è l'unica possibilità e mi aspetto ecco di andare al concreto consigliere Mastro Vincenzo Cesetti Mangialardi Casini Carancini Biancani Bora e Vitri avendo oggetto emergenza coronavirus strutture residenziali e visite dei parenti la parola al proponente relatore della mozione il consigliere Antonio Mastro Vincenzo prego grazie la mozione impegna la giunta a predisporre un apposito atto rispetto alle disposizioni ministeriali relativamente al tema della scusate relativamente al tema della visita dei parenti nelle strutture residenziali le recenti disposizioni del ministero della salute del 30 novembre del 4 dicembre 2020 ribadiscono la necessità di assicurare le visite da parte dei parenti nelle strutture residenziali nello specifico la circolare del 30 novembre del ministero afferma poiché l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza lo stato di salute fisica e mentale in particolare per depressione ansia decadimento cognitivo demenza come documentato da ampia letteratura scientifica debbono essere assicurate le visite dei parenti dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti e delle residenze le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali nella circolare del 4 dicembre si afferma che tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti è necessario assicurare un regime di contatti e di visite fra gli ospiti e le persone a loro care occasione di uscite fuori dalla residenza nel rispetto alle misure e sicurezza tenuto conto del contesto dell'area geografica di riferimento le visite e i contatti vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità di ridurre i rischi del contagio sia dei insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro familiari amici visitatori lasciamo parlare siamo in silenzio e almeno in silenzio perché così il relatore possa spiegare e presentare bene la mozione grazie pertanto l'assessore regionale della sanità si era impegnato in tal senso già in un'interrogazione nel nove novembre scorso rispetto alla nostra interrogazione aveva ribadito l'impegno della giunta in questa direzione famiglie e associazioni chiedono urgenti interventi e provvedimenti in merito ma tutt'oggi molte strutture residenziali della nostra regione ancora mantengono il blocco delle visite quindi la mozione chiede un impegno da parte della giunta per predisporre un apposito atto che dia attuazione alle disposizioni ministeriali anche nella nostra regione su questo importante tema grazie grazie consigliere il nostro Vincenzo ha chiesto di parlare il consigliere della Lega Chiara Biondi prego ne ha la facoltà grazie presidente la Lega è particolarmente sensibile alla problematica delle visite agli anziani ospitate nelle strutture residenziali siamo consapevoli e preoccupati che il perdurare delle limitazioni imposte dall'accontinimento del contagio possano amplificare le conseguenze psicofisiche dell'isolamento precauzionale isolamento sociale e solitudine conseguente possono amplificare i fattori di rischio caratteristici della popolazione più anziana il cui stato di salute fisica e mentale è legato ad equilibri molto sottili in queste contraddizioni che sono in corsi proponenti della mozione 25 in discussione oggi con il gruppo consigliare del PD che chiede al presidente della giunta di impegnarsi per l'applicazione delle circolari del ministero della salute del 30 novembre del 4 dicembre 2020 recanti disposizioni circa la necessità di assicurare le visite dei parenti agli ospiti delle strutture residenziali come si può assumere a livello regionale un impegno sulla modifica di norme nazionali siamo certi che i proponenti della mozione 25 ben conoscano questo cortocircuito normativo dal momento che è stato generato dal loro governo ma è ripetita iovant e una rinfrescata alla memoria corta ci sta procediamo per ordine il 30 novembre il ministero della salute emana la circolare recante disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali sociosanitari e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura la circolare fornisce indicazioni per due distinte casistiche una è le strutture socioassistenziali e sociosanitarie dove sia presente un caso covid o un focolaio in atto nelle quali viene sospeso l'accesso ai parenti e ai visitatori il secondo caso riguarda le strutture le strutture socioassistenziali e sociosanitarie dove non sia presente un caso covid e un focolaio in atto per le quali per quanto nel merito della mozione 25 in discussioni si danno le seguenti indicazioni poiché l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e in particolare di depressione anzi decadimento cognitivo demenza debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali ed è qui che i nodi vengono al pettine e vanno sotto il nome di dpcm come è noto per il diffondersi dell'epidemia da covid-19 il governo nazionale ha emanato in rapida successione diversi dpcm provvedimenti amministrativi che entrano in vigore immediatamente e nell'ambito della gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge e a decreti legge e a decreti legislativi delegati segnatamente alla regolamentazione delle visite dei parenti agli ospiti e delle strutture residenziali a partire dal mese di marzo duemilaventi diversi dpcm tra cui quello del tredici ottobre duemilaventi il quale l'articolo uno comma sei lettera BB testualmente recita l'accesso ai parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lungodegenza residenze sanitarie assistite RSA hospice strutture di abilitative strutture residenziali per anziani autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni tali disposto normativo è stato ribadito anche più recentemente dal dpcm del tre dicembre duemilaventi segnatamente nell'articolo uno comma dieci lettera DD il testo stabilisce chiaramente che l'unica possibilità di intervento rispetto all'accesso dei parenti è la discrezionalità della direzione sanitaria della singola struttura la circolare ministeriale richiamata nella mozione in particolare in quella parte che disciplina l'accesso delle strutture covid free contrasta con la normativa dettata dai dpcm i quali hanno in questo caso funzione di norma primaria e non possono di certo essere derogati da una semplice circolare ministeriale alla luce di quanto sopra lo stato appare evidente come l'unico organo deputato a dare attuazione a quanto viene richiesto nella mozione non potrà essere altri che il governo nazionale al quale i colleghi consiglieri del pd avrebbero dovuto rivolgersi anziché richiedere al presidente e alla giunta l'applicazione di una circolare che allo stato appare assolutamente illegittima poiché in aperto contrasto con le disposizioni contenute nei dpcm anzi cogliamo l'occasione in qualità di amministratori di figli e di nipoti per richiedere ai colleghi consiglieri del pd e del movimento cinque stelle di farsi promotori presso i loro sodali di partito al governo della nazione di provvedere con urgenza a quelle modifiche che i consiglieri stessi ritengono a tal punto necessarie da essere oggetto di mozione grazie grazie consigliera se ci sono altri interventi consigliere Giorgio Cancellieri prego la facoltà di parlare semplicemente per dare il mio contributo ad uno che in quelle case di riposo ci va a visitare i propri pazienti oggettivamente la chiara consigliera ha ribadito quali sono i regolamenti chi è responsabile di quei regolamenti di fatto però in pratica è vero che nelle case di riposo a seconda dell'organizzazione proprio precipua di quella casa di riposo rispetto ad altre è vero che rispetto a case di riposo che hanno più spazi per accogliere i visitatori o per accogliere anche i medici perché c'è stato un periodo in cui neanche noi medici potevamo entrare nelle case di riposo per non essere trasmissione di covid penso nella prima ondata del covid quando neanche noi potevamo andare dentro le case di riposo poi la situazione a noi ci si è aperta tra la prima e la seconda ondata quindi estate e poco dopo noi abbiamo potuto riaccedere dentro le case covid in questa fase noi accediamo alle case di riposo in questa fase noi accediamo alle case di riposo però tra le case di riposo c'è un comportamento diverso rispetto alla logistica della casa di riposo stessa della struttura residenziale stessa chi ha più spazi chi può gestire più spazi mette in comunicazione il residente cioè la persona anziana con il proprio parente che è quasi sempre un parente stretto un figlio per esempio in particolare ci sono invece case di riposo che hanno spazi più stretti e non hanno luoghi proprio ben che si che si possano prestare a questo contatto residente e parente che impediscono questo contatto è vero io non credo che quindi molto spesso la possibilità di mettere in contatto il residente col parente diventa di gestione della struttura residenziale stessa in pratica questo succede con comportamenti a volte diversi di una struttura residenziale rispetto ad altri adesso chi è competente per regolamentare questo io vi dico la verità non saprei neanche dirlo se suppongo che la prima linea guida il primo regolamento debba arrivare del ministero della salute quindi dello stato centrale dopodiché non so se se le regioni hanno possibilità di regolamentare in tal senso la consigliera biondi mi dice di no quindi io lei è avvocato e quindi la debbo la debbo credere a priori ecco ho voluto soltanto portare il mio contributo di quello che succede in pratica ecco come hai detto ecco esatto esatto la 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 chiara dice la consigliera biondi dice che le regioni giustamente nel caso del covid possono solo restringere e non allargare rispetto a quello che ha deciso il dpcm e lo stato centrale giustamente ho voluto portare il mio contributo pratico di uno che i covid li vede passare davanti proprio giornalmente con molta frequenza grazie grazie consigliere ci sono altri interventi consigliere Romano Garancini prego solo per una considerazione rispetto alle argomentazioni portate dalla consigliera biondi anche dal consigliere cancellieri cancellieri fa una fotografia corretta del quadro di evoluzione che c'è stato tra la prima e la seconda pandemia e non è vero fino in fondo quello che sostiene la consigliera biondi nel senso che è vero che le gli interventi amministrativi che siano della regione o eventualmente dei sindaci debbono essere diciamo di indirizzo più più restrittivo ma nell'ambito delle disposizioni che si possono assumere il concetto restrittivo è abbastanza come dire relativo l'importante che vengano salvaguardate salvaguardati in linea di principio le persone quindi preservati rispetto agli obblighi applicativi rispetto alle case di riposo ma in genere rispetto a tutte le norme riguardanti di PCM questo vuol dire come peraltro è capitato anche in altre occasioni anche della regione che si possono evidentemente adottare provvedimenti che siano contemperativi che possano mettere insieme da un lato il principio del non diciamo allargamento della non riduzione dei limiti posti dalla legge ma nello stesso tempo la possibilità che nell'ambito di quelle specifiche norme si possano invece adottare diciamo provvedimenti che siano compatibili quindi più aperti rispetto alla possibilità in questo caso di utilizzo questo per dare un contributo rispetto al tema a cui faceva riferimento la consigliera Biondi che credo possa invece trovare una possibilità un margine uno spiraio di intervento andrea Puzzo prego grazie presidente ho visto questa mozione ho avuto modo di leggerla e sono alquanto basito dico questo perché perché mentre l'intera nazione sta nella pandemia siamo arrivati addirittura alla fase 3 ospedali di tutta Italia in grande difficoltà ristoratori che per colpa di un governo che hanno dovuto chiudere bar che hanno dovuto chiudere il partito democratico ci chiede di come dire intervenire urgentemente con un apposito atto al fine di dare applicazione a disposizioni ministeriali in merito all'ingresso di parenti all'interno delle strutture soggio sanitario o soggio assistenziali io credo che chi ha proposto questa mozione a volte sembra che non sta sul pianeta terra perché abbiamo visto le gravi difficoltà che ci sono all'interno delle strutture soggio sanitarie soggio assistenziali ne abbiamo avuti di esempi ne posso fare moltissimi sappiamo benissimo che questo covid colpisce per l'ottantacinque per cento la popolazione antiana ottantacinque novanta per cento la popolazione antiana quindi io credo che questo atto se fossi stato un grande accusatore avrei detto voi volete provocare la morte perché dico questo ma non lo voglio dire perché sappiamo tutti che all'interno delle strutture soggio sanitarie soggio assistenziali ci sono dei protocolli a rispettare sappiamo che l'ingresso all'interno di queste strutture è a discrezione del direttore sanitario a discrezione degli operatori fare entrare o meno i familiari ovviamente assumendo non si raffrava per responsabilità io ovviamente sono contrario sono contrario perché non mi sembra giusto che la regione Marche debba tra virgolette sembra obbligare le persone ad entrare all'interno delle strutture anche perché vi informo che siamo nel 2020 vi informo anche che ci sono moltissime strutture che utilizzano anche i nuovi metodi telematici la videochiamata quindi c'è un contatto diretto costante tra gli anziani e gli operatori ma soprattutto insieme ai familiari quindi io sono alquanto rispetturo perché in questa mozione ci vede una grave irresponsabilità una irresponsabilità nel capire quali sono le priorità e la priorità è salvare la vita degli anziani perché noi per primi dobbiamo essere consapevoli che questo Covid ha ammazzato sta ammazzando moltissimi anziani e voi ci chiedete addirittura di dare atto a una circolare che fondamentalmente non ha alcun obbligo non è un obbligo in legge lo sappiamo tutti e sappiamo che chi ha parenti amici conoscenti all'interno delle strutture sanitarie è a discrezione della struttura stessa di fare entrare o meno il parente del paziente o l'amico del paziente quindi non credo che la regione Marche secondo me assessore lo chieda a lei dobbiamo sentirci obbligati noi dobbiamo tutelare le vite degli anziani e di certo con questa mozione non tuteliamo la loro vita anzi gli creeremo gravi difficoltà perché se io dovrei essere ad esempio asintomatico e oggi non lo scopro vado a trovare un mio parente all'interno natura sanitaria rischio di uccidere più anziani e questo ovviamente mi dispiace perché oggi piuttosto che tutelare la loro vita facciamo degli atti dove creiamo maggiore pericolosità alla vita di queste persone in gravi difficoltà questi anziani che sono sempre più a rischio grazie grazie ha chiesto di parlare la consigliera Jessica Marcozzi prego un attimo gli diamo conferma ecco prego grazie presidente non volevo intervenire vista la relazione sostiva e completa e chiara della consigliera Biondi intervengo perché ho ascoltato dai banchi della minoranza che secondo il consigliere Carancini c'è uno spiraglio di intervento cioè come se la regione potesse avere la possibilità di intervenire per favorire l'accesso alle strutture ma io credo che la relazione della consigliera Biondi sia stata chiara il 13 ottobre del 2020 il presidente del consiglio firma il PCM con la chiusura delle strutture per anziani alle visite dei parenti e il testo poi che cosa è successo è stato riconfermato anche nei decreti successivi e recita testualmente l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodecenza residenze sanitarie assistite ospice strutture riabilitative strutture residenziali per anziani autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione io credo che il testo sia chiarissimo e su questo aspetto credo che non ci sia alcun dubbio a proposito delle direzioni sanitarie spetta solo ed esclusivamente a loro cioè io non credo che la regione non non credo non ha la possibilità la regione di intervenire l'assessore né la giunta né il presidente per favorire l'accesso alle strutture dei parenti quindi credo che questo spiraio sia assurdo quindi noi come gruppo di Forza Italia voteremo assolutamente contro questa mozione grazie ha chiesto di parlare il consigliere Marco Marinangeli prego grazie grazie presidente di questa mozione di questa proposta possiamo condividere l'analisi delle conseguenze eh sugli anziani che provoca appunto questa purtroppo situazione ossia l'isolamento sociale la solitudine sono motivi di sofferenza quindi ci troviamo di fronte a situazioni di difficoltà di depressione di ansia di cadimento cognitivo eh demenza quindi questo è sicuramente un aspetto che conosciamo è oggettivo quindi non è oggetto di di interpretazione e di valutazione ma eh qui non si tratta di decidere se aprire o chiudere qui abbiamo dobbiamo chiarire un aspetto che come ragione non abbiamo una potestà normativa che oggi ci autorizza a scegliere per una apertura piuttosto che una chiusura quindi quindi il ministero trasferisce le responsabilità e la disciplina delle visite dei parenti agli enti gestori quindi probabilmente chi può avere una situazione logistica organizzativa tale per cui riesce a evitare ogni tipo di contaminazione e quindi di creare una situazione tale per cui ci sono tutte le dovute precauzioni può farlo ma io quello che voglio mettere in evidenza è invece cosa ha fatto cosa sta facendo questa questa giunta su questo tipo di problematica sicuramente acquisire tutte le necessarie precauzioni poi il piano di vaccinazione di vaccinazioni già partito già operativo che si dovrà concludere credo l'assessore saltamartini poi magari ci può precisare meglio entro il 31 gennaio 2021 tra l'altro ci piace sottolineare questo deve essere un orgoglio di tutto il consiglio non c'è maggioranza e opposizione sul fatto che nonostante ci siano state delle polemiche anche su questo aspetto oggi le Marche sono tra le prime regioni italiane ad avere la più alta percentuale tra i vaccini disponibili e quelli effettuati quindi per chiudere diciamo che terminata la prima fase di vaccinazione probabilmente si potrà ridisegnare le scelte e eventualmente valutare nuove disposizioni grazie presidente grazie a lei ha chiesto di parlare il consigliere Antonio Mastro Vincenzo prego nella facoltà ma guardate ho sentito tante cose direi quasi tutte in esatte a parte il fatto dell'esistenza dei due dpcm preciso che i due dpcm sono comunque anteriori alla circolare del ministero della salute del 4 dicembre il ministero della salute non esclude assolutamente nulla è evidente che il dpcm dà indicazioni specifiche ai direttori sanitari delle strutture è altrettanto evidente che la regione ha potestà sulla sanità e come hanno fatto altre regioni cito la regione toscana la regione può determinare specifici standard requisiti in sicurezza e qui nessuno è irresponsabile perché l'ho citato l'abbiamo citato nel testo della mozione sono citate le circolari del ministero della sanità che evidentemente tiene particolarmente alla salute dei cittadini quello che mi sorprende è sentire parlare intanto di piano di vaccinazione e di responsabilità perché se mettiamo insieme le due cose allora vi dico i responsabili siete voi che avete vaccinato solo 145 anziani nell'RSA alla data di oggi su 15.000 vaccini somministrati nella nostra ha chiesto di parlare la consigliera Simone Lupini prego nella facoltà grazie presidente allora chiaramente anche il movimento 5 stelle è più che sensibile a questa tematica e veramente tutti vorremmo che i familiari possano poi far visita a questi anziani è innegabile quello che c'è scritto sulla mozione che la solitudine chiaramente non aiuta al benessere ma questo mi sento anche di ampliarlo a tutte le strutture residenziali pensiamo alle strutture anche per minori che da lunghi mesi hanno grosse difficoltà a far incontrare genitori e figli pensiamo al mondo dell'affido tante realtà del sociale stanno vivendo un isolamento difficile da gestire a livello emotivo quindi siamo assolutamente d'accordo nel trovare una soluzione la legge mi pare che sia chiarissima e su questo non possiamo certo stare a discutere il confronto con il ministero mi sembra insomma che lo abbiamo anche in modo molto frequente e produttivo quindi abbiamo auspicato più volte un confronto tra la giunta e gli appositi ministri che spero continuerà vista l'urgenza e visto che la situazione pandemica ci costringe a superare qualunque tipo di opposizione politica quindi visto che la discrezionalità mi sembra la faccia da padrona qui come tutti insomma stiamo dicendo ogni struttura si barcamena come può a seconda degli spazi che ha e delle risorse a sua disposizione e anche delle risorse presenti sul territorio allora se è vero che alcune strutture hanno messo in piedi delle buone esperienze per far comunque incontrare in sicurezza in qualche modo o telematicamente o attraverso delle vetrate o attraverso delle stanze apposite insomma nel confronto con i colleghi abbiamo ognuno delle esperienze positive io penso che sia importante che la regione possa fare diciamo dalla cabina di regia come su tanti altri ambiti e cercare di uniformare le buone pratiche cioè se sappiamo che c'è una buona esperienza in una in una casa albergo in un RSA o in una comunità per minori diffondiamola e rendiamola omogenea dappertutto proprio perché nessuno soffra ulteriormente di solitudine non so per quanto andrà a lungo l'isolamento degli anziani nelle strutture o dei minori fuori dalla famiglia quindi cerchiamo di trovare delle soluzioni che siano poi come dire da diffondere dappertutto se la legge non consenta alla regione se non di restringere comunque possiamo fare delle proposte che siano poi in favore del benessere anche anche psichico non solo quello fisico che chiaramente in questo momento è prioritario ma se parliamo di benessere biopsicosociale come ormai la scienza ci obbliga a fare dobbiamo pensare anche agli aspetti psichici quindi io mi aspetto insieme insomma al gruppo Movimento 5 Stelle delle buone proposte da parte della maggioranza per il superamento di questo isolamento grazie consigliere chiesto di parlare il consigliere Giacomo Rossi prego allora io credo che questa assemblea non debba essere solo un'assemblea un terreno di sfida ma anche un terreno dove si possano trovare delle soluzioni condividere far maturare anche delle soluzioni abbiamo già detto che noi come regione non abbiamo potestà normativa a riguardo o è davvero limitata o non vogliamo in qualche maniera mettere a rischio come si diceva l'incolumità dei nostri anziani pazienti nelle case di riposo ma potremmo chiedere altresì come diceva appunto la collega Lupini di poter incentivare quegli strumenti di contatto indiretto tramite le videochiamate come diceva il collega Puzzo tramite delle tute apposite penso ad alcune regioni come Veneto Liguria e Piemonte che hanno predisposto in diverse strutture le stanze dell'abbraccio meglio delle stanze isolate con pareti di plastica per poter in qualche maniera mettere in contatto chi è dentro e chi è fuori perché chi è dentro realmente sta vivendo un disagio doppio perché sostanzialmente in alcuni casi sono anni dove non si entra in contatto con l'esterno quindi più che chiedere di poter entrare chiediamo e cerchiamo di elaborare come regioni questi strumenti che possano favorire questo contatto indiretto di certo potrebbe essere qualcosa in più grazie grazie adesso dobbiamo collegarci dare voto perché ha chiesto di parlare il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli quindi dobbiamo avere sempre i momenti propedeutici al collegamento stesso sono pronto è possibile vado allora se mi si ascolta allora io vorrei dire questo che prima di fare i documenti i documenti sono sempre molto teorici sono una riflessione bisogna guardare le cose assolutamente pratiche e sfoglio il giornale di questa mattina Gerundini casa di riposo di Falconara cito solo la provincia d'Ancona perché l'ho sfogliata stamattina al Gerundini su 20 ospiti allora prima di andare al documento teorico credo che bisogna guardare le cifre i documenti pratici le cose e i numeri che emergono allora sfoglio il giornale di questa mattina locale solo locale poi potremo andare in tutte le marche la situazione è uguale al Gerundini casa di riposo di Falconara 27 contagiati tra personale e ospiti gli ospiti sono su 21 ospiti 20 sono infettati gli altri sono personale questo giornale di oggi se ci spostiamo a Morro d'Alba un'altra casa di riposo 17 anziani anziani contagiati su 20 da dove nasce il contagio dal contatto cioè purtroppo siamo chiamati a scegliere tra due aspetti estremi la sopravvivenza o le relazioni e rapporti affettivi in questo momento io opterei per la sopravvivenza vi cito un caso personale io ovviamente nei giorni scorsi non sapevo minimamente di essere positivo ho mia mamma novantenne in casa di riposo ho telefonato per dire se potevo andare fisita intorno al 6 gennaio la giornata della Befana che era anche qualche giorno dopo il compleanno la casa di riposo mi ha detto no noi siamo chiusi non ospitiamo io non sapevo di essere positivo assolutamente forse neanche lo ero se fossi andato io avrei involontariamente contagiato qualcuno e quindi anche se è duro accettarlo però purtroppo la prudenza perché è imprevedibile riuscire a capire quale sono le idee ci sono comportamenti alto rischio che non danno nessun problema e poi magari una banale visita in una casa di riposo che potrebbe portare a come è successo cito sempre la provincia d'Ancona a Fabriano Fabriano sono stati 14 morti nella prima fase nella casa di riposo 14 su una cinquantina di ospiti e poi altri ancora e allora sono percentuali quasi un terzo anzi un po' più di un terzo di persone nella casa di riposo Fabriano morte per un contatto sbagliato imprevedibile probabilmente uno del personale non lo so quindi la cautela in questo caso è meglio dare spazio alla sopravvivenza delle persone piuttosto che altri aspetti che pur sono assolutamente da tenere in considerazione per cui sono convintamente negativo su questo documento e voterò confinamente conto proprio per avere in considerazione il benessere degli anziani di un po' più Grazie, grazie consigliere Ciccioli, ho chiesto di parlare con la consigliera Anna Casini, prego, ne ha la facoltà. Grazie Presidente, non volevo intervenire perché la mozione è talmente chiara, fa riferimento a due circolari e le cita e se l'italiano è l'italiano la circolare apre, ha la possibilità discrezionale, ovviamente perché ogni realtà è diversa dall'altra sia dal punto di vista territoriale e quindi regionale perché ogni sanità regionale ha dei parametri diversi, ogni RSA ha delle situazioni e condizioni diverse. Però insomma mi meraviglio che intervengano dei consiglieri che hanno anche delle competenze tecniche specifiche e che parlino e che dicano se io ero positivo e entravo in un RSA avrei potuto contagiare. Cioè ci scordiamo tutto il mondo dei DPI, ci scordiamo che è possibile e si può organizzare la visita ai familiari in condizioni di sicurezza come per esempio noi siamo in quest'aula perché lo stesso consigliere è stato qui in aula e non ha contagiato nessuno di noi perché evidentemente ci siamo attenuti, non ha contagiato nessuno di voi altri che probabilmente lo avrete incontrato in altre sedi come la consigliera Bora non ha contagiato nessuno di noi perché ognuno di noi si è attenuto a delle norme di sicurezza igienico-sanitaria che sono ormai codificate e che ci consentono comunque di muoverci come se l'altro e come se noi fossimo potenzialmente infettanti perché questo è il modus, quindi io dico da un lato la necessità di salvaguardare la salute e si è fatto riferimento alla prima ondata quando in realtà non si sono comprese molte cose quando sapete bene che i DPI non si trovavano, non si trovavano in tutto il mondo le mascherine, non è che non si trovavano nelle Marche o in Italia le mascherine non si trovavano in tutto il mondo, non se ne conosceva la differenza, nessuno di noi sapeva cosa fosse una mascherina chirurgica che cosa servisse, lo abbiamo capito soltanto mesi dopo, si pensava addirittura che non fossero utili ne abbiamo scoperto l'utilità e l'importanza, soltanto successivamente lo abbiamo scoperto mettendomi come minuscola parte di un mondo scientifico internazionale allora oggi dire che questa possibilità è negata dai DPCM, grazie che qualcuno di voi ci ha spiegato cos'è un DPCM perché ne sentivamo veramente la necessità dopo tanti anni in consiglio e tanti anni di amministrazione che ci si dicesse cos'è un DPCM veramente ci ha fatto crescere dal punto di vista culturale quindi apprezziamo ogni volta queste lezioni che ci vengono fatte soprattutto da chi non ha mai messo piede in un consiglio quindi o in un'aula dove si svolge un'amministrazione però diciamo che la circolare pur essendo nelle fonti del diritto sicuramente non prima di un DPCM essendo successiva dà un'apertura, questa apertura può essere poi declinata in maniera discrezionale è chiaro che è competenza della giunta dare l'apertura e lasciare ad ogni organizzazione sanitaria la possibilità di far entrare i parenti magari con delle barriere di plexilas magari con dei vetri, non è detto che ci debba essere la presenza che arrivi al contatto fisico cioè io credo che si possa invece percorrere questa strada con il buonsenso perché c'è stata questa apertura e perché il tempo di permanenza degli anziani da soli senza la visita e senza la possibilità di vedere i parenti comincia a diventare davvero molto lungo e quindi si perdono i contatti, si perdono anche a volte gli anziani come ben sapete io ho una mamma di 90 anni che a differenza di chi ha parlato prima la tengo in casa con me e si disorientano facilmente insomma quindi io credo che sia importante invece poter pensare a una soluzione che non deve essere il contatto fisico necessariamente e che non deve assolutamente mettere a rischio l'anziano ma credo che possa essere percorsa questa strada e che sia assolutamente una mozione di buonsenso bene non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione i proponenti possono intervenire e i rappresentanti della giunta ugualmente se ci sono dei proponenti che vogliono intervenire in particolare e esclusivamente in questo caso Antonio Mastro Vincenzo consigliere Mastro Vincenzo vuole intervenire è stata chiusa la discussione si si no è stata chiusa la discussione se vuole intervenire prima di entrare in digrazione dei voti no bene chiede di intervenire l'assessore Filippo Santamartini prego grazie presidente concludiamo questa seduta del consiglio comunale con questo tema ma ci viene da domandarci ma chi è contrario a far sì che le affettività degli ospiti nelle case di riposo non possano avere l'iter relazionale con i parenti che hanno sempre avuto mi limito semplicemente a ricordare che nelle Marche abbiamo avuto una pandemia particolarmente virulenta nelle case di riposo ci sono stati moltissimi decessi e così a livello semplificativo volevo ricordare che affermo Porto Recanate, Starnano, Orbisaglia, Macerata Iesi, Fabriano, Torentino di Sanatoglio e Senigallia per citarne semplicemente alcune abbiamo circa 300 persone che sono state infettate nelle case di riposo e nelle RSA e vorrei anche ricordare per chi è governato per 25 anni che le nostre case di riposo sono talmente vetuste e obsolescenti che nel caso in cui c'è un positivo riesce molto difficile ad isolare i pazienti positivi da quelli negativi e voglio anche ricordare perché la mozione che cosa ci chiede impegna il Presidente e l'Aggiunta a intervenire urgentemente con apposito atto a fine di dare applicazione alle disposizioni ministeriali cioè noi dovremmo spiegare che le disposizioni ministeriali sono cogenti cioè come se una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale dovremmo spiegare che la legge si applica Ora a me piace sottolineare che le norme sono generali astratte nel nostro ordinamento si applicano a chi ha le stesse condizioni qui bisogna valutare caso per caso casa di riposo per casa di riposo residenza protetta per residenza protetta se ci sono le condizioni di accesso tanto più per il fatto colleghi udite udite che questa mattina rispondendo a una interpellanza presentata in quest'Aula avevo chiaramente specificato che dopo la prima fase di vaccinazione per il personale di sanità dell'RSA avremmo proceduto secondo dal piano ministeriale alla vaccinazione delle persone disabili delle persone fragili senza fare una classificazione sapete che cosa posta il dottore Antonio Mastrovincenzo? posta questo messaggio la maggioranza di destra ha respinto la richiesta di inserimento urgente all'ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi della mozione del gruppo PD relativa alla vaccinazione delle persone disabili l'atto di cui sono il primo firmatario chiede alla giunta regionale di inserire nell'elenco di coloro che possono essere sottoposti a vaccinazione anti-covid in via prioritaria anche le persone disabili con immunodeficienze fragilità di ogni età e quelle che frequentano i servizi semiresidenziali e gli operatori dei servizi diurni e domiciliari una decisione grave incomprensibile frutto di una sfreddata arroganza che penalizza le persone più fragili e quelle che si occupano di loro pensate quale strumentalizzazione il presidente l'ex presidente del Consiglio sostiene cioè che siccome non abbiamo approvato il suo ordine del giorno per la vaccinazione delle persone disabili noi ci saremmo espressi in modo contrario e allora è da un po' di tempo sono due mesi che voi portate queste interpellanze per poi dire esattamente il contrario questa questa mozione che cosa serve per dire che la maggioranza è contraria all'accesso delle persone dei familiari nelle case di riposo nell'RSA significa questo? o significa esattamente che noi ci preoccupiamo di applicare un principio di precauzione che è quello di evitare che ci sia una diffusione della pandemia perché nel nostro ordinamento ci sono state numerosissime inchieste penali e c'è una norma l'articolo 40 del codice penale che stabilisce che chiunque non propone le misure necessarie risponde di concorso omissivo allora noi non possiamo organizzare una norma che va in via generale astratta obbligare gli enti gestori delle case di riposo a stabilire qualche cosa che noi non possiamo vedere in una visione dirigista noi dobbiamo dire che si applicano le norme previste dal ministero e ogni persona è responsabile teniamo conto che la gestione di queste residenze è gestita da questi enti ma con i sindaci con il comitato dei familiari ogni sindaco perché chi ha avuto la responsabilità il sindaco sa che ha incontrato i familiari delle persone che sono rimaste infettate dal covid e quelli che sono risultate negative dal covid in un conflitto tra poveri per cui i familiari di quelli che non sono infettati non vogliono che si apra a dismisura non vogliono questo e voglio anche sottolineare perché questo risulti pubblicamente che dal nostro insediamento dal 15 ottobre nelle case di riposo le persone che sono infettate da covid sono seguite non dai medici di famiglia come avveniva nella prima fase quando voi governavate questa regione dal 15 ottobre nelle case di riposo a visitare e seguire i pazienti vanno i medici USCA vanno i medici specialisti vanno gli infermieri e i trattamenti farmacologici sono quelli con eparina con i farmaci ospedalieri e con questo modo in questo modo ne abbiamo salvato molte vite quindi noi presidente Mastro Vincenzo gradiremmo che il rapporto tra noi non fosse quello di strumentalizzare che noi non abbiamo accolto la mozione per vaccinare le persone fragili noi le persone fragili vacciniamo per prime nella seconda fase come previsto dal programma del Comitato Nazionale e le visite dei parenti nelle case di riposo e nelle RSA saranno seguiranno l'ordinamento di ogni ente perché ogni ente sarà in grado di capire se potrà prestare i plexigas le tende trasparenti e ogni strumento che naturalmente serve per questo aggiungo e concludo che noi abbiamo fatto acquistare nelle RSA delle ASU degli strumenti degli iPad degli strumenti per la comunicazione con i familiari ma noi noi dobbiamo in questo momento salvare vite dobbiamo garantire agli ospiti delle case di riposo l'assoluta sicurezza di non essere infettati e sappiamo perfettamente che oltre al peso che abbiamo nella pandemia tra l'indice RT che viene calcolato sulla base dei focolai pesa enormemente il numero delle case di riposo che sono state infettate per l'intervento improprio probabilmente di persone che inconsapevolmente risultavano vettori del Covid non mi devi interrompere devi stare zitto io non ti ho mai interrotto devi stare zitto va bene va bene a cingoli è avvenuto questo certo che lo racconto quando c'è stato l'inquinamento della casa di riposo l'assessore Sciabichetti e il direttore dell'area vasta hanno fatto una conferenza stampa in cui la casa di riposo che era interamente inquinata dal Covid doveva essere seguita dai medici di famiglia sono stato io sindaco Carancini e il vice sindaco Ippoliti che è entrato nell'area SA con dei sacchetti dell'immondizia con i sacchetti all'immondizia io ero vice sindaco non sono responsabile della gestione della casa di riposo vada bene a quello che dici io ero vice sindaco la casa di riposo è gestita da una cooperativa vada bene a dire che io sono responsabile misura bene le parole di quello che dici perché ti sta allargando troppo caro Carancini ti stai allargando troppo dopo di che c'è stata un'inchiesta della Procura della Repubblica e a me non risulta che io ero responsabile d'accordo quindi questa è la situazione se dell'inquinamento di una casa di riposo è responsabile il vice sindaco immaginate ecco qual è l'idea di Carancini dei rapporti istituzionali non ne voglio più discutere Carancini per me finisce qui se hai qualche cosa vai alla Procura e denunciami presenta la denuncia nei momenti in cui dici che sono responsabile hai detto poco fa che io sono responsabile presenta la denuncia assumiti la responsabilità non potete venire qui per raccontare che noi non vogliamo la cura delle persone disabili non venite qui a raccontare che noi non vogliamo l'accesso nelle case di riposo siate seri fate un'opposizione seria non fate un'opposizione falsa ricordatevi che quando Max diceva non serve dire la verità serve dire le bugie quell'opera quel tratto storico è finito non mi deve interrompere l'assessore lei deve chiudere l'intervento dimostri la tua arroganza non cada in provocazioni dimostri la tua arroganza e prego la consigliere Carancini di non intervenire di non intervenire si è stato chiamato per fatto personale ci dice qual è il fatto personale allora concluso l'intervento dall'assessore Salta Martini ha chiesto di parlare il consigliere Antonio Mastro Vincenzo per fatto personale prego prego esponga il fatto personale il fatto personale è molto semplice non mi si deve mettere in bocca cose che non ho detto né leggere in modo strumentale cose che sono siete chiarissime perché se uno scrive che la maggioranza di destra consigliere andiamo per ordine così una volta lo catalogiamo più ordine così ho un fatto personale sì no mi dica se può esporre qual è il contenuto del fatto personale dopodiché posso? sì se mi lascio concludere concludo se l'assessore legge una cosa e poi la interpreta strumentalmente falsificando le cose che uno ha scritto nessuno ha detto che loro sono contrari a quello che ho espresso dopo io ho detto che sono stati contrari all'inserimento all'ordine del giorno ed è una verità non mi si accusi in quest'aula di dire falsità assessore sia chiaro rispettare il regolamento l'ho già detto prima per il caso del capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri il consigliere che si sente adebitato di affermazioni non vere sulla sua persona di fatti personali che in realtà non ha commesso deve prima esporre no lo sa lei mi insegna deve prima esporre il fatto personale la presidenza dell'assemblea legislativa del consiglio dell'assemblea legislativa se ritiene che il fatto sussiste concede i tre minuti se andiamo senza soluzione di continuità non è più fatto personale ma è una dichiarazione diciamo così libera in qualche modo legittima ma certamente non rispettiamo quello che è catalogabile come fatto personale quindi dopo Ruggeri anche lei per il futuro ti chiede il fatto personale espone diciamo in maniera molto chiara qual è il fatto personale il sottoscritto se lo ritiene concede poi allo stesso tre minuti per esporre diciamo la sua situazione e fare la dichiarazione che ritiene più opportuna dopodiché concede se lo ritiene di fare a chi è chiamato in causa altri tre minuti per replicare come faccio in questo momento nei confronti dell'assessore Saltamartini se vuole replicare all'intervento per fatto personale del consigliere Antonio Mastrovincenzo ha tre minuti non di più di tempo per replicare sul fatto personale senza andare oltre se lo vuole fare ha chiesto la parola tre minuti da questo momento Presidente io non devo fare nessuna polemica a me va bene quello che ha detto il Presidente Mastrovincenzo se diciamo così non voleva dire esattamente quello che ho capito non c'è nessun problema esiste la possibilità di chiedere scusa se io ho eccesso o ecceduto nella mia interlocuzione però ritengo che ci sia quando parliamo di fragilità penso che c'è tutta la l'obiettivo di tutelare le persone fragili in particolare dalle persone disabili quindi voglio concludere questo mio intervento per dire che le persone con disabilità saranno le prime ad essere vaccinate secondo il programma grazie grazie l'intervento dell'assessore conclude la fase della successiva alla chiusura della discussione nel senso dell'articolo 63 apriamo adesso le dichiarazioni di voto quindi chi vuole esprimere la dichiarazione di voto per il gruppo può prenotarsi consigliere Antonio Vincenzo prego ovviamente voteremo favorevolmente a questa mozione che ricordo nei contenuti era di fatto approvata non la mozione stessa ma i contenuti erano approvati il 9 novembre scorso in una nostra interrogazione l'assessore Santa Martini condivideva l'attenzione che andava riposto alle visite parenti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie nell'RSA quindi oggettivamente siamo andati anche nella scia di quello che condivideva l'assessore in quella sede detto questo ribadisco anche l'assessore ha detto poco fa la vostra attenzione massima e tenete particolarmente alla salute delle persone anziane oltre che delle persone disabili ovviamente come tutti noi però è evidente che c'è un grosso vulnus sul piano delle vaccinazioni perché ribadisco il dato che è alquanto sconcertante 145 ospiti dell'RSA vaccinati finora su quasi 15.000 vaccinati nella nostra regione in più ci sono tante altre persone che magari non avevano diritto di essere vaccinate sono state vaccinate su questo forse dovrete fare grazie consigliere Mastro Vincenzo ha chiesto di parlare la consigliere Leonardi prego grazie siamo in dichiarazione di voto quindi dichiaro il voto contrario alla mozione da parte di Fratelli d'Italia mi sembra che le motivazioni siano state molto ben espresse dall'assessore Saltamartini non c'è volontà di prestarsi una strumentalizzazione c'è la piena e massima attenzione di questa amministrazione dell'assessore della giunta tutta alle fragilità è stato messo in piedi un servizio di screening di massa che sta avendo un importante risultato a seguire oltre al vaccino che è partito già per quelle che sono le categorie secondo il ministero e secondo ovviamente anche le nostre sensibilità si partirà anche successivamente allo screening al tampone di massa siamo una delle prime regioni anche per il vaccino quindi i risultati dello sforzo messo in campo si stanno vedendo e quindi mozioni che hanno l'intento di aizzare delle giuste legittime richieste di familiari cercando di mettere in una condizione di approccio negativo nei confronti di questa amministrazione credo che non vadano nell'interesse delle persone fragili non vadano nell'interesse di superare un momento che è critico e difficile per tutti quanti quindi andrebbe portata avanti una collaborazione non cercare sempre paternità su situazioni che poi l'ha dimostrato anche l'assessore erano già rese pubbliche ed evidenti come una giusta e naturale attenzione che non è mancata mai non mancherà mai da parte di questa componente politica verso le componenti più fragili grazie consigliere ha chiesto di parlare il consigliere Renzo Marinelli sì grazie presidente no è solo per confermare il voto contrario alla mozione vorrei solo fare qualche considerazione visto che sembra che prima funzionava tutto bene io ho avuto l'esperienza nella mia casa di riposo comune di Castelra e Mondo che ho dovuto scrivere per ben sette volte alla direzione dell'Asul affinché fossero venuti a fare dei tamponi mi hanno detto che non dovevo fare le richieste sono stato insultato pesantemente perché io il sabato pomeriggio avevo contattato il direttore d'aria vasta 3 dottor Maccioni dicendomi che l'avevo disturbato il sabato pomeriggio quando lui era a casa con la sua famiglia e le persone morivano nella mia casa di riposo non sono venuti a fare i tamponi non ci hanno mandato gli infermieri non ci hanno mandato i medici in un primo momento sono arrivati dopo quando è arrivata la televisione allora dopo si sono mossi cioè ho subito degli insulti e delle cose inaudite mentre le persone si contagiavano e nessuno ci veniva a dare una mano nessuno ci ascoltava mi ha rimproverato che gli avevo mandato un'email la domenica alle 12.46 come ti permetti di mandarmi un'email la domenica alle 12.46 se questo era il modo di comportarsi io ringrazio l'assessore Saltamartini per la volontà lo possiamo chiamare dalle 4 del mattino fino a mezzanotte risponde sicuramente non dirà mai che l'ho disturbato perché era a casa con la sua famiglia quindi lasciamo perdere per quanto riguarda l'ingresso alle case di riposo sicuramente dobbiamo stare molto attenti perché da noi quella volta uno che è tornato dall'ospedale che c'era stato certificato che era negativo poi un asintomatico e ha coinvolto tutti quindi su questo dico usiamo prudenza siamo attenti perché poi ci facciamo del male quindi votiamo contrari perché poi ogni struttura se può si organizza per far visitare ai familiari grazie consigliere chiesto di parlare la consigliera Jessica Marcozzi grazie presidente rivalisco il voto contrario di Forza Italia però vorrei fare una precisazione rimango veramente estrefatta sballordita dai comportamenti della minoranza e spiego anche perché quando ero in minoranza fino a qualche mese fa c'era consigliera Leonardi che annuisce che annuisce ci poteva stare l'arroganza della maggioranza alla fine noi accettavamo tutto eravamo in minoranza un'arroganza inverosimile oggi siamo in maggioranza e gli stessi atteggiamenti li hanno la minoranza allora io voglio ricordare semplicemente questo quando è scoppiata la pandemia a marzo a marzo abbiamo collaborato non c'era più maggioranza e minoranza abbiamo collaborato perché noi siamo in uno stato di emergenza una guerra sanitaria e abbiamo veramente collaborato noi della minoranza con la maggioranza ricordo questo che quando eravamo tutti a casa chiusi e quindi c'era questa emergenza quando c'era qualche problema noi della minoranza alzavamo la cornetta chiamavamo il presidente gli assessori di riferimento quando siamo ritornati in quest'aula in quest'aula non c'è stata nessuna strumentalizzazione da parte della minoranza e questo ve lo posso assicurare non abbiamo mai fatto un'interrogazione emozioni strumentali perché eravamo in emergenza oggi la oggi questa minoranza che è stata maggioranza fino a qualche mese fa utilizza interrogazioni emozioni a mio avviso strumentali mi dispiace ma è così io sono stata in quei banchi dell'opposizione in piena pandemia e mai mai ripeto mi sono permessa di andare a fare un'interrogazione una mozione alzavo la cornetta e parlavo con il presidente oggi allora ero minoranza e ci sta pure oggi siamo maggioranza e dobbiamo sentire la stessa arroganza se non peggio allora voi volete il bene dei marchigiani a me non sembra perché lo stesso atteggiamento collaborativo che noi della minoranza abbiamo avuto in piena pandemia lo dovreste avere voi e non fare interrogazioni emozioni strumentali anche perché dopo lo dico come sono messo io l'ultima votazione non ci sono altri interventi grazie non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la mozione apriamo la votazione chiusa la votazione favorevoli favorevoli sette contrari diciassette astenuti tre la mozione è rispinta adesso passiamo al punto successivo la mozione numero ventis no prima di essere rinviata ci deve essere la richiesta di rinvio la votazione allora la parola al capogruppo del PD Maurizio Mangialati grazie presidente se c'è la richiesta di rinvio della mozione ventisette grazie rinvio o non rinvio mettiamo in votazione il rinvio della mozione ventisette chiedo di aprire la votazione chiusura chiusura della votazione favorevoli ventiquattro contrari due astenuti nessuno il rinvio della mozione numero ventisette approvato si conclude qui i lavori della seduta del consiglio dell'assemblea legislativa odierna grazie a tutti per la collaborazione buona serata grazie a tutti grazie a tutti